questo complottismo, non esiste alcun vento del nord, questo è il punto, dai Spatalino, vai, Spatalino su Meloni, Spatalino su Meloni, vai E non si poteva pretendere dalla Giorgia Meloni, tu cur, subito un cambio di rotta però Giorgia, io mi lamento di un fatto, il costo della benzina in alcune zone ha superato anche i 2 euro al litro, qui non si può più circolare Giorgia, è una vergogna, queste maledette accise sulla benzina, al di là degli speculatori, ma è anche colpa vostra, del governo, questo però non è che a tutti i torti, perché nel passato sia Salvini che la Meloni hanno fatto campagne elettorali e hanno picchiato duro sulle accise della benzina, sui costi della benzina, una vergogna eccetera eccetera e per adesso non hanno fatto una mazza, diciamo la verità, questo è il punto, ancora Spatalino sulla Meloni, vai Perché dobbiamo spendere milioni di euro per mandare armi in Ucraina, vedrete poi quando mister Zelensky, l'attore, il comico ci presenterà il conto dopo, l'Italia si svenerà per la ricostruzione dell'Ucraina, Giorgia ti prego, Giorgia, lascia stare l'Ucraina Spatalino contro ultima generazione, bellissimo, lo sconto tra i giovani di U Giovani, i giovani di ultima generazione, poi perché ultima generazione, me lo spieghi una cosa, perché ultima generazione ma chi cazzo ti dà il diritto di rappresentare una generazione, chi cazzo sei per dire io sono il rappresentante di una generazione, no, tu che vai a imbrattare, tu che stai spiegando, rappresenti solo te stesso, non rappresenti alcuna generazione, porca la gran puttana, un gruppo che rappresenta, ognuno rappresenta se stesso, un gruppo, si sono messi insieme, un gruppo transnazionale, un gruppo che opera in diversi paesi del mondo, senti quell'altro, un gruppo transnazionale, un gruppo transnazionale, come lo vuoi chiamare, puoi andare anche ai matti finché vuoi, ma è un gruppo che nel bene o nel male cerca di portare nell'agenda politica quotidiana e grandi temi che riguardano il futuro. Avete visto? Questi altivisti di ultima generazione hanno imbrattato con della vernice gli esterni del palazzo del senato, mi faceva ridere quel carabiniere che correva dietro ai ragazzi, un edificio del genere va protetto e vorrei dire a questi valorosi ragazzi, siamo di nuova generazione, quale generazione? Io mi vergogno che in Italia ci possano essere ragazzi che si comportano in questa maniera. Ha ragione Spadalo, io insisterei su Spadalo perché questa sera è impeccabile, questa sera è impeccabile, è impeccabile. Tu sei semplicemente uno Spadalino che ce l'ha fatta, tu sei uno Spadalino che ce l'ha fatta. Poi parleremo di chi ti ha pagato le vacanze, di chi ti ha pagato le vacanze. Io me le sono pagate, io me le sono pagate, di tasca mia, di tasca mia, qualcuno che mi paga le vacanze. Ma pensate, ma io ti dico, è già pronto l'avvocato? È già lì, è lì col tasto, è pronto. Vedremo, chi ha pagato le vacanze a Parenzo? Io me le sono pagate, è criminale di un criminale. Medio orientale, in paesi... Ma certo, l'ho detto, sono stati in Oman, da Abu Dhabi, a Dubai. Chi ha pagato queste lussuote vacanze? Ma neanche lussuoso, me le sono pagate io di tasca mia, euro su euro. Io l'avrei presi a randellate in testa, farei passare loro la voglia di comportarsi in quella maniera. Siamo della nuova generazione, vergognatevi che dovete ringraziare di avere a che fare con uno stato debole, che non sa reagire. Ha ragione. Devo dire che è impeccabile, stasera Spadalino, facciamo un applauso per favore a Spadalo. Facciamo un applauso a Spadalo, bravissimo Spadalo, devo dire bravissimo, stavolta è impeccabile. Non c'è una parola fuori posto questa sera. È un povero, è un Cruciane che non ce l'ha fatta, ma al di là di questo... Perché? Perché gli argomenti idioti sono gli stessi. Posso dire una cosa? Anche a me hanno colpito quelle immagini che ho visto di quel carabiniere che inerme di fronte a un signore, a un ragazzo che imbrattava, imbrattava il Senato, imbrattava il Senato, stava lì, tu dici, non parlo degli ultra, non ho parlato degli ultra, non ho parlato degli ultra. A parte che non hai voluto parlare degli ultra, di Roma e di Napoli, di quegli scontri vergognosi di appuntamento dell'autoclino, insomma, tutte cose che sapete, ma di quei violenti non parli. Qui un gruppo di ragazzi con vernice lavabile li state descrivendo come fossero gli assassini di Moro. Cioè, state trattando questi ragazzi che hanno compiuto, per carità, una cosa probabilmente inutile, ma che non ha fatto danno a nessuno, perché non c'è un danno. quel carabiniere che non faceva nulla, che assisteva. La vernice lavabile, dov'è il danno? Ma dov'è il danno? L'istate descrivendo come se avessero ucciso Aldo Moro. È una vergogna. Fermo là. Sono in astinenza da Zanzara. Quando tornate, allora... Strade in diretta Non c'è nessun attacco. Nessuno sta attacca. C'è proprio un volantino. Famiglia sotto attacco. Ha chiamato Naf da Padova, però prima di Naf da Padova voglio farti ascoltare quello che ha detto il signor Spadalino, che magari poi proviamo a chiamare, perché il signor Spadalino ha detto delle cose molto gravi, molto molto gravi, molto molto gravi. Sentiamo, vai. Spadalino credo sulla questione cospito. Vai, vai. Perché avrebbero rivelato cose che non si dovevano dire? Io sono stufo di quest'assurda burocrazia. Certe cose vanno dette e mi devo sorbire certi tipi strani. Un nome su tutti. Chi? La Simona Malpezzi. La vedevo l'altro giorno. Ma perché c'è la figlia con la Malpezzi? Sentiamo. Non l'ho capito. Gentile signora Malpezzi, la invito con il massimo rispetto a curare di più il suo aspetto estetico. Che te ne frega te ne frega te ne frega. Che non è che io sia bello, ma la Malpezzi è un po' bruttina, dai. Ma che se mi permette? Perdonatemi l'ardire. Una cosa pazzesca. Come si permette di insultare la gente così? Pronto? Pronto? Ti segnalo questa cosa. Non avverrà mai. Questo può essere. Chiediamo Spadalino, va. Sentiamo perché... Giusto per alzare il livello della discussione. Giusto per alzare il livello della discussione. Pronto? Enzo? Giuseppe? Come stai innanzitutto? Ciao Giuseppe. Non avevo questo numero. Non era il tuo. Ah, scusa. È abbastanza bene. Un po' stanco ma teniamo botta, dai. Meno male, avanti tutta, mi raccomando. Mai mollare. Senti, volevo una tua parere molto dettagliato sulla vicenda di Cospito. Che pensi di Cospito, dell'anarchico? Questo Cospito. Dimmi, dimmi. Se fai stare zitto quel provocatore, ti rispondo. Dimmi, dimmi. Altrimenti attacco. Dimmi, dimmi subito. Ecco, ti apparenzo di avere la gentilezza, la cortesia e stare in silenzio. Vabbè, in silenzio. Adesso non esageriamo. Comunque, vai, 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 parti. Tu Cospito. Alfredo Cospito è uno che, te lo raccomando, è chiuso che sia a 41 bis. Sì. La sinistra ormai è alle comiche finali, cosa vuoi. Poi ti raccomando, anche la vostra amica, la bellissima del PD, la Simone Malpezzi. È che ha fatto? Invece di curare meglio l'aspetto estetico, l'esercito a cambiare delle esternazioni del tutto gratuito. Ma cosa c'entra? Ma come ti permetti? Ma guardati tu che faccia da cazzo che hai. Ma che vuol dire? È un pezzo di merda, vedi? Ecco, come al solito. Ma che vuol dire? Ma come ti permetti di parlare così della Malpezzi? Ma come ti permetti? Ma poi da che pulpito? Ma da che pulpito? Ma cosa parli? Ma sei tu che hai parlato dell'aspetto fisico di una deputata? Stupido botolo grasso, tascabile sudato! Sei un coglione! Stupido botolo grasso sudato! Stupido botolo grasso sudato! Super faccia da cazzo! Ma di che parli? Non avessi appusire gli altri stessi della stazione di Milano raccomandato di ferro! Però scusami, giù un attimo, giù un attimo, giù un attimo, giù un attimo, scusami, no, però scusami Enzo, 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 fermati! Perché hai attaccato l'aspetto estetico? Un coglionato! Perché hai attaccato la... Giù un attimo anche tu Enzo, perché hai attaccato l'aspetto estetico della Malpezzi? Che c'entra? Giustamente è uno, reagisce, no? È o no? Ma cosa ho detto di tanto grave? Ma perché hai parlato dell'aspetto estetico della Malpezzi? È il bupone, è il tumore italiano, la buprensia... Ma perché hai parlato dell'aspetto estetico della Malpezzi? Ma rispondi, rispondi, cane rabbioso! Perché hai parlato dell'aspetto estetico? Perché hai parlato tu? Perché hai parlato tu? Ma rispondi tu, perché hai parlato della... Però hai parlato tu, però hai parlato tu... Hai parlato dell'aspetto estetico! Hai parlato tu dell'aspetto estetico della Malpezzi, Enzo! Tu hai parlato dell'aspetto estetico della signora Malpezzi che non c'entra... Ricorda al tuo amico Parenzo che hanno raggiunto lo 0,4% di share. Non ti guarda nemmeno i tuoi parenti! Ma non è vero, ma fai il 100%! Ma non è vero, ma non è vero! Il mio 3 milioni è un primo a free! Canale 570 che tu la sera... Sì, vabbè! Mi fai pena! Vabbè! Sì, scusami, scusami! Ma perché hai parlato dell'aspetto fisico della Malpezzi tu? Perché? Perché a me quella donna non piace... E beh, chi se ne frega! E allora, chi se ne frega! Mentre tu sei una faccia da cazzo, ma non è che te lo dico! Però tu anche sei una faccia da cazzo, ma io mica te lo dico! Però, scusami, io non mi permetto di dirti che sei una faccia da cazzo, eppure lo sei! No, scusami! Sì, però scusami, io... Torniamo ai contenuti, torniamo ai contenuti! Io non è che mi permetto di dire che sei una faccia da cazzo, basso, grasso e sudato! Non te l'ho mai detto! Non è che ti dico che tu... Però, scusa, se parliamo di cospito, parliamo di cospito! Se tu ti metti ad attaccare l'aspetto fisico della Malpezzi, io non vengo a dire a te che sei una faccia da cazzo, basso, grasso, sudato e che puzzi pure! E che puzzi pure! Non te lo vengo a dire! Che puzzi pure! Non te lo verrei mai a dire che puzzi! Puzzi! Non te lo dico che puzzi! Voglio parlare di quello che tu dici! Non te lo vengo a dire che puzzi! Puzzi come una capra! Puzzi! Puzzi come una stalla! Ti chiamano stalla a te! Ti chiamano stalla! Quando esci dal tuo studio televisivo è andata via la stalla, dicono! È andata via la stalla! La stalla! Allora, giù un attimo a tutti e due! Allora, vi voglio dire un attimo una cosa a Enzo Spatadino, che è questa! Tu hai... Continui a dire che le donne italiane non devono avvicinarsi agli islamici! Sei un po' fissato su questa cosa! Ma ho mandato di ferro! Vabbè, questo l'abbiamo capito! Parliamo di salute per 20 secondi! Il dramma che si è vissuto oggi da parte del signor Spatalino Il grande dramma, il suo editore non l'ha mandato in onda perché stavano tutti a Sanremo Censurato Spatalino ha pubblicato su YouTube e YouTube gli ha tolto Questo è molto grave, questo che è successo È molto grave quello che è successo Spatalino fa rima con cretino Intanto Spatalino fa rima con cretino Spatalino è un grande, posso dirti? È un grande, è un grande protagonista, è un grande personaggio Secondo me dovrebbe avere molto più spazio di quello che è Un grande cantore di questi tempi Un grande cantore di questo tempo È una betoniera, è una betoniera, non è un cantore, è una betoniera Vergognati! Vergognati! Sempre vergognati! Sempre vergognati! Vertici Rai, consiglio d'amministrazione Perché? Che cosa hanno fatto? Amadeus! Uno dei principali responsabili Di cosa? Amadeus! Vergognati! Ma di che cosa, poveretto Amadeus? Ti ho trovato straordinario Vergognati! Amadeus fa il 56% Sei corresponsabile Di cosa? Di questo schifo Quale? Italiano! Ah! Ma se ha vinto la destra, quale è la responsabilità? Sì, sì, sì Vorrei sapere i meriti di Amadeus Noi tuoi vorremmo sapere Solo perché è di sinistra È ammanigliato dappertutto Ma non è mageo Non c'è niente da fare A volte mi chiedo Eh Ma abbiamo vinto noi le elezioni del centro-destra? Oppure a noi? O sono ancora i compagnucci rossi comunisti Che comandano? Ma qui sono fatte? Ma dove comandano? Vorrei dire Cosa? A certi personaggi Qualcosa di particolare Ma non posso Perché? C'è la censura Ma tu ve la censura C'è il cazzo che ti pare Dalla mattina alla sera Puoi essere la figlia Con il suo editore Meravigliosa Senti E guardate Sanremo Io lo voglio ospitare Ti giuro E perché no? Giovanni Stoppa Va a Sanremo Chi è? Certo Vanno tutti a Sanremo Certo Per intervistare Cosa intervistate a fare? Ma perché tu sei un coglione E' bello che mi blocco la mia trasmissione Cosa? Cioè Aspetta un attimo La notizia è che l'editore di Spaternino Si è rotto il cazzo di questa betoniera Di questa emorroide L'hanno pisciato L'hanno pisciato Per andare giustamente A intervistare le vere star E non quella betoniera E non quel bus Quindi ottimo l'editore L'editore di Spaternino Sta dimostrando invece Di essere una persona Moralmente retta Bene Allora posso dire una cosa Veramente Il capo di Allora Io voglio fare un applauso qui A una persona che è stata Censurata da Youtube Nel suo ultimo video Che è Enzo Spadalino Applausi Applausi Che fariva un cretino Applausi Che fariva infatti un cretino Qui abbiamo in diretta Enzo Spadalino Anche l'editore Non lo sopporta più Anche il suo editore Lo ha pisciato Come si dice a Roma Pure il suo editore Se l'è cagato Via E' andato giustamente A San Nero Pure il tuo editore Non ti vuole più Pure lui Non ti vuole più Giù un attimo Giù un attimo Che è successo Che è successo E' vero che il tuo editore Non ti ha fatto trasmettere La trasmissione No No Nulla di tutto questo L'hai detto tu L'hai detto tu L'hai detto tu L'hai detto tu Però prima che mi dimentichi Sì Fate andato via Comunica A Topo Gigio Alias Barenzo Il dottor Cairo Mi ha contattato ieri E mi ha proposto Di sostituire Topo Gigio Barenzo Siccome hanno Uno share di ascolto Che non supera Lo 0,0001 Mi ha detto Se posso andare A sostituirlo Per aumentare Lo share d'ascolto Ci sto pensando Questa è la notizia Della giornata E' probabile La costituzione Di Topo Gigio Barenzo Con Enzo Spatalino E' probabile Lo chiameranno Il guano Il programma Come la cacca di bici Il guano Lo chiameranno Hai le ore contate Barenzo Hai le ore contate Tu hai le ore contate Scusami Enzo Ti auguro il meglio Posso dire una cosa Posso fare un annuncio qua Ho intenzione Di contrattualizzare Se lui sarà d'accordo Barenzo sicuramente Non è d'accordo Mi vuole mandare A fare in culo Sicuramente Ho intenzione Di contrattualizzare Enzo Spatalino Alla Zanzara Ho intenzione Di prendere Enzo Spatalino Alla Zanzara Vai a spiegarlo a Barisoni Vai a spiegarlo No io lo spiegherò Io lo spiegherò Perché è un grande Combattente È un grande combattente Ma è il guano È il guano È il guano È il guano Così L'otterromedio È più da vicino Con Topo Gigio Parenzo Il guano È il guano È il guano Però scusami un attimo La lascia perdere Cairo Adesso Però scusami un attimo Tu ce l'hai molto Con quello che sta succedendo A Sanremo Te la sei presa Soprattutto con Signora Amadeus Una cosa molto Molto grave Questa qua Sei incazzato nero Col festival della sinistra Giusto? Ma io non Direi Sanremo Questo Io l'ho definito L'ho chiamato Il festival dell'unità Beh Ci sono spizzarriti Tutti i compagnucci Capitanati Da quel signore Amadeus Eh Pagato A peso d'oro Beh sì certo Il direttore artistico Scusa Secondo te È Spatalino Che critica Amadeus Secondo te È normale David Rispondi un attimo A Spatalino 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 Vedi 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 Un programma Che ha fatto Il 60% Che è visto Da 10 milioni Di italiani È paragonato A un guano A un botolo A un botolo Basso Grasso Sudato Tascabile Inesistente Puzzolente Che esiste solo Che esiste solo Perché Cucciari Tanto manda in onda Le sue personas Abbandonato Pure dal suo editore Abbandonato Pure Perché Giustamente Va a Sanremo Abbandonato Pure dal suo editore Beh io voglio dire Io voglio dire Che quest'uomo Quest'uomo Fatto guano Quest'uomo Fatto guano Quest'uomo Fatto guano Che critica Sanremo Programma Che fa 60% Cioè lui Lui Spatalino Critica Sanremo Che fa 60% Però ti raccomanderò Ma perché non gli dici Ad Amadeus Confruttati i suoi contenuti Anna Dai Farò in modo che tu Andrai a lavorare Ai certi pubblici Di Rovigo In fondo te lo meriti Dai In fondo te lo meriti Questo posto Che ne pensi Che ne pensi Dell'uscita Della signora Egonu Della signora Egonu Come diresti tu La signora Egonu Dimmelo chiaramente La Paola Egonu Sì La Paola Dovrebbe ringraziare L'Italia E Cittadella In particolare Invece di Lavarti la bocca Ma perché scusa E poi E' italiana Che devi ringraziare Tu che hai più possibilità Di farti sentire Dì a questa Intrepida Ragazza Che si togliesse Quell'affare dal naso E che senso Quell'anello Ma che te ne frega a te Mi sembra una persona Vorrei definirle In una certa maniera Ma che te ne frega a te Ma che te ne frega Ma che te ne frega Ma che te ne frega a te Di quello che uno ha al naso Scusami Ma che te ne frega a te Di quello che uno ha al naso Spadalì Ma che te ne frega Ma come posso io Usa la metafora Dell'anello al naso Siccome è una merda Razzista Usa la metafora Dell'anello al naso Quello che si usava Negli anni 30 Questa merda Basso Grasso Puzzolente Usa la metafora Dell'anello al naso Che si usava Negli anni 30 E' uno schifoso E' guano E' guano Sei guano Sei guano Sei guano Sei guano Sei puro guano Sei puro guano Sei puro guano Sei Sei un cesso alla turca Frequentato nell'ora di punta Sei solo un cesso alla turca Frequentato nell'ora di punta A volte mi fai pena Cesso alla turca di Kabul Sei un cesso alla turca Nella stazione degli autobus di Kabul Quello sei tu Anzi Tu sei un bagno alla turca Nella stazione degli autobus di Istanbul Nell'ora di punta Sei un bagno pubblico turco Ti ricordi quello che ti ho detto tempo fa Bagno pubblico turco Guardarti nel cesso e cantare Non son degno di te Hai presente la stazione degli autobus di Istanbul All'ora di punta? Hai presente la stazione degli autobus di Istanbul All'ora di punta? Tu sei il bagno All'ora di punta Non va di niente Mi sembra che il confronto In quello sei bravo Ecco In quello è certo Mi sembra che il confronto Salutami Amadeus Però resta Aspetta, fermo Resta il fatto Ma quale posta il fatto Resta il fatto Resta il fatto Che il tuo editore Ti ha lasciato senza tecnici Oggi E non hai potuto trasmettere la tua Questo è molto grave Lo voglio denunciare Questo è molto grave Lo hai denunciato anche tu Sei rimasto senza la possibilità Di trasmettere la tua trasmissione Io per questo ti ospito E questo anche tu devi denunziarlo Denunzialo chiaro e forte Nei confronti del tuo editore Ho sbaglio No, gli voglio troppo bene Ho capito Intanto ti ha lasciato Intanto ti ha accannato però Ti ha pesciato La possibilità di forza maggiore Ah, forza maggiore Il festival di Sanremo Il festival di Sanremo Le utilizzeranno a prima fritta Ma hai detto Ma hai detto Che vanno a fare a Sanremo A intervistare Lo hai detto anche tu Spadalino Lo hai detto anche tu In effetti L'ho detto e lo ripeto L'ho detto e lo ripeto Ora si caga in mano Perché altrimenti Lo lasciano a casa Ora gli si stringe Ora gli si stringe Se io vado via Da prima fritta Il giorno dopo Ho due televisioni Che mi hanno già contattato E questa è la notizia Hai capito Ma finché io ho un buon rapporto Ma quale Ma la tv dello sfintere Ti ha contattato Telesfintere A Massimo Telesfintere Ancora Mi hanno detto Che ti hanno visto Sulla neve Sei tu Telesfintere Buonasera Buonasera E con l'opinione Di Enzo Spadalino Buonasera Agli amici Di Telesfintere E ora di finire Perché così spingi Telesfintere Perché con la tua voce Che deve E il gol Telesfintere Lì devi andare L'hanno fatta per te Telesfintere E il spantellino E il gol Lui vedi come spingi Vedi come spingi La sigla è questa Perché la tua E Telesfintere Lui da TV Dove puoi lavorare Ciao 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 Enzo Ciao Enzo Ciao Ciao Pazzesco Stefano da Brescia Stefano da Brescia Cruciali Volevo intervenire Allora ragazzi Adesso ne finiamo Ma voi vi sarete chiesti Il motivo per cui C'è questo intermezzo Io voglio approfittare Diciamo della vostra C'è una cosa seria C'è il radio giornale No voglio approfittare Sì sì no Per carità Io non ho nulla contro il radio giornale Per carità di Dio No perché qua si dice una parola di troppo Il giorno dopo No no L'unica cosa bella C'è la prima La nobile C'è la mano Però Io non ho mai capito Perché noi stiamo fermi 20 Ma meno male 20 fottutissimi minuti So che a voi del podcast So che a voi del podcast Pruditori del podcast Non ce ne frega un cazzo Lo so benissimo Però io ancora non ho capito il perché Grazie Ciao È finita la trasmissione No 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 Il prossimo ospite Lo vogliamo già presentare No meglio di nuovo Il signore Marci dove sono? Dove sono? Che c'è? Eh? Eh? Portafoglio? Per vostro? Manologio? Non è scontata Non è scontata Non è scontata Il prossimo ospite Alla 19.15 Dunque tra pochissimo Ci sono ancora 31 gradi È un signore È un signore È un signore Facciamo parlare topociccio La destra Il governo Ha fatto quello che ha fatto sulla Rai Stiamo raccontando i nuovi vali sesti Uno Una trasmissione si chiamerà Un giorno in pretura Condotto dalle Marchi So che anche per lei C'è una trasmissione in Rai Al posto dell'annunzio Dopo daremo il nome Dopo darò il titolo della trasmissione Che tempo che fa? Dopo le darò il titolo Sei ebro Stasera non ebreo Sei ebro Sei eccitato Sei scordito Ma siccome lui ha Ma sei già eccitato adesso C'è tutto il cuore Io volevo solo presentarvi Enzo Spadalino 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 Ha detto A gentile Roberta Casa Spadalino fa rima con Non mi viene da rima Ah ecco Scusami Dopo dopo Adesso l'albergo È di tuo gradimento L'albergo Non l'ho ancora visto Ma sicuramente Se l'hai scelto Roberta Sarà di mio gradimento Già te sei innamorato di Roberta Ha tanta classe Una donna Da stare sicuramente Adesso non ti allargare Che una donna Frementare Tanto tu con sta panza Tu cazzo vai Scusi L'età 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 Però Anche la panza Non piace questa panza Non è possibile Nemmeno avere Qualsiasi tipo di rapporto Ma vedo Topo Ciccio Emozionato È excitato Ha postato qualcosa Stamattina mi hanno detto fuori Dice Sono imbarazzato Sapendo gli ospiti Che ci sono Siamo imbarazzati noi A stare per noi Noi Siamo noi Però c'è una cosa Che mi colpisce Nella giacca Siamo noi E la giacca Sei un personaggio Inferiore Inferiore Grazie Enzo Dopo Enzo Spadalino Mi c'è la raccoglie Siamo iniziata Fermalo Fermalo Ho una laurea Pertopo Ciccio Ho una laurea Inferiore Che è il problema L'università italiana Che ha fatto Sono laureato A Ca' Foscari E con il mio commercio Una laurea Che lui pagherete oro A Ca' Foscari A Ca' Foscari Ma chi cazzo L'hanno arrestato Il rettore Dopo che gliel'hanno data L'hanno arrestato Dopo dopo Enzo Spadalino Laureato A Ca' Foscari Grazie Grazie dopo Grazie di me Eccoci di nuovo In diretta Trento Piazza Cesare Battisti Nuova ospite Nuova ospite Già l'anno scorso No calma Calma ragazzi Vi voglio calmi Non è un ospite Vi voglio calmi Devi stare calmo Tu e deve stare calmo Lui per il momento Calmi No 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 Che faccio a stare vicino a te Puzzi Non mi sposto Stai odore Hai un jeans Che non ti lavi Da tre mesi Stai calmo Stai calmo Sei ebro Calma Sei ebro Ergognosamente Sei eccitato No no calma calma Ebro Dovete stare fermi Topo G Enzo Topo G Enzo ti caccio Calma Allora Topo G Allora femmi Topo G Oh devi stare calmo Sei famoso sai La gente mi ferma per la strada E mi chiedono il dottor Spottaglio Ma mi saluti topo G Benissimo allora calma Enzo devi stare calmo Qualcuno ti chiama personaggio inferiore Ti devo ancora presentare A Padova Non conti niente Benissimo Io l'hai detto Se non avessi le raccomandazioni Aspetta Non puliresti neanche i cessi Aspetta aspetta Di Padova Allora abbiamo con noi Abbiamo con noi Enzo Spatalina Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio io E un applauso L'abbraccio Che arriva tutto il sudore E un applauso Benissimo allora Eh già lui è pulito Si è pulito Calma 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 Perché non sei nella RAI Di centrodestra Ecco si come mai Questa è una bella domanda Perché tu che sei un conduttore televisivo Da tanti anni ormai Perché ho l'abitudine di dire Quello che penso Siccome ultimamente ho preso le distanze Dalla decisione di questo governo Capitanato da Giorgio Meloni E come mai Per la guerra Che tu sei filo Putin Eh certo Io sono contro la guerra A prescindere Topo Gigio Topo Gigio Topo Gigio Ma facciamo l'argomentare Che classe che hai Ma come argomentare Ma hai uno stile Inconfondibile Ma perché lo fai parlare Sei un unico Personaggio inferiore Ma mica sei laureato Ma perché non ti sei laureato Ma perché non ti sei laureato Ma non sei Lucio Caracciolo Perché non sei un caro Non sei Lucio Caracciolo Tu non sei niente Va bene Non sei un caro Tutto rosso Tutto rosso Giù giù Allora io Enzo Però ti stavo chiedendo Cosa non pagheresti Per una laurea Attento che cadi Attento che cadi Attento che cadi Cosa non pagheresti Per una laurea Se ti fai male qua Se ti fai male grave Se ti fai male grave I tuoi padrini Possono tanto Ti tocca pagare Ma non possono darti la laurea Ti fai male Se cadi Attento 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 Spacca la serie È troppo grosso È troppo grasso Ebro 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 Prendo Prendo il tuo microfono Questo qui Ho in mano Ho in mano Quello che serve Per pulire i gabinetti Per pulire i gabinetti Come si chiama Merdolino 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 Ti sta ancora aspettando Mauro di Mantova Ti mando Da Mantova Mauro Mauro di Mantovo Di Perché di Oda È la stessa cosa Vergognati Ci può dire anche di Mantova Però fermiamoci Mauro ti aveva messo nel cesso Da Da La faccio tua nel cesso Allora Ti devi capire un attimo Lo so che Quando No poverino Anche perché se sta male Poverino Guardami Allora Respira male Guardami un attimo Respira male Tu però Consideri Zelensky come Perché consideri Zelensky così male Come lo consideri È un attore Un attore Poi È un comico Non vale niente Detto da Spadalino Cioè un comico Non vale niente Detto da Spadalino Guardami Come fai a dire Che non vale niente Ma come posso io Eh Ah fallo girare Sì Parlare bene di Un tipo Che sta facendo morire I suoi connazionali Beh è stato in basso Da quell'altro È stato in basso È però nel 2014 Quando l'Ucraina Ma è un eroe Ha massacrato il Donbass Lì nessuno ne ha parlato Vero Chissà perché La storia ha senso unico È questo In media Adesso lui deve ringraziare Quella è la Sette Perché Perché i suoi amici No però non città è la Sette Faccio Sì La Subret L'intizzetto Quello con le gambe Che c'entra adesso Faccio la l'intizzetto I suoi amici comunisti Che c'entra Che hanno fatto Che amici comunisti Che hanno fatto Dove le hanno passate Mammaire della Rai Sì ho capito E la Lucia annunziata Eh Che è successo Un obrobrio No ma non si può dire un obrobrio Detto da lui Un obrobrio Detto da lui Detto da lui Ha questa importanza Ha questa importanza Ma ti rendi conto Però scusami Natti Adesso a parte Il vantaggio di questo governo Che si comincia A fare un po' di pulizia Beh questo è grave però Quello che dici Scusa Quello che dici Tu lo farei trent'anni C'è tu lo faresti Il programma Al posto dell'annunziata Lo faresti Sì Anziché mezz'ora Mezza merda Si chiama Anziché mezz'ora Mezza merda Si chiama Anziché mezz'ora Io chiamerei te Anzi sai come si chiama Merda intera Merda intera Hanno allungato il programma Hanno allungato il programma Da mezz'ora A mezza intera Da mezza merda A mezza intera Da mezz'ora Adosso agli anziani Io non meno gli anziani Io non piccio gli anziani Non posso Non posso picchiare gli anziani Non posso picchiare gli anziani Non posso Non posso Non posso farti male Non posso 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 farti male Non posso Se non avessi I tuoi protettori Non posso Se tu non avessi I tuoi padrini Non andresti neanche a pulire i cessi eccolo qua allora io voglio dire una cosa ma perché si rende così ridicolo poverino ma perché si rende ridicolo non ebreo sei ebro ti volevo far parlare di una cosa la questione del trans picchiato dalla polizia municipale il trans hai visto la cosa del trans picchiato dalla polizia municipale agli agenti della polizia locale perché la storia l'hanno scritta le arresteranno è finita per la polizia locale sputato addosso agli agenti allora ti invito stasera ti mando un link che ti convincerà quello che è accaduto stanno arrivando stanno arrivando a prenderti stanno arrivando grazie piante d'oggi questo è la sanità è l'ambulanza secondo te l'ha fatto bene con certi personaggi ultimi minuti non c'è altra maniera esatto non c'è altra maniera con certi personaggi ma chi aveva fatto quella non c'è altra maniera chi aveva fatto quella signora trans Bruna a te osceni davanti ai bambini ma tu sei l'altosceno tu sei l'altosceno parla con me parla con me parla con me adesso ti chiamerò Topo Gigio Ebro il nuovo nome mi ha detto un ragazzo a tavola guarda la faccia delle persone Ebro guardale mi stanno guardando mi dispiace per te non posso infierire sei schietato è citato guardali ma io no aspetto un confronto sono quattro anni vergognati ma non mi posso confrontare con la raccolta differenziata sei una merda non posso confrontarmi non posso scusa Mienzo siamo calmi siamo calmi tu sei troppo agitato stasera che c'hai ti sei agitato subito il viaggio quando vedo questo Ebro non capisco più niente eh appunto non hai capito più niente sei andato in paranoia poi il cuore è un problema no io resisto resisto tranquillo non vorrei che ti succedesse qualcosa qui sarebbe un problema per tutti soprattutto per te mi sfogo tutti i giorni non ti preoccupare poi di fronte a un personaggio inferiore come lui infatti non può accadere non vale un cazzo è una vergogna di giornalai italiani qualcuno parla di sostituzione etnica qualcuno al governo sta avvenendo questa sostituzione etnica secondo te? fra un trent'anni eh secondo me l'Italia rischierà di scomparire ma no con questo andazzo lo dicono quelli di ultima degenerazione questo che l'Italia scomparirà però per altri motivi io non ho niente a che vedere con quelli di ultima generazione che andassero a lavorare attenzione sì brevissimo qui continuano ad arrivare stranieri ma meno male senza regolare ma meno male perché ti sostituiranno no non me ma perché che sostituzione si avrà tutti islamici saranno tutti islamici di colore fra islamici fra personaggi di colore ma che te ne fai fra balcani di colore a me no a me no l'importante è che sia persona onesta prima al bar c'era un ragazzo di colore ho apprezzato quello come lavorava persona onesta io e quella gente che voglio non quelli che vengono in Italia che ti chiami sacchetti a perdere sacchetti a perdere bravo lo dici tu lo dici lo dico io lo dico io ecco qualche volta succede che si sposano c'è gente che gli manda i messaggi ai suggeritori ai suggeritori ma hanno scritto quello sta male sta per morire quello sta male fammi vedere fammi vedere pezzo di merda no 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 calma calma hai le mani sudate non vorrei che hai le mani sudate perché la sostituzione etnica secondo te perché che cosa sta succedendo cioè per esempio ci sono sempre più matrimoni misti no? matrimoni misti a te non piacciono i matrimoni misti giusto? due persone si vogliono bene d'accordo però tu dici il matrimonio tra un islamico un italiano non può funzionare no è matematico ma come fai a dirlo? prima o poi la donna si sveglia dal torpore eh che vuole fare? ed è troppo tardi ma è veramente un coglione in che senso? scusa non l'ho capito la donna italiana ah si sveglia quando si sveglia e perché si innamora di un diciamo di un extra comunitario e troverà qualcosa di particolare il diverso il diverso però quando se ne accorgi un po' più belli di te sono sicuramente sì un po' più belli di te sì ma infatti ma infatti non noto la tua eleganza un po' più belli di te sono l'hanno scorzeri elegante va bene facemi vedere lo scarpino sei un pezzente ma perché perché tu dici che non può funzionare questo matrimonio? è un po' sopra le righe però no? perché sentimi ma è solare la stazione abbiamo un po' la porta perché c'è veramente cattivo odore scusami ci sono mentalità differenti ma come fai a non capirlo? ma no dimmelo tu dimmelo non può funzionare tu dici il matrimonio non può funzionare al 99% non può funzionare un'altra educazione altri usi altre abitudini ma scusami ma non ti vergogni di dire una cosa è pieno è pieno di famiglie è pieno di famiglie vergogna è pieno di famiglie sai che sei veramente una persona schifosa sai perché sei una persona schifosa perché stai insultando migliaia di famiglie tu ti devi vergognare su questo io non scherzo perché stai dicendo sei veramente una persona schifosa cosa non farei è pieno di bambini è pieno è pieno di bambini è pieno di bambini raccomandato di fai natica matrimonio misto no fammi non deve aver paura l'altra sera sono stato io non metto le mani addosso nessuno l'altra sera sono stato con Ferdinando Polegato è pieno ti saluta Ferdinando Polegato va bene va bene è pieno è pieno di coppie Ferdinando Polegato anche io lo saluto molto ecco è saluto lei fai bene perché ma perché li chiami perché li chiami sacchetti a perdere perché li chiami ma chi 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 non serve alla società quelli che vengono a delinquere ma non si non si può dire gente che non serve alla società tu taglieresti le mani tu taglieresti anche le mani io sai cosa sto facendo io ma gliela do una sberla o no sai gliela do la novità gliela do una sberla no 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 dimmi che cosa dimmi che gliela do no 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 gliela do una sberla grazie grazie Enzo Sfatalino gliela do Enzo di merda gliela do alla novità grazie grazie vai regia vai regia vai regia e ora definiamola Buonasera gentili telespettatori di Prima Frida Internet ben ritrovati di cuore anche oggi con La Voce d'Italia la nostra rubrica giornaliera di servizio di contatto di comunicazione di approfondimento e di tanta e di buona compagnia giovedì 8 giugno 2023 siamo ancora nel segno zodiacale dei gemelli dai con frate indovino prima eccolo qua San Medardo Vescovo auguri agli interessati bene è arrivato il momento di presentare gli ospiti abbiamo messo in mezzo un noto ristoratore Ferdinando Polegato di Sequals Buonasera a tutti Ciao Ferdinando Buonasera a tutti Buonasera a tutti grazie per aver citato il nostro invito grazie a voi l'avvocato Francesco Ribetti di Pordenone titolare di uno studio commerciale sempre in quel di Pordenone Buonasera Buonasera a lei tutti i tre spettatori no diamoci del tuo dai diamoci del tuo grazie Enzo per la cortesigenza io sono abituato a dare ciao a tutti quanti tono confidenziale allora perché Ferdinando Polegato è qui questa sera innanzitutto per evidenziare la sua struttura che si trova a Sequals in provincia di Pordenone esattamente ha preso il nome dalla sua dolce moglie ristorante Teodora la moglie si chiama Teodora Foscato mi dicono che è un po' una reginetta della cucina tu non ci metti mano lei governa la cucina 51 anni che cucina 51 anni che cucina con grandi successi sempre allora dove si trova il tuo ambiente a Sequals facciamo un po' di pubblicità alla tua attività tu non ne hai bisogno perché sei conosciutissimo in Italia all'estero mi conoscono tutti specialmente la destra perché i fascisti mi conoscono tutti un ambiente un po' particolare noi abbiamo sulla porta vietato l'accesso ai comunisti dunque esatto anche nei bigliettini da visita meno vengono quella gente là meglio è perché sono sempre incazzati non ho mai visto un comunista allegro ma perché sono sempre arrabbiati che ne so vengono mantenuti gli danno i soldi non lavorano sono un po' e sono sempre tristi noi che ci facciamo un mazzo tanto siamo sempre allegri ridiamo sempre e accettiamo questa è la situazione siamo proprio diversi non abbiamo niente da spartire con quella gente sei esplicito nelle tue cose certo noi le mandiamo a dire assolutamente a prezzo di te la tua coerenza abbiamo in comune la coerenza noi è difficile che si possa cambiare bandiera non c'è prezzo è possibile orgogliosi di essere fascisti io sono orgoglioso di essere fascista mi raccomando potete dire qualsiasi cosa certo rispettare gli ospiti perché all'ascolto ci sarà gente che si rivede nella tua posizione ci sono altri che non si rivedono sicuramente potete domandare all'ospite perché di questo avviso abbiamo degli esempi adesso i nostri amici romagnoli perché io voglio bene la Romagna gente allegra mi ricordo le ballere degli anni 70 si andava a ballare a cantare gente che veramente però hanno un difetto e io inviterei i nostri amici romagnoli emiliani a prendere non avete mai visto un vostro non so anche Bottaccini oppure non so qualche sindacalista o qualche cooperativa che si è dimmizzata lo stipendio è venuta a dire visto che abbiamo avuto una calamità mezzo stipendio lo do in donazione a voi non esistono non esistono sono tirchi sono proprio gente ma avete tre voi siete anni e anni che viaggiate con tre tessere in tasca la tessera del partito democratico prima era comunista la tessera del sindacato e la tessera della cooperativa consegnatele date dal partito basta vi hanno rovinato vi hanno messo in ginocchio romagnoli sveglia amministrazioni sono sempre state amministrazioni di sinistra vi hanno messo in ginocchio non poteva succedere una roba del genere Bottaccini è stato il peggiore ma tutti quanti un massacro vi hanno fatto consegnatele tessere del sindacato consegnatele tessere delle copp che senza le copp ha visto cosa delle copp hanno fatto i muraglioni per dividere i fiumi hai visto un po' di terra e sopra la strada hanno portato via tutti ma questi veramente vi rendete conto vi rendete conto di come vi hanno ridotto questa gente qua tutti uomini che voi a voi avete dato fiducia lo so che senza la tessera della cooperativa non potete lavorare senza il sindacato non potete lavorare e senza il partito non vi danno la possibilità di lavorare basta vi hanno rovinato questo è il mio avviso mi assumo io la responsabilità di quello che dico Francesco tu sei qui anche in veste di moderatore io ti ho voluto diciamo che moderare Ferdinando è molto difficile è un cliente dello studio di oribetti mi ha sempre fatto assolvere dunque a parte quello è un amico ormai siamo di famiglia con Ferdinando con Dorina però diciamo il bello di Ferdinando è forse il suo tratto un po' caratteristico e peculiare è come ha detto prima lui ha le sue idee va avanti per la sua strada come tu dicevi prima non scendiamo compromessi lui ha le sue idee sicuramente non scendiamo compromessi e poi si assume sempre responsabilità di quello che dice delle volte dico la verità devo un attimo cercare di tenerlo di tenerlo un po' perché va a ruota libera bisogna capire allora anche io tante volte rischio andando a ruota libera perché c'è un'altra rubrichetta all'opinione di Giorgio Spaglino dico cose particolari bastava guardare la televisione bastava guardare la televisione sono rimasti in piedi tre ponti sono stati fatti nel ventennio e il resto è andato giù tutto io dico signori come è vero esistono i ponti i ponti che è andato il Duce sono ancora ai piedi e quelli che abbiamo fatto le vostre cooperative cari romagnoli sono andati su a tutti quanti li abbiamo portati al mare sì sì beh ma è la verità insomma senti io prima di aprire c'entra lì ecco grazie regia bravo bravo volevo far conoscere un po' l'ambiente questi sono gli esterni del locale di Polegato Teodora il ristorante Teodora il mosaico di Carnera primo Carnera c'è una parete perché è cugino di mia moglie primo Carnera addirittura primo Carnera primo Carnera campione del mondo dei massimi l'unico ancora e lo conoscono molto bene anche a Napoli perché a Napoli c'è una palestra ancora dedicata a primo Carnera non lo sapevo c'è sempre tempo per imparare ecco non so se la regia mi farà anche il regalo di farvi vedere eccolo qua eccolo qua c'è questo ecco l'audio no ma com'è la foto eh questa è una foto perché chiedo all'avvocato attenzione perché io sì sì mi muovo con i piedi di piombo perché l'editore si è raccomandato noi non rispondiamo di quello che dice Polegato assolutamente sono loro che si prendono la responsabilità ma per forza perché anch'io ho altri problemi qui ce ne sono bellissime bottiglie il locale chiedo scusa il locale di Terminano è un locale proprio caratteristico dove lui non non nasconde le sue idee le sue ideologie è il suo tratto distintivo c'è un locale molto storico attenzione sì non vorrei passasse il facile la facile idea che è un locale solo dove si ricorda è un locale storico è un locale è un locale dove viene rivissuta la storia d'Italia nel periodo della nostra storia lui si percorre quella che è stata la storia d'Italia in un periodo che lui ritiene essere un periodo molto molto importante questo ad esempio il tiramidux il tiramidux il tiramidux lo fa sempre Teodora eh sì tutto Teodora tutto Teodora ha le mani d'oro la pasta fatta in casa i gnocchi la pasta allora ti vengo a trovare allora venga vedrà che non verrò a trovarti un attimino un sabato una domenica a mezzogiorno e io sono un pastaciutaro quali sono i primi forti un risotto il risotto è fantastico con tutte le erbe il risottaro penso che non lo mangia meglio di noi no volevo dire una cosa noi andiamo a Predappio per il 29 luglio che compie gli anni Benito Mussolini se ne ricordiamo e abbiamo già preso contatti e venderemo il quinta edizione dell'anno dell'amaro del Duce che noi abbiamo amaro del Duce l'amaro del Duce tutto ricavato lo diamo i romagnoli emiliani quelli che hanno avuto tutto questo c'è coinvolgeremo anche i vigili urbani di Predappio verrà tutto catalogato quello che sarà ricavato verrà dato in aiuto alle popolazioni che hanno avuto questi problemi più possiamo fare meglio è aiutare queste cose qua noi vogliamo bene la Romagna ma ragazzi come vi ho detto prima portate indietro quelle tessere lì basta dove sono i sindacati dove sono le cop dove sono che vi dare una malcosa grazie al volontariato ad andare avanti e grazie anche a un governo che adesso di destra che vi darà veramente una mano ma questa volta dovete cambiare mentalità signori cari romagnoli che vi vogliamo bene tanto noi io apprezzo di Polegato la sua coerenza da anni va avanti per la sua strada il video ecco io direi regia facciamo vedere il video così si capisce ancora di più chi è Ferdinando Polegato lo si può amare lo si può odiare però è un personaggio lui dice quello che pensa a casa sua va bene c'è il video che adesso vi faremo vedere sembra di sentire il luce dai grazie la parola d'ordine è una sola categorica e spegnativo per tutti essa già trasvola ed accende i fuori dalle Alpi all'Oceano Indiano vinceremo e vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia all'Europa al mondo è un video che si può vedere tranquillamente in rete addirittura c'è stato un servizio della televisione israeliana sono venuti da Tel Aviv a intervistarti quello non lo facciamo vedere perché non si parla italiano la gente fa fatica a capire ma cosa ti è chiesto il giornalista israeliano quando è venuto da te puoi aprire i centralini vediamo se c'è qualche curioso che ha voglia di intervenire potete dire quello che volete ma con massimo rispetto per i miei ospiti se no chiudo buonasera chiedo scusa allora io ho spiegato che noi abbiamo quel popolo ebraico anche loro sono messi forse in una situazione ancora peggio di noi io ho detto che ce l'abbiamo col sistema ebraico col sistema che loro finanziamenti tutto in mano tutti i poteri forti sono loro poi ho detto noi non abbiamo niente da invidiare con voi noi abbiamo un popolo romano che ha portato la civiltà in tutto il mondo scusa loro invece hanno preso occupato una striscia di Gaza lì occupata dai palestinesi che gliel'hanno data cosa hanno inventato gli ebrei niente a parte il business cosa hanno inventato gli italiani abbiamo inventato tutto marconi il telefono dovremmo avere dei copyright noi marconi volta ha inventato la pila tutto abbiamo inventato dimmi cosa non è stato il popolo italiano con gli ebrei non abbiamo niente poi gli ho detto che sono incazzato con loro da 2000 anni quando hanno ammazzato tu prendi fiato e noi prendiamo una una birra una telefonata buonasera c'è qualcuno segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano mi raccomando stasera regia grazie buonasera 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 prego pronto Enzo chi parla? Enzo Spasadino si la prego con chi parlo? mi chiamo Mario Mario da dove chiami? da Vinci da Vinci da Vinci Vinci sai dov'è Vinci? Vinci io ero bravo vinceremo vinceremo lo sai dov'è Vinci? Firenze Firenze in Toscana per caso Vinci a di Firenze la città di Leonardo da Vinci cavrone hai ragione da Vinci però pensavo che tu scherzassi e volessi dire Vinci Vinci la lotteria ti prego di scusarmi no Vinci Vinci questa scelta a Vinci perfetto Mario fascista veni tu a me o stai a canto fascista Ello e tu finisci a testa giù grazie grazie capito? a testa giù finisci grazie ma perché? secondo te prego prego Mario quando passi tu vedi i pegnati tu pigli da un bagniuccio Mario perché finisci a testa giù? perché non c'è spazio? perché tu sei un fascista e tu sei un fascista lo santo sono meglio senegalesi di qui senegalesi? cosa c'entrano i senegalesi? non ho capito no siccome tu chiami sempre sacchetti a perdere ah vuol dire che tu Mario sono onorato che un comunista mi segue bravo sacchetti a perdere sai è una tipologia di persone che fanno danno in Italia tu sei un muto di concio ma vedi che tavo sei tu sei 150 anni e tu sei alti un mese di venti senti Mario ma da quanto tempo Mario da quanto tempo mi segui? e non ti avvisco parla per bene parla con calma piano non ti avvisco io sto parlando con calma non chiuderlo fammi parlare un attimo con questo toscanaccio ti volevo dire da quanto tempo mi segui Mario Mario non ti seguo mai a volte ti vedo o la cacera tu hai fascistone o sti tu risaldi te lo vuoi mi segui a volte si contrappone a mai mi segui qualche volta allora caro Parenzo sta succedendo qualcosa di incredibile in una televisione incredibile non è incredibile in una televisione del Veneto in una televisione privata del Veneto che si chiama Prima Free Prima Free io mi collegherei io mi collegherei aspetta colleghiamoci innanzitutto sentiamo che stanno dicendo mi segui a volte si contrappone a mai mi segui qualche volta non puoi dire mai se mi segui qualche volta vuol dire che mi segui via ascolta oh spasadino ti saluto via va bene grazie grazie vedi questo è un ascoltatore che ha chiamato vedi poco alla volta la mia trasmissione col fatto di andare sul nazionale vado a intercettare tante attenzioni il problema sai non avere paura non tutti la pensano ma sicuramente ma vedi ma vedi la mentalità adesso per l'amor di Dio Mario io non so niente cosa vuoi avrai sue idee sue cose che noi rispettiamo che noi rispettiamo e discorso è questo vedi vanno sull'offesa non hanno altro di verrà questo è vero Mario ma cosa fai nella vita d'uomo cosa fai sei sindacalista sei dovuto da parte di una cooperativa marietto dimmelo no io sono il sindacalista di di vinci e loro di nuovo ma lo fai cosa fai tu non devi offendere io non ti offendo Mario e tu non devi offendere perché quindi se tu voi che offendete polegato sta parlando polegato insieme a Spatalino non uso il termine perché altrimenti vado troppo in me riprenderemo riprenderemo questo questo collegamento questo collegamento Alessia provincia di Napoli vai Alessia avvertitemi quando c'è qualcosa di caldo Alessia dimmi assolutamente ciao volevo dirti che io sono a favore delle telecamere come l'America non uso il termine perché altrimenti vado troppo in lato abbiamo l'avvocato purtroppo chi non la pensa come loro è contro di loro e io li attacco per questo perché sono antidemocratici sono loro i veri fascisti che impediscono alla gente di parlare Mario un po' più di attenzione e di rispetto comunque a prescindere ti ringrazio per l'attenzione che tu mi riservi sono orgoglioso mi dicono che siamo in diretta nazionale fammi salutare il mio amico Giuseppe Cruciani e tutti i zanzarosi all'ascolto forza ragazzi di che stiamo parlando aspettate un fermo fammi sentire saluto solo Cruciani per carità basta esiste solo Cruciani della Zanzara c'è una telefonata prego giusto non so se pronto buonasera sentiamo buonasera buonasera volevo salutare il direttore Spadalino sono anche un po' emozionato di parlare con lei volevo fare i complimenti volevo fare i complimenti al signor Foregato perché è un uomo che ha veramente tanto coraggio ci vuole tanto coraggio per esempio ha avuto tanto coraggio poco fa quando ha detto ce l'abbiamo col sistema ebraico ecco ci vuole veramente tanto coraggio direi che più che coraggio più che parlare di coraggio io parlerò di faccia come il culo ecco ci vuole la faccia come il culo per dire di avercela da duemila anni con gli ebrei con il sistema ebraico era una battuta con il sistema ebraico ma era una battuta non era una battuta lei è un antisemita non era una battuta non credo lei è un antisemita ho detto che non ce l'ho col popolo ebraico non ce l'ho col popolo ebraico ho detto ce l'ho col sistema quando lei parla di ebrei usurai lei si dovrebbe vergognare non ho parlato di ebrei usurai ho detto di sistema lei dovrebbe andare a sotterrarsi lei si è portato anche l'avvocato al seguito che dovrebbe dirle di tali zitto perché dovrebbe farti schifo per quello che dice ha capito? grazie molto gentile che è lei no non sono gentile scusami scusami lei è un antisemita e quell'altro personaggio di fianco a lei che dice non mi assumo responsabilità dovrebbe vergognarsi anche lui gli aver mandato un suo video dove lei fa il saluto romano lei lei che dice nei suoi nei suoi stroloqui che i banchieri e i franci domandano il mondo ma come cazzo fai? ma come fa questa trasmissione ad andare in onda? io gli chiedo l'editore l'editore come cazzo fa a mandarvi in onda? domande legittime domande credo legittime e attende a mettere le loro sponsorizzazioni in questa trasmissione senti mi dai la possibilità di dire qualcosa? spadalo scusami è tuo scusami no ti volevo dire la democrazia almeno per me va beh riprendiamo dopo riprendiamo dopo riprendiamo dopo che si senta riprendiamo dopo riprendiamo dopo che c'è Tony? che c'è Tony? lo stavano bastonando lo stavano lo stavano bastonando pezzo di merda l'hai smesso di fare i crossover io sono qui con Gian Bologna mi devi lasciare parlare dovreste tra l'altro perdonami scusami dovresti un attimino migliorare e allora parla solo tu dai dovresti un attimino migliorare il collegamento perché non sento un cazzo non capisco nulla di quello che stai dicendo ma che mezzi avete? ma che strumentazione avete? non si capisce nulla Enzo ma cosa è possibile? ti giuro non capisco nulla mi arriva tutta una roba rimbombata rimbomba abbiamo problemi con l'audio ti prego di si ma bene che venite dal ventennio cazzo però con una documentazione un po' più adeguata no forse forse nel ventennio la stereofonia di Mussolini forse non è la telefonia di Mussolini ti assicuro magari funzionerebbe meglio sicuramente forse nel ventennio funzionava meglio io volevo parlare ha attaccato volevo chiedere come si chiamava da dove chiamava anche per conoscere meglio le persone stiamo avendo visibilità io volevo dirvi cosa intendo per democrazia la democrazia è un bene preziosissimo vuol dire dare la possibilità a chi non la pensa come noi di poter parlare e dire quello che pensano invece tante persone tendono a impedirmi di parlare bisogna confrontarsi democraticamente è normale che non tutti la possiamo pensare nella stessa maniera è un confronto civile democratico purtroppo voi attaccate a prescindere chi non la pensa come voi credimi e questo non è democrazia perché il pensiero assoluto non l'avete voi in testa in tasca siamo in un paese fino a prova contraria democratico civile dove c'è un confronto due interventi il primo molto più offensivo io vi do ospitalità però voi dovete essere più corretti vi prego di scusarmi dai c'è problema c'è problema facciano pure scusami molti nemici molti nemici molto onore l'ospite a casa mia è sacro però ripeto noi corriamo questi rischi poi da un po' di tempo la mia trasmissione è vista sul nazionale e ci sono persone che giustamente non la pensano come me è normale come te e mi attaccano a prescindere ma vorrei che fossero più propositivi vorrei che dicessero dove sbaglia il governo le cose da fare e non lanciare il sasso nello stagno non mi va bene così è una questione di civiltà di democrazia vera va bene dai prendiamo un'altra telefonata buonasera buonasera mi senti dai sentiamo chi parla mi senti volevo fare un regalo all'ospite che è lì con te non lo hai raccontato hai attirato stasera tanta attenzione bravi bravi tanta attenzione non cambierete mai proprio non cambiano mai ma chi interessi guarda nel portafoglio vedi se hai ancora le tre tessere in tasca io sono convinto che tu hai tre tessere forse ti sono caduti i pantaloni mettere il sesso prova a guardare nel portafoglio hai ancora tre tessere in tasca prova a vedere chi entra le dà conto perché altrimenti non lavori uno come te Francesco quello che mi dà fastidio è che non danno la possibilità sì ma è moderato dai che non combatte pure lui non combatte più un po' legato dai Elisa che stavi dicendo dai dimmi allora detto questo è che non danno la possibilità a un italiano di pensarla in maniera differente chi non la pensa come loro è un nemico a prescindere ma è democrazia questa questo mi chiedo io non è democrazia la loro è una dittatura rossa sti quattro compagnucci non c'è niente da fare ma la mazzata che avete avuto alle ultime elezioni non vi è bastata avete ancora aperte le ferite vergognatemi sì evitate sempre il confronto civile democratico confrontiamoci sui contenuti non ho parole voglio dire una cosa no volevo solamente dire che tu hai detto sconso è bene cioè è uno la vera democrazia è consentire a tutti di dire la propria opinione poi sta diciamo al buon senso l'intelligenza delle persone rapportarsi perché io posso pensarla in maniera uguale o diversa da Ferdinando Pollegato uguale o diversa da tua ma io credo che la differenza di vedute la differenza di idee faccia crescere una popolazione e faccia crescere una civiltà l'ho sempre sostenuto però bisogna confrontarsi su temi portate le vostre opinioni vediamo insieme non passare su delle offese beccele non mi toccano quelle cose qua quindi per carità secondo me tu fai bene continuare ad aprire il dialogo puoi stare l'intelligenza agli ascoltatori seguire seguire questa ci tenevo solo a stare questa dai prendiamo un'altra telefona stasera è a senso unico sì sì ma me l'aspettavo non c'era un sicuro tranquillo buonasera le spalle larghe io non potevo chiudere i centralini perché la caratteristica di questa trasmissione da sempre è quella di ricevere telefonate è un mio vecchio pallino quello di confrontarmi con il pubblico la ricezione delle telefonate è segno di civiltà di profonda democrazia gli incivili sono quelli che offendono io la penso così e penso di non sbagliarmi buonasera che è in linea no sei buonasera la prego è in diretta parli pure parli pronto? sì siamo pronti ad ascoltarla pronto? e allora vuole scherzare anche lei signora dai fa prima a dirci su ma le parole purtroppo dai dica la razione di brutte parole dica è una prego buonasera pronto? 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 abbassi la prego il volume del televisore il viva voce si allontani si allontani dal televisore la prego e parli con il telefono ci dica tutto buonasera pronto? è pronto dica parli pronti a muovere va beh non importa va beh non importa riproverà dai riproverà sì dai io vorrei ancora parlare con qualche esponente di sinistra non non riesci a ragionare non riesci a ragionare vorrei confrontarmi su alcune cose c'è una telefonata speriamo di sentire buonasera pronto? buonasera buonasera Roberta da Venezia seconda telefonata seconda telefonata Roberta di Venezia questa non ci non ci dice come? Roberta le donne sono più educate sicuramente poi è una donna molto educata buonasera Roberta buonasera Roberta allora sì buonasera eh no io volevo dire i due rovesci della medaglia no? che mio nonno era era ferroviere ed era antifascista ma parliamo di quasi un secolo fa naturalmente e quando c'erano le parate che venivano che veniva Mussolini anche e lui praticamente bestemmiava perché non si voleva mettere la camicia nera ma se non se la fosse messa avrebbe perso il posto e questo lo diceva lui quindi è una testimonianza che io ho raccolto poi invece l'altro è il proverso della medaglia che mio papà ha fatto la guerra d'Africa anche mio papà e mia nonna sì allora era nata nel 10 e mia nonna che aveva un ristorante gli mandava i pacchi i pacchi viveri praticamente e arrivavano puntualmente in Africa cioè questa è una cosa che dirle adesso sembrano che io ho lavorato 30 anni alle porte però sentire che all'epoca del fascismo i pacchi arrivavano in Africa con i viveri intatti per me a del piracoloso non so voi cosa ne pensate comunque poi non so se ho ancora qualche minuto o no pronto? sì sì vai avanti vai avanti ecco no poi volevo anche dire che a proposito di destra e sinistra io ho una mia teoria penso che non li voteranno nessuno perché mandano le armi in Ucraina tutti d'accordo perché destra e sinistra sono tutti d'accordo per me prossimamente no adesso non avranno i voti che dice gli armi perché non possono andare avanti così e i giornalai che hanno detto che vanno sicuri sparati che il Stato Putin a far saltare la diga e mi trovi un esponente di un giornale insomma che era informato del fatto che non è più di quel giornale come un credito che ci hanno dimesso di più i russi con la diga crollata che non gli altri allora perché i giornalai vanno sicuri magari possono dire non so ma non andare sparati a dire che sono stati russi a me fanno sempre più storm i giornalai scusate lo sfogo buona serata grazie grazie a Roberta di Venezia fedelissima di questa trasmissione dopo la dici devo leggere un messaggio di mio caro amico Davide Baraldi di Modena sono d'accordo con quello che hai scritto Davide però ci fanno pubblicità noi a Napoli diciamo che ne parlino bene che ne parlino male l'importante è che se ne parli di un evento perché mi dice testualmente Davide è un suo pensiero alcuni che sono intervenuti dice sono stati imbeccati da Topo Gigio e da Cruciani potrebbe essere perché sapevano della tua presenza stasera nella mia trasmissione e quindi hanno creato un po' di suspense ma io ringrazio indirettamente l'amico Giuseppe Cruciani Topo Gigio non lo ringrazio perché non ho nulla a che spartire con quel personaggio va bene Cruciani è lui il responsabile della trasmissione la zanzara no volevo solo dire che non hanno neanche il coraggio loro sono comunisti vengono dalla madre russia le pensioni hanno mandato un sacco di soldi per tenere adesso si sono messi contro la russia io dico la verità io considero gli americani dei guerra fondai fanno guerre dappertutto e io ti dico la verità io penso che Putin Putin si mille volte meglio degli americani mille volte meglio io sono contrario a mandare armi anche perché l'ucraina e la russia non fanno parte nel neppato atlantico nell'europa scusami una cosa è stata una guerra creata dagli stati uniti d'america noi non c'entriamo niente ci siamo trovati coinvolti su questa guerra e io sono contrario a mandare qualsiasi forma di armi perché finché mandiamo armi le guerre vanno avanti questo è il mio pensiero sono d'accordo quasi quasi sono putiniano io che sono di destra qua di destra devo difendere Putin voi altri comunisti non avete il coraggio di farlo quello è il punto della situazione prima di andare in pubblicità c'è stata un'omissione da parte mia all'inizio è la prima volta che lo vedevo perché l'amico Francesco se non sbaglio è capogruppo di Fratelli d'Italia nel comune di Pordenone sì sì ma qua sono in un'altra ma sono per la cronaca per la cronaca sicuramente sono in una veste professionale infatti sto stasera sei in una veste professionale mi sto astenendo dal parlare di politica avrei molte idee mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto l'ultima Roberta Roberta di Venezia però è un tema molto delicato un tema forse che è troppo facile liquidare con due parole perché andrebbe analizzato e sicuramente la guerra non piace a nessuno assolutamente e tutti magari dobbiamo lavorare per far porre fine alla guerra nel modo migliore e il più celere possibile quale sia la strada giusta personalmente lo so so che c'è il governo che sta lavorando in maniera lacre e al mio modo di vedere sta lavorando da quel punto di vista sta facendo quello che ritiene di dover fare all'interno di uno scenario che è sovranazionale poi giusto o sbagliato possiamo analizzarlo però ecco se facciamo parte di uno scenario sovranazionale secondo me dobbiamo anche agire di conseguenza Francesco approfitto di questa visibilità nazionale che mi danno quelli della Zanzara per ricordare ai miei detrattori che io oltre a questa rubrica ho l'opinione di Enzo Spatalino una rubrichetta di 20 minuti in scioltezza per capire meglio chi è Enzo Spatalino il vero volto di Enzo Spatalino si evince dalla mia opinione sono da solo e affronto varie tematiche quindi approfitto per ricordare agli amici della Zanzara che è sempre sul canale 170 il principale e il 231 del digitale terrestre alle 20 e 30 specialmente per i compagnucci per i sinistri fra i quali tanti sacchettoni a perdere 20 e 30 per essere aggiornati per essere informati nella dovuta maniera viva la democrazia viva l'informazione libera abbasso il politicamente corretto che non ci compete pubblicità Aderso grazie ed eccoci ancora insieme a voi sempre in rigorosa diretta grazie per la cortese attenzione mi riferisco a tutti quanti che è il mio messaggio che va erga omnes verso tutti i telespettatori di qualunque fede politica essi possano essere viva la democrazia prendo io qualche secondo per leggere perché è nostra abitudine prego leggo intanto questo se no lo perdo dai Marzia la mia sentinella preferita di Albignase ciao Enzo buona serata un caro saluto a te e ai tuoi ospiti vi sto seguendo bella trasmissione grazie Marzia grazie buonasera chi è in linea buonasera Enzo e buonasera ai tuoi ospiti sono Maria di Bovolenta provincia di Padova Bovolenta Padova buonasera signora Maria prego ecco niente volevo dire questa sera una bella trasmissione e le dirò che è una delle più belle e più pesante che avete fatto grazie e faccio i miei complimenti al signore e qui e qui e quei cretini che hanno telefonato prima soprattutto quello che ha tirato giù la catena vorrei sapere se è andato giù per la testa che si è libertato a po' la po' l'idea ecco quelli sono sinistroidi che non sanno di essere al mondo ah sa il signore cosa diceva mia doga e mia mamma uno che nasce con i piedi quello nasce male per tutta la vita farà del male e basta uno che nasce per la testa avrà sempre farà sempre del bene avrà sempre cose belle queste sono le parole che ho sempre portato di miei genitori anche a mio papà quando la guerra in Africa a Gita Veda e alla Smara aveva cinque uomini sotto di lui era c'è gente mio papà e mi sono andato così non ha fatto la firma perché l'ha detto come si chiama la signora? è andata così e basta adesso che finisca Maria complimenti signora Maria complimenti signora vada avanti così che è forte è forte vada avanti così signora Maria visto che è in diretta le dico una cosa noi ricordiamo dobbiamo ricordare tutti i morti mio papà è stato in Libia in Addis Abeba in Etiopia ha fatto otto anni da quelle parti lì perché prima li avevano mandati i morti vanno ricordati tutti anche le camicie nere noi siamo qua anche per ricordare che hanno combattuto per l'Italia credevano di combattere per l'Italia vi hanno ricordati tutti non possiamo fare morti di serie A e morti di serie B non ci vuole perché tu eri hai capito i morti di serie A sono i partigiani e noi invece i camicie neri che hanno combattuto sono i morti di serie B non mi va bene signora Maria ecco bravo bravo e la ringrazio molto grazie a lei e vada avanti così ha detto mio marito che appena che potremo viviamo a trovarlo nel suo bar io lo sono come un dito perché non mi posso lavorare l'aspetto grazie io sono visto polinesi quindi là grazie si chiede i storidi come quelli di Statera e tutto a resto va bene grazie io sono di destra e sono orgoglioso di esserlo quei due cretini lì che ci davano la pezza sotto il water va bene buonasera e buonasera a tutti non dormono neanche quelli di stano te grazie noi diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire se loro offrissero il loro contributo ci potremmo confrontare no le offese gratuite a cosa servono solo a qualificare la provenienza la fonte sarà perché io ho una concezione diversa della vera democrazia io parlo non offendo mai nessuno vorrei che gli altri non offendessero me eh dai prendiamo una delle ultime telefonate stasera a ragione Davide Baral io non avevo mai sentito quelle tre voci di sinistri sono stati imbeccati però involontariamente dai Francesco ci hanno fatto un po' di pubblicità sul nazionale sarà contento il nostro editore Alessandro Brunello buonasera pronto buonasera chi parla sono Ciccio dalla Calabria viva la Calabria Calabresella è mia è il mio idolo puoi ripetere il nome di battesimo non abbiamo capito Ciccio 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 Calabrese sì ciao Ciccio ciao non riesco a capire Spatalo in genere anche Cruciani mi chiama Spatalo il nome di battaglia Spatalo vedi mi riferisco ho un nome di battaglia ovviamente Spatalo grazie Ciccio grazie seguimi forza Calabria forza la Calabria alle 20 e 30 mi raccomando buonasera a tutti i nostri grazie buonasera buonasera il discorso della telefonata che mi ha fatto prima che mi ha detto che mi ha detto che andrei appeso a testa in giù a me mi possono appendere a testa in giù una volta sola voi invece siete tutta la vita appesi a testa in giù questa differenza tra noi a me mi possono appendere una volta sola voi invece siete da quando siete nati compagni con la testa in giù questa è la situazione vedete la differenza tra noi e voi senti possiamo dedicare qualche minuto alla tua attività dai gli animi sono accesi era inevitabile che ciò accadesse lo sapevo già l'avevo messo in cantiere sono stati anche gentili dai non mi hanno più di tanto non hanno fatto cosa vuoi mi aspettavo di peggio speriamo che mi arrivi una telefonata ancora peggiore mi fa piacere non a caso ho richiesto la presenza di un legale il tuo legale l'avvocato va bene che facesse un po' da contrapeso da moderatore al di là della sua appartenenza politica a Fratelli d'Italia nel comune di Pordenone siamo in Friuli Venezia Giulia per chi non conoscesse questa bellissima cittadina prendiamo dai l'ultima telefonata regia buonasera buonasera dottor Faccalino sono Ortonia in quel di paria ho sentito una bellissima notizia oggi di un accoltellamento in Francia e vorrei ricordare al presidente Macron che adesso è stato un atto di coservia coservia dell'italiana bigliancheria è stato un atto di delinquenza quindi è ora di preparare le navi gli aerei tutto quello che serve sono versibili e riportare tutta questa tra pareti in dettaglio accade loro perché è ora di finirla è ora di finiamola questo Pascalino sono un po' dei suoi ospiti bravo è ora di finiamola so quello che è successo a Parigi per l'esattezza era un siriano quello che si è reso protagonista di questa bravata di circa 22-23 anni se ne è presa anche un con dei bambini una roba vergognosa è ancora all'ascolto volevo si chiudi con le telefonate volevo ricordare che nella mia opinione ho parlato virtualmente con il capo dello Stato mi sono permesso di dire qualcosa di particolare a Sergio Mattarella con il necessario rispetto per il capo dello Stato va bene perché è andato a Parigi ha detto delle cose e in quel momento non mi ha rappresentato l'ho detto civilmente vi invito a seguire la mia opinione anche agli amici zanzarosi alle 20.30 e se la perdete approfitto di questa grossa ghiotta opportunità che mi offre il mio amico Giuseppe Cruciani c'è la replica alle ore 6 la replica mattutina o alle 20.30 o alle ore 6 prego lasciamo stare la politica parliamo della tua attività dai un po' di spazio per la tua Teodora parlami dei piatti della Teodora che è la cosa più importante che mi interessa al di là delle sciocchezze che dicono per la televisione ha iniziato 14 anni adesso ha 70 anni e ha sempre lavorato dunque ma ha lavorato non poco lavorato tanto però volevo parlare della mia clientela lì non è mai successo una parolaccia in 50 anni mai successo una parolaccia tutti i miei clienti vanno via contenti soddisfatti allegri cantiamo le canzoni del ventennio cantiamo anche le canzoni di Battisti cantiamo le canzoni di varie noi ci divertiamo passiamo una giornata ricordando il passato perché noi stiamo ricordando il passato avrà fatto anche cose sbagliate il Duce voi dite che ha fatto tutto sbagliato io dico no ha fatto cose buone e cose sbagliate voi dite che voi dalla vostra parte sono state fatte solo cose buone io dico no avete fatto anche cose sbagliate di buone non le conosco neanche una però non ha importanza per voi qualcuno avrà fatto dunque stiamo parlando e ricordando il passato come facciamo a andare verso il futuro se non ricordiamo il passato spiegatemelo è chiaro che sono contrario alle guerre erano periodi strani ma quello che ha fatto nel ventennio quello che ha fatto nel ventennio ha istruito il popolo italiano ha fatto la terza elementare obbligatoria eravamo analfabeti ha fatto le riforme le più grandi battaglie le ha fatte lui le strade le abbiamo ancora che funzionano gli asili le ha fatti anche sulle scuole con cento persone che erano c'è persone che facevano le scuole scuole materne queste cose che non fanno più adesso abbiamo visto l'emilia romagna l'ho parlato prima cosa avete fatto una montagna di soldi che sono andati in mano alle cooperative e le cooperative cosa hanno fatto hanno fatto morti disastri e voi siete ancora qua a parlare di che cosa di che cosa è giusto che il popolo romagnolo cominci a pensare a questo o no? posso dire questo? dopo se volete continuare con le vostre tre tessere in tasca fatelo pure a me non interessa però quello che ha fatto il duce per l'emilia romagna e infatti non è stato fatto dai nessuno in 80 anni non è stato fatto niente solo disastri posso dire una cosa sommessamente io non ero ancora nato non ho vissuto quell'epoca neanche io però ritengo che se di errori si può parlare per me ripeto io non faccio testo lo dico spesso nelle mie trasmissioni il suo grande errore è stato quello di allearsi con quel pazzo si l'ha sempre detto che era un pazzo ma cosa faceva e se venivamo in vasi succedevano più morti guarda cosa hanno fatto gli americani parlando anche del discorso di americani adesso che sono venuti a liberare a liberare l'Italia hanno raso al suolo l'Italia e rasa al suolo siamo diventati in una colonia americana è un dato di fatto e non contiamo più niente hanno sbagliato a buttare una bomba che dovevano buttare una colonna a Tarvisio confine con l'Austria l'hanno buttata a Tarvisio 7 mila morti in un gruppo solo qualcuno non è parte ricordiamo anche queste le guerre sono sbagliate a prescindere è stato fatto buono il ventennio se abbiamo avuto il boom economico degli anni 60 grazie a sua eccellenza il boom economico perché si sono trovati con ferrovie con strade con fabbriche auto moto chi ha fatto la prima moto? la Bianchi che ha fatto la lungo sfocchietti cioè qui stiamo parlando di che cosa? in 80 anni cosa vi hanno fatto voi? vi hanno fatto delle sponde di terra con la strava sopra è arrivato il fiume e ha buttato giù tutto i ponti sono andati giù tutti 20 fiumi allegati che è colpa di chi? la magistratura dovrebbe intervenire su queste cose qua qui sono successi dei morti dei disastri dove è la magistratura? dove è il sindacato che dovrebbe andare? sono tutti collusi tutti tutti quanti vuoi lavorare? iscriviti alla COP vuoi lavorare? iscriviti al sindacato vuoi lavorare il Partito Democratico basta consegnate le tessere questo lo dovete fare il Partito Democratico sta attraversando un periodo molto delicato con alla guida Ellie Schlein cominciano a volare gli stracci all'interno del Partito Democratico aiuto avrà una vita difficile non cantano neanche più bella ciao credimi ha fatto saltare tanti test l'ultima clamorosa quella del figlio del Presidente della Regione Campania De Luca lo ha estromesso a me solo uno dei suoi insomma lei purtroppo ha vinto grazie ai gazebo perché la nomencalatura interna quella che conta era per Stefano Bonaccini non lo dimentichiamo lei si è trovata lì per caso però adesso è il segretario dunque dico qualcosa e poi vi lascio chiudere la trasmissione mi do un minuto a testa volevo soltanto prima che mi dimentichi perché voi è la prima volta che venite io saluto lo ricordo è una mia abitudine è una mia fisima perdonatemi sono fatto così io sono un nostalgico in tutte le cose anche nel salutare i parenti degli ospiti va bene qualcuno dice ma non lo fa nessuno e chi se ne frega ma lo faccio io perché devo essere io convinto e contento di quello che faccio nei miei spazi allora saluto innanzitutto la gentile signora Teodora Foscato che è la moglie e poi se non sbaglio tu hai una bellissima ragazza Alessandra Polegato e poi le cronache parlano di una nipotina bellissima Maria Luce è vero? certo mi hanno informato bene mi raccomando poi saluto i parenti dell'avvocato Francesco Ribetti la sua adorata mogliettina Laura non dico il cognome e i suoi ragazzi splendidi Alessandro e Camilla Ribetti e poi i collaboratori dello studio ok allora un minuto a testa io direi prima Francesco e poi tu vai a chiudere alla grande come ospite d'onore Francesco parlami dello studio dei collaboratori di tua moglie parlami lavora solo per me per fortuna direi di no è un conflitto il tuo è un compito in grado quello di difendere ma io guarda Enzo le persone di cuore come dicevo prima di cuore interno le persone vere le rispetto sempre perché si prendono la propria responsabilità e hanno il coraggio di portare avanti le proprie idee no ti voglio ringraziare per lo spazio che hai concesso a Ferdinando soprattutto questa sera mi dispiace dico la verità che non si sia potuto creare un dialogo con alcuni dei tuoi interlocutori perché sarebbe stato un bel momento di crescita per tutti per Ferdinando e per chi ha delle idee diverse che sono legittime l'abbiamo ricordato più volte volevo solo però permettimi di dire per far capire che persona è Ferdinando noi su una vicenda giudiziaria che abbiamo Ferdinando ha già deciso di devolvere a parte un esercimento da anni una parte un esercimento da anni che gli dovesse essere riconosciuto noi abbiamo l'area giovani del centro riferimento ecologico di Aviano provincia di Pordenone che è una delle eccellenze della nostra regione ma d'Italia e c'è un'area giovani proprio dedicata dedicata a lenire le difficoltà dei più giovani ecco Ferdinando è una delle prime cose che mi ha detto guardi Avvocato non tanto per me ma una volta chiusa ho interesse a devolvere una parte mi piaceva lasciare un messaggio non so se altre persone non mi hanno ragione è da ammirare non serviva a dirle non so che tu non volevi però ci teniamo per far capire che persona è giusto che la gente sappia la destinazione di quei soldi che tu avrai saluta il pubblico io saluto a tutti io dico che i veri comunisti di una volta mi piacevano perché entravamo in discussione poi dalla fine bevevamo un bicchiere di vino ci deviamo un sacco di parole e poi si trovava sempre in intesa perché alla fine ragioniamo sempre nella stessa maniera se uno ama l'Italia se ama l'Italia e fa qualcosa per l'Italia poi dopo io io sono per Dio padre e famiglia io sono contrario a tutto quel casino che stanno facendo io sono per una famiglia composta da un uomo o una donna i bambini non si devono toccare non ho niente con le occhi sono i nostri principi i nostri principi si poteva discutere con i comunisti una volta con questi qui che non sai neanche se sono comunisti o no non li capisco più tu li capisci con i PD ti attaccano a prescindere solo perché io li chiamo perdo dappertutto perdo dappertutto va bene dobbiamo chiudere ciao ragazzi viva l'Italia grazie di cuore per la cortese attenzione nei nostri confronti ci vediamo domani sera alle 18.55 non vi perdete la mia opinione un forte abbraccio a tutti viva Prima Free canale 170 ciao a tutti ciao 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 ragazzi ragazzi abbiamo abbiamo la musica fascista abbiamo la musica fascista partiamo con il sunto di polegato da Spadalino vai orgogliosi di essere fascisti orgoglioso di essere fascista mi raccomando potete dire qualsiasi cosa certo rispettare gli ospiti perché all'ascolto ci sarà gente che si rivede nella tua posizione Romagnoli sveglia amministrazioni sono sempre state amministrazioni di sinistra vi hanno messo in ginocchio non poteva succedere una roba del genere Bonaccini è stato il peggiore ma tutti quanti un massacro vi hanno fatto consegnate le tessere del sindacato consegnate le tessere delle copp che senza le copp ha visto cosa delle copp hanno fatto i muraglioni per le perdifidere i fiumi hai visto un po' di terra e sopra la strada hanno portato via tutti ma ti rendi conto questo ha detto che le copp hanno fatto costruire muraglioni che hanno portato via tutto una cosa pazzesca dai pazzesca senti 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 io ho detto che ce l'abbiamo col sistema ebraico col sistema di loro finanziamenti tutto tutto in mano sistema ebraico tutti in mano poi ho detto noi non abbiamo niente da invidiare con voi noi abbiamo un popolo romano che è stato ha portato la civiltà in tutto il mondo scusa ma cosa hanno inventato gli ebrei niente a parte il business cosa hanno inventato gli italiani abbiamo inventato tutto Marconi il telefono ma gli ebrei sono italiani noi per quelle volte hanno inventato la pila tutto abbiamo inventato dimmi cosa hanno inventato il popolo italiano con gli ebrei non abbiamo niente poi gli ho detto che sono incazzato con loro da 2000 anni quando hanno ammazzato il nostro Gesù Cristo ma come signor polegato signor polegato signor polegato non è il massimo ti do tutto non ti preoccupare ti do tutto se puoi si grazie perché certo non c'è duppo puoi capire cosa è questa cosa fascistetto e tu finisci a testa giù grazie grazie ha capito a testa giù finisci grazie ma perché secondo te prego prego quando vatti tu vedi il legnale tu pidi da un bagnucci Mario perché finisci a testa giù perché non c'è spazio perché tu sei un fascista e tu sei un fascista lo tanto sono meglio i senegalesi di qui sono meglio i senegalesi di te tu sei un fascista Mario da Vinci finisci a testa in giù chi è il suo bagnucci senti 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 se ho spatalino ancora senti due interventi il primo molto più offensivo io vi do ospitalità però voi dovete essere più corretti vi prego di scusarmi certo c'è problema c'è problema facciano pure scusami molti nemici molti nemici molto onore a casa mia è sacro poi interviene un tale Andrea da Lucca che noi conosciamo bene vai va bene dai prendiamo un'altra telefonata buonasera buonasera adesso mi senti dai sentiamo chi parla ecco a costa sono Andrea da Lucca poi hanno una televisione e non si sente un cazzo vorrei fare un regalo all'ospite che è qui con te lo sciacquone è questo vecchia tecnica parenziana molto bene ragazzi chiamiamo a questo punto la signorina che è stata oggetto insomma come la possiamo definire questa signorina un nome un cognome per carità allora in questa puntata eccezionale straordinaria nel senso di unica è con noi grande ritorno dopo Trento dopo una grande battaglia a Trento dal profondo Veneto dal profondo Veneto una delle voci più conservatrici in Italia un conservatore a tutto tondo anche perché abbastanza tondo Enzo Spatalino applausi 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 Enzo ci sei Enzo ciao Giuseppe ci sono buonasera ai tuoi radioascoltatori un caro saluto molto bene molto bene iniziamo subito forte caro Enzo e mi raccomando risposte pungenti come al tuo solito senti cosa ha fatto di buono il signor Benito Mussolini sua eccellenza dimmelo subito chiaramente perché tu sei un estimatore di sua eccellenza diciamola subito non mi vergogno di dirlo adesso non c'ho un elenco ufficiale sotto mano mi avrei dovuto avvertire ma sono tante 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 le cose buone fatte da Benito Mussolini ti dico soltanto l'unico errore dimmi l'unico errore lo sbaglio che ha fatto il Duce è stato quello di allearsi con quel pazzo con quel paranoico di Adolfo Hitler Adolfo poi ha fatto tantissime cose buone una per tutte il ponte quando tu vai a Venezia il ponte che porta a Venezia il ponte chi l'ha fatto? quale ponte che porta da Mestre a Venezia dici tu esattamente dopo tanti anni lì qui colorano ponti dappertutto e il Duce quello che ha fatto non crolla mai tu dici che lascia un grande insegnamento il signor sua eccellenza per me che io credo in certi valori nella patria nell'ordine nella disciplina nel rispetto dei valori ha lasciato un buon ricordo un buon ricordo queste tue affermazioni sai sono molto controverse caro Enzo tu sei un personaggio controverso diciamo la verità uno che dice oggi nel 2023 di nutrire una certa ammirazione per sua eccellenza Benito Mussolini che era comunque un dittatore che ha privato della libertà molti italiani sono affermazioni molto molto controverse diciamolo subito diciamola possono sicuramente apparire controverse ma siccome tu mi coinvolgi mi chiedi un parere io non sono ipotrita e penso di non commettere un reato se dico che Mussolini ha fatto tante cose buone non penso di bestemmiare sono convinto di quello che dico ho capito però era anche uno era un dittatore diciamo la verità era uno che ha tolto la libertà agli italiani era un regime tirannico quello di Mussolini questo lo dobbiamo ammettere caro Enzo o no tu pensi che alla fine tante volte tante volte i regimi devono essere duri per portare ordine comunque ha fatto anche delle cose cattive indubbiamente essendo un dittatore io non potrei vivere per esempio con un regime come quello appunto di Mussolini ha situato come sono a dire la mia esatto benissimo allora andiamo avanti perché ieri durante una delle tue trasmissioni è successo un fattaccio noi lo abbiamo registrato perché noi registriamo tutto quello che dici tu caro Enzo noi ogni parola che proviene dalle tue trasmissioni la usiamo perché ti consideriamo anche i nostri ascoltatori come sei un grande conservatore italiano uno dei top in Italia adesso non ti sto appigliando per il culo è la verità uno di quelli che dice pane pane minaldino uno di quelli che si esprime in maniera rude anche con delle opinioni controverse come quella che hai enunciato prima però si esprime in maniera chiara c'è comprensibile la maggior parte delle persone ieri è successo un fattaccio tu hai ospitato un signore un medico ex medico anzi forse mai medico forse da quello che so no lo è stato lo è stato il dottor Paolo Rossaro è stato medico esatto poi è intervenuto è intervenuto un ascoltatore se non mi risulta male un tale Elia se non sbaglio esatto esatto a me corrisponde al vero esatto che te l'ha detto in tutti i colori facciamo partire la telefonata che noi abbiamo registrato vai regino si ma lui manda anche la parte in cui lui offende Rossaro è certo che la mando è che vuoi che non la mando certo vai buonasera pronto buonasera sono Elia Pagoncello mi sentite? chiedo scusa mi puoi ripetere il nome? Elia Pagoncello buonasera da dove chiami? chiamo da Milano buonasera intanto sono molto emozionato scusate non si sentirà dalla voce perché sono un grande ascoltatore della trasmissione ritengo Enzo Spatalino un conduttore che dico gigante che dico immenso un conduttore obeso quasi obeso per la grandezza di Enzo Spatalino ti ringrazio per una stima beh qui c'era anche una presa per il culo iniziale andiamo avanti andiamo avanti volevo chiedere invece al professor Rossaro se lui è medico si lei è medico professore? è un chirurgo si ah ma scusi perché a me risulta che lei sia stato radiato dall'albo si è vero è per questo sono medico radiato ma sono medico dunque 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 lei dunque lei non dovrebbe farsi chiamare medico perché questa è una roba criminale ma infatti il sottopancia è laureato in medicina e chirurgia voi state dando un'informazione criminale a chi vi ascolta quello non è un medico è stato radiato i telespettatori vengono indotti in errore perché voi dite che Rossaro è un medico quando in realtà è stato radiato allora scusami ma non ho mai detto che è un medico ti prego guarda la registrazione mi ha appena risposto a lui mi ha appena risposto a lui dice che è un medico non è un medico porca puttana è stato radiato non è un medico no Elia però non essere volgare non essere volgare ti prego ma chiedete voi volgari posso chiedere al professor Rossaro se si ricorda chi è Cristian Trinità ma sì amore mio ma non è quella la mia storia chi è Cristian Trinità chi è Cristian Trinità chi è Cristian Trinità diciamo agli ascoltatori e telespettatori che è Cristian Trinità diciamolo è stato un ragazzo sfortunato che gli ho avuto il piacere non è stato un ragazzo sfortunato è stato un ragazzo con un linfoma che lei ha curato con vitamina C e con autogarigione e quello è morto perché lei ha consigliato la chemioterapia ci dovrebbe vergognare Elia professore Elia fermo un secondo ma non è il professore mi stai dando un titolo eccessivo non è il professore è il dottore fermati Elia Elia fermo un secondo lo chiamo il professore ovviamente per prenderlo per il culo Elia chiudi 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 fermo Elia io ti rispondo io ti faccio parlare ti do la possibilità di criticare però non tollerò la maleducazione hai cominciato bene a farmi un complimento per poi darmi la stilettata Elia dovete portare rispetto per i miei ospiti ti avevo dato questa grossa opportunità era proprio il caso che tu offendessi il dottor Rosaro non mi ha offeso ha offeso la sua stupidità perdonami non mi ha offeso non hai il modo questo di presentarsi Elia non mi hai offeso comunque chiedo scusa umilmente per aver alzato un po' il tono della voce ma io non tollero la maleducazione allora questo è quello che è successo caro Enzo questo l'abbiamo riferito l'abbiamo riferito per filo e per segno caro Enzo per filo e per segno quello che è accaduto perfettissimo hai ospita adesso che mettete chiudi perché mettete chiudi adesso Enzo ho capito questo è lo sbrocco di Enzo è giusto ma quello stava cominciando a offendere il mio ospite scusami però scusami Enzo diciamo la verità è ospitato un signore per carità per me non è un problema è ospitato un signore che si è inqualificato medico ma in realtà è stato cacciato dai medici perché condannato per omicidio colposo quello bisognava dirlo all'inizio della tua preziosissima trasmissione della tua ottima trasmissione o no? siccome non è la prima volta che il dottor Rosaro viene ed è conosciutissima la sua storia certo hai capito? comunque c'è ancora la corte di Cassazione che si deve pronunciare su altri ricorsi dove lui è coinvolto ho capito ma al di là di questa bagarre e al di là del tono canzonatorio usato da quel signore che hai fatto chiamare Elia io ho fatto chiamare nessuno Elia ha chiamato lui il mio amico ha chiamato io Elia io comunque pubblicamente rinnovo la mia stima incondizionata al dottor Paolo ho capito quello è uno radiato 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 vabbè comunque in questo uno contro tutti con Enzo Spatalino protagonista che per la prima volta devo dire la verità l'amico Spatalino riesce ad esprimere i suoi pensieri diciamo riesce ad esprimersi in pieno riesce a esprimere un concetto perché non ci sono interruzioni perché può dire quello che vuole tranquillamente certo il confronto è duro aspro ha detto che Mussolini ha fatto molte cose buone non abbiamo ancora parlato della sua idea per esempio di matrimonio misto di matrimonio misto per esempio le islamiche che vogliono andare in piscina coperte Spatalino cosa farebbe di questa situazione qua permetterebbe a delle signore islamiche di andare in piscina da sole che dici Enzo viva la libertà se si può vivere oggi in Italia con questa delinquenza agguerrita chi sarebbe la delinquenza come si vive nelle periferie italiane come non c'è più controllo dove comandano gli spacciatori dove ci sono delle intere tribù di africani che comandano a Napoli vicino alla stazione a Napoli comandano un po' meno c'è il rione vasto ci sono zone dove non vanno neanche più i poliziotti comandano quindi di colore credimi Giuseppe c'è un'anarchia no addirittura la camorra viene sopraffatta dalla mafia nigeriana è un dato di fatto ma non credo proprio non credo proprio che vorrebbe un governo con gli attributi che non avesse paura della Nato dell'Europa di questi quattro parrucconi della sinistra che impediscono di governare questo paese ma che impediscono questi hanno il potere hanno la maggioranza la Sia Meloni potrebbe fare quello che vuole in teoria no non ha fatto alle mani legate alle mani legate noi siamo schiavi degli Stati Uniti d'America Giuseppe tu non sopporti l'America è una tira illusione quella della Meloni anche lei tante promesse poi è arrivata a Roma e si è resa conto che più di tanto non può ci sono tanti impedimenti hai capito? scusami un attimo noi dobbiamo avere l'avallo dell'America della Nato dell'Unione Europea siamo schiavi Giuseppe non contiamo una mazza credimi scusami Enzo però una cosa che ti devo chiedere perché tu sei contrario al matrimonio tra un italiano e un islamico per esempio tra una persona di religione così comunque italiana e un islamico tu sei contrario per una banalissima constatazione più che elementare è una differenza di civiltà di culture e quale sarebbe? tu non puoi andare d'accordo con una persona che è stata allevata secondo criteri che sono all'opposto dei nostri sono due civiltà la nostra e la loro Giuseppe sono due civiltà non possiamo andare d'accordo con certe persone che non la pensano come noi sono abituati in questa maniera credimi non sono razzista sono un realista tu hai parlato di donne cui friccica amico mio spesso ne hai parlato con queste quelle non sono solo islamiche attenzione nel concetto di donna che friccica sono tutte le donne italiane comprese sono quelle a cui piacciono fare certe robe quando le friccica le friccica diciamo a Napoli chi se ne frega dai ma sì viva l'amore per carità H24 io nonostante sono datato ma mi piace ancora la figa tutto sommato ecco finalmente a te piace diciamo la verità a Spatalino piace ancora la figa lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire alla grande alla grandissima viva la figa sempre a prescindere quante volte frequenti l'azienda tu poche però ormai mi hai detto anche perché dimmi confessami tutto quale azienda l'azienda la figa sto dicendo Spatalino scusami purtroppo non dico è un miraggio onestamente alla mia età fa statica però mi difendo ancora bene Giuseppe credimi ma preferisci il cunnilingus oppure la penetrazione scusami se te lo chiedo la penetrazione alla grandissima ho sempre avuto un culto per la penetrazione ah il culto addirittura quando ho avuto la fortuna di giocare come battitore libero sì ho fatto saltare dal letto diverse donne perché ho un modo di baciare il clitoride unico al mondo cioè tu quello è cunnilingus però scusami Enzo quello è cunnilingus però non è no no viva la fica sì no la fica penetrazione e anche cunnilingus diciamo e mi dicono che pare questo è un messaggio che mi sta arrivando proprio in tempo reale pare che Spatalino abbia un pisello cazzo smisurato smisurato è vero o no? non corrisponde a realtà non corrisponde a realtà ce l'ho grosso di spessore sì ma sai che largo ce l'hai largo non lungo più largo non lungo onestamente però largo però largo sei cambiato largo come il mio peso come il mio peso e mi riferiscono anche che ad abano terme una volta ti sei preso le piattole è vero o non è vero? questo questo non corrisponde a vero se no te lo direi assolutamente sei mai andato a prostitute sei mai andato a prostitute Enzo? sì la prima volta nella mia vita ho fatto l'amore la prima volta a 18 anni con una prostituta mi ricordo ancora ad Arzano provincia di Napoli ad Arzano è quella che mi ha introdotta i piaceri amorosi molto bene ma tu sei a favore dei bordelli? sì certamente sono anni che io porto avanti fra le mie crociate l'apertura delle case di tolleranza e facciamo una crociata insieme caro Enzo facciamola insieme questa crociata viva viva i casini viva le case di tolleranza Enzo da Torino e prenderebbero soldi 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 appalate e solveremo i problemi del debito pubblico Giuseppe credimi adesso non esageriamo Enzo da Torino per l'ultima telefonata vai Enzo vai non è Spatalino che prende le piattole ma casomai sono le piattole che prendono Spatalino Cruciani gentilissimo allora ascoltami gentilissimo chi è quest'altro ebete che sta parlando li hai scelti io mi chavo come te sono tutti i soci che sto valutando li hai scelti aspetta aspetta li hai scelti ad hoc ma via questa gentaglia che venisse qui a Padova a Rovido che si confrontano con me su fatti su contenuti e non su offese gratuite ha ragione mona mona aspetta giù un attimo Enzo Enzo da Torino però Enzo Enzo da Torino sto dicendo confrontati su un contenuto contestalo su un contenuto non è che gli puoi dire ti percomi del nome allora ti dico allora ti dico io ti socco e ti dico una cosa invece completamente diversa io sono contento che tu faccia sentire Spatalino e tu lo devi fare sentire sempre più spesso ma io lo voglio io lo voglio quasi fisso lo voglio quasi fisso esatto perché Spatalino ti dà il termometro di quanto tutto il resto della popolazione sia persino persone buone perfette intelligenti perché tu lo consideri una merda lo consideri una merda Spatalino Spatalino è il prototipo della testa di niente che dice dalle mie parti della testa di niente è io che mi chiamo è io che mi chiamo come te figlio mio sto valutando realmente come illu di portare in giudizio i miei genitori perché malgrado tu sei nato prima loro per di cacemente mi hanno messo il nome Enzo questa cosa mi fa di buttare passo grazie Enzo scusami Spatalino figlio di te Mona scusami ma è vero che tu mi scrivono ancora qua hai preso ogni tanto qualche infezione al pisello Enzo è vero o no mai mai vedi non c'è niente da fare non ho avuto un'attività come la tua come la vostra per carità mi sono sempre difeso bene per la verità l'ultima donna che ti sei fatto a quanto risale tre mesi fa quattro cinque un anno due mesi fa due mesi fa prostituta no no tu ho detto che non vado solo all'inizio il battesimo con il sesso è avvenuto con una prostituta poi basta poi basta poi chiuso bene ma un gay un gay ogni tanto toccheresti un pisello di un uomo tu anche per schier così ma assolutamente no perché io mi chiedo come fanno quei gay a farsi inculare da qualcuno quando c'è la figa che è il bene più bello del mondo ma se uno gli piace il sedere e farsi inculare viva la figa viva la figa Giuseppe viva la figa sempre sempre dimmi chi c'è viva la figa grazie Enzo adottanza viva la figa sempre grazie Enzo grazie italiani italiani già nota se sei un giornalista perché non avete fatto la battaglia contro facci il giorno in cui è stato presentato il palinsesto della Rai a me non interessa se invece si reputa che tutto questo sia compatibile con quello che ha chiamato Spadalino ha chiamato Spadalino vabbè che c'è che c'è Spadalo che c'è dimmi che c'è Spadalo ciao Giuseppe dimmi che c'è stavo tornando a casa dopo la trasmissione con l'avvocato Marra ho sentito il signor Pareto che c'entra l'avvocato bestemmiare ma come ti permette di criticare facci lui che è il raccomandato di ferro ancora insisti guarda che ti guarela che cosa vuol dire nessuno ha raccomandato nessuno dai ma perché si lamenta di facci ma perché secondo lui non è compatibile con la Rai hanno monopolizzato quelli della sinistra hanno monopolizzato per anni la Rai la 7 la 7 che c'entra la 7 è privata è privata come è finito lui là ma che c'entra per meritocrazia ma non dire cazzate si è fatto strada da solo è l'obiettivo sbagliato io non gli parlo ma fallo parlare io non gli parlo ma fallo parlare perché è così non vuole parlare con te non vuole parlare con te no no ma fallo parlare perché così poi prendo nota di tutto digli che è il raccomandato di ferro per eccellenza ma da chi da chi da chi da chi ma uno può criticare chiunque Enzo uno può criticare chiunque Enzo è l'ultima persona in grado di criticare facci credimi 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 non può non può permettere chiunque può criticare chiunque non è questo il punto insisti ma da che pulpito viene la predica ancora ma perché c'è ma parla dell'oggetto della discorso lui è un raccomandato di ferro vabbè è una cazzata è una cazzata io lo so bene che non è così non è raccomandato che è il numero del telefono allora ne di l'evidenza allora ne di l'evidenza Giuseppe tutto il mondo sa che è un raccomandato di ferro che ne pensi del signor Scusami avvocato scusa sono in diretta alla zanzara quindi sei in diretta anche tu avvocato scusami c'è Spatrino che dice continuando senza alcun contraddittore dire che io sono un raccomandato di ferro secondo te ci sono gli estremi per fargli una querela l'ha detto pochi minuti fa adesso è in onda possiamo immaginare una querela Cinetto sapessi se ferro intende dire una persona che ti avrebbe raccomandato in qualche posto indeterminato no genericamente ha detto ha detto anche in quale posto mi hanno raccomandato quindi possiamo pensarci sì 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 assolutamente ti ringrazio ci siamo più tardi grazie 20 e 23 l'ha detto pochi minuti fa quindi c'è grazie molto scusami ciao poi pensiamoci bene come buttarla giù grazie hai capito vergognati tu devi solo vergognare credimi aspetta che insiste aspetta 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 c'è un'insistenza c'è un'insistenza chiamano un'altra avvocata chiamano l'avvocato trucco chiamano l'avvocato trucco no 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 chiamano l'avvocato trucco ti prego abbiamo già avviato la cosa aspetta sentiamo un attimo scusami io non ho capito una cosa ma perché non si può permettere di criticare una persona io sono con un avvocato in macchina come si chiama l'avvocato io sono con un avvocato come si chiama l'avvocato adesso vedo se posso dire se sono con un avvocato posso dire il tuo nome sono con l'avvocato Giuseppe Marra di Tiene Vicenza di Tiene che dice l'avvocato che non ci sono estremi per la quarela che dice l'avvocato è stato ospite con me e stavamo ascoltando quello che Parenzo diceva nei confronti di facci allora io mi sono indispettito ti sei indispettito ti sei incazzato ti sei incazzato può anche chiedere scusa se vuole di come si è arrivato facci ma non lei ha detto delle cose io non ho lei ha detto delle cose ben precise nei miei confronti lei ha detto delle cose nei miei confronti può chiedere scusa o si becca una querela la sinistra da anni molto semplice ha monopolizzato però scusami no no lei lei ha detto un'altra cosa mi scusi lei ha detto un'altra cosa lei direttore poco fa ha detto un'altra cosa c'è la registrazione lei ha detto che io sarei un raccomandato di ferro allora io le do la possibilità alle 20 e 26 di chiedere scusa e dire che non è vero oppure si becca una querela per diffamazione sei tu che devi chiedere scusa a me e allora mi dispiace e allora mi dispiace sono avvilito mi dispiace moltissimo e allora mi dispiace ci vediamo in tribunale e allora mi dispiace tantissimo questa volta che ti querelo e la volta buona utilizzato le offese gli insulti che mi hai dato le ho dato la possibilità le avevo dato le avevo dato la possibilità non l'ha colta e quindi sarà querelato perché mi ha detto che sarei un raccomandato di ferro viva la figa no ma che c'entra viva la figa scusa perché dici la figa così a cazzo di cale non l'ho capito scusami Spatalo però voglio capire sul figlio di La Russa come la pensi tu questo è interessante un uomo di destra una persona vicina diciamo dalle posizioni anche se poi autonomo vicino alle posizioni di Fratelli d'Italia come Spatalo è un corso un'indagine un corso un'indagine tu sai come la penso indubbiamente c'è una corresponsabilità perché se questo ha seguito il figlio di La Russa non è che andava nella sua stanza a vedere la raccolta di farfalle ma che c'entra ma cosa c'entra io non so i fatti la magistratura indagherà se ha sbagliato però tu dici nonostante sia il figlio di La Russa è giusto che paghi ma è giusto che l'indagine sia portata a termine sì ho capito ma tu hai detto un'altra cosa che non è andata non è andata a raccogliere le farfalle e non è andata a fare la raccolta ma che c'è ho detto sì perché non è che lui l'abbia trascinata con la forza nel suo appartamento se lei è andata sua sponte di sua volontà vuol dire che anche lei voleva stare con questo ragazzo ma che ne sai tu non lo sappiamo quello che è successo lì ma io infatti ho detto se sto usando il se stai usando il se stai usando il se dunque tu pensi che per esempio Faccia abbia tutto il diritto di andare alla RAI non c'è dubbio no penso certamente certamente ma perché tutti i giornalisti o i giornalai di sinistra hanno occupato per anni la RAI ma perché non ti hanno chiamato per esempio è giusto che anche il povero Facci ma lo sai che io penso la tua grande occasione io penso abbia l'opportunità di farci apprezzare scusa scusa Davide secondo te non è compatibile con la RAI una striscia anche di spadalo sarebbe interessante cioè il nazionalismo di quello ruspante il nazionalismo di quello non lo so io penso che questo signore sia compatibile con tante cose forse non con quello che tu hai citato poco fa io ho tante idee su cose ricordati Parenzo le offese e gli insulti che mi hai fatto un giorno sì no ho tutto registrato Parenzo sul tuo intervento è mancato però un punto mi avevano chiesto gli ascoltatori nel corso del tuo ultimo intervento se tu hai preso le piattole ad Abano Terme viva la figa sì vabbè quello l'hai già detto io già ti ho risposto ti ho risposto di no e che non corrisponde a verità te lo giuro sei sicuro sei sicuro sei sicuro al cento per giorno mi dicono non sicuro arci sicuro arci sicuro molto bene e sono sempre del parere sì è sempre meglio la figa che qualche altra brutta avventura viva la figa hai visto sempre a prescindere Giuseppe assolutamente scusami è la cosa più bella del mondo non c'è dubbio è il frutto è il frutto più bello del mondo viva la figa sempre scusami scusami c'è un altro elemento che volevo farti è stata nominata Miss Olanda una transessuale è stato anche con l'uccello tagliato che ne pensi di questa notizia di oggi perché tu sei un bravo commentatore anche sul quotidiano ora arriva l'omotransfobia ne ho parlato nell'opinione ne ho parlato nella mia opinione questa è importante ho detto è una vergogna perché una vergogna scusa è donna ormai ho fatto un affronto fra lei ma perché una vergogna spadano perché una vergogna la confessa è una figa imperiale sì ho detto ma com'è possibile che gli olandesi abbiano votato questo tipo un affronto alla decenza umana ma perché ma che te ne frega a te hanno scelto una che si è fatta tagliare l'uccello che te ne frega a te ma non esiste non esiste non puoi nominare Miss Olanda un trans Giuseppe ma non è un trans si è tagliato l'uccello ha finito tutto il percorso stanno cambiando le cose non c'è niente da fare questo non c'è dubbio che stiano cambiando le cose grazie spadano alla prossima il mondo è cambiato il mondo è cambiato alla prossima alla prossima in nome di questo modernismo avete rovinato il mondo viva la siga non c'è dubbio viva la siga sempre viva la siga fermi tutti a luglio microtasso Ford arriva il conto arriva il conto della situazione ciao ciao amico mio ciao ciao e con noi Enzo Spadalino applausi buonasera a tutti eccoci qui che c'è che succede che succede no no guarda io me ne vado come te ne vai ma c'è ancora ma c'è ancora metà trasmissione da fare che sei che c'è se mai torno dopo non sto con quello lì mi dispiace perché è un vannacci che non ce l'ha fatta me ne vado no me ne vado perché non mi va dai topogigio dai topogigio dai topogigio dai resta non mi interessa non mi interessa ma vai a quel paese via sei andato in serio sei andato ti ha mandato a fare in culo ti ha mandato a fare in culo e via a quel paese ha detto un vannacci che non ce l'ha fatta un vannacci che non ce l'ha fatta le ultime performance magari magari fossi un vannacci le ultime performance di Enzo Spadalino sono nel segno del ho il morale a pezzi la mia povera Italia sconquassata secondo Enzo Spadalino la grande voce conservatrice del nord est l'Italia sta subendo una vera e propria invasione vai regia ho il morale a pezzi vedo la mia povera Italia sconquassata ripeto è in atto una vera e propria invasione non se ne può più basta e ora definiamola aveva ragione Calergi è in atto il piano Calergi sono anni che lo dico è in atto una sostituzione etnica sono frasi molto forti Enzo molto molto forti in cui io credo fortemente però ti prego tu stai dicendo che c'è una sostituzione etnica in costo ma dillo dammi una manciata di secondi innanzitutto grazie per l'invito dopo buon compleanno di vero cuore lasciami ringraziare un caro amico che mi ha portato fino a Milano l'avvocato Giuseppe non facciamo troppe marchette andiamo al soldo invito i tuoi radioscoltatori a seguire prima free emittente nazionale ricordatevi il canale qual è il canale qual è il canale 170 per essere informati lasciate stare i canali nazionali dicono solo sciocchezze per essere informati giustamente seguite seguite canale 170 Enzo Spatalino tutti i giorni da lunedì al venerdì 18.30 19.40 e poi l'opinione di Enzo Spatalino alle 20.30 scusa Enzo però tu hai detto che c'è l'invasione ma non ce ne frega un cazzo l'invasione hai detto che c'è sei in corso un'invasione di immigrati basta vedere quello che sta accadendo in queste ultime ore ma le hai chiamate i predoni africani le hai chiamate no mai detto predoni africani si predoni africani come no sono dei selvaggi ho detto come sei selvaggio perché sono selvaggi ma vengono dal deserto gente che si arrampicava sugli alberi ma non si poti non le cose leggere senti ma non si poti le gente che si arrampicava sugli alberi ma è la verità ma non è la verità non ti lasciare condizionare anche tu dal maledetto pensiero politicamente corretto mi hai letto nella mente quel maledetto politicamente corretto ha rovinato il nostro paese Giuseppe dobbiamo ribellarci viva Roberto Vannacci uno dieci cento mille Vannacci scusa mi un attimo però Vannacci non dice che sono dei selvaggi quelli là cioè non lo dice che sono dei selvaggi ma dal suo pensiero si intuiscono tante cose cioè secondo te sono dei veri quelli che arrivano adesso all'ampito sono dei veri e propri selvaggi ma dimmi tu cosa hanno di naturale ma come ti hanno di naturale sono esseri umani che arrivano esseri umani qui va la nostra solidarietà per carità però però non stanno fare un cazzo no non stanno fare niente vengono da un altro mondo dobbiamo avere il coraggio di dirlo e dunque bisogna respingere non bisogna farli entrare assolutamente bloccarli alla partenza utilizzare le nostre navi adesso si sono messi anche i carabinieri a fare cioè tu sei per il blocco navale tu sei per il blocco pur avendo votato Giorgio Almeno essendo un fan della Meloni critiche la Meloni sul blocco navale anche tu certamente sì per la mia coerenza devo essere coerente con le mie idee la sto criticando anche nelle mie trasmissioni mi aspettavo molto di più da questo governo non c'è dubbio perché il cuore è a pezzi perché il cuore è a pezzi perché sta vedendo l'Italia che sta subendo che cosa per musichetta prego sto vedendo l'Italia che lentamente va verso il burrone e io non posso fare niente per evitarlo capisci Giuseppe? lo so questa è la triste realtà quelli della sinistra hanno contribuito a rovinare il mio paese ma in che modo? c'è la destra al governo adesso? adesso sì ma chi vi fa arrivare questi migrati la sinistra il PD vi fa arrivare sai cosa ho capito Giuseppe? cosa hai capito? mi dai la possibilità di dire una cosa io per le elezioni politiche non andrò più a votare e voterò per le amministrative regionali dove posso far cadere la mia scelta su un candidato dove ci sono le preferenze non vado più a votare vabbè questo ce ne faremo una ragione Enzo ce ne faremo una ragione però per dei nominati dalle segreterie dei partiti hai capito? non vado più a votare sai perché? non cambierà mai niente l'Italia è una colonia americana addirittura è una colonia americana è una colonia americana ma chi vuol dire che sono gli americani che dicono questa cosa ti sta sul cazzo ma la melone è la principale alleata di Biden di quello che tu chiami Biden Biden Bide come cazzo lo chiami? purtroppo lei quando era all'opposizione si comportava in una maniera è andata a Roma innanzitutto è stata richiamata dal nostro presidente Mattarella va bene lasciamo perdere Mattarella è intoccabile qui Mattarella non tocchiamo Mattarella allora andiamo su Biden super partes Mattarella anche se a me non piace posso dirlo a me non piace viva Gossiga sì va bene d'accordo va bene epoche diverse esattamente e dunque e dunque è andata là è alleata e le ha detto voglio un c'è ti c'è ragazzina datti una calmata se non ti comporti come voglio io tu fai una brutta fine perché tu sei pro Putin e contro l'Ucraina per esempio certamente tu sei pro Putin 10.000 volte Putin ma come fa a piacerti Putin è un dittatore è un dittatore come fa a dire ma bisogna vedere perché ha reagito in quella maniera la storia va letta in un'altra maniera allora passiamo ad un altro argomento ricordati che siamo schiavi anche della Nato e della Unione Europea allora un'altra cosa caro Enzo che è la voce del nord-est è una a me io lo dicevo prima si avvicina molto a un prototipo di predicatore americano predicatore conduttore americano che si chiama Rush Limbo che era un morto adesso un grande conservatore conduttore radiofonico famosissimo negli Stati Uniti che guadagnava molto di più di quello che guadagna Spatalino e che è stato per tanti anni un grande fan del signor Trump ma anche Spatalino per esempio è un fan del signor Trump sono un trumpista convinto benissimo se ci fosse stato Trump la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata assolutamente non avrebbe sprecato neanche un proiettile a differenza di Biden quello che sta facendo una guerra per procura neanche un soldato americano è caduto ma tant'è ma tant'è per carità che ne pensi degli islamici che vengono in Italia degli islamici in Italia li cacciaresti tutti un'altra sventura un'altra iattura ma ci sono gli islamici moderati non ci sono solo quelli estremisti quante ragioni aveva la povera Uriana Fallaggi dunque tu cacceresti tutti gli islamici dall'Italia non ho capito tutti cacciati tutti cacciati perché hanno un altro modo di fare hai visto come traggono le donne eh sì quello è vero hai visto è un modello particolare scusa i matrimoni ti ho chiesto tante volte i matrimoni tra una persona extracomunitaria di colore o islamica e un italiano non possono funzionare secondo te falliscono nel 90-95% dei casi perché tu sei uno che vorrebbero gli italiani bianchi l'Italia bianca e cristiana anche qualcuno di colore ma che siano persone oneste qualcuno qualcuno pochi 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 di colore ma onesti onesti innanzitutto ma perché secondo te perché le donne si avvicinano a queste persone di colore a queste persone forse perché nessuno le guarda innanzitutto perché nessuno innanzitutto ma che te l'ha detto non hai detto magari si innamorano magari si innamorano si innamorano del proibito non lo so io penso che per la maggior parte dei casi sono donne che non hanno quelle necessarie attenzioni da parte degli italiani uno che ha 50 60 70 anni ma magari si innamorano di uno di coloro di un extracomunitario di un islamico è l'unica maniera per avere qualche consolazione anche fisica hai capito cosa pazzesca dai cioè a proposito le tue attività sessuali come vanno l'altra volta mi avevi detto che sono un po' in disarmo vista l'età vista l'età eccetera però dai mi difendo ancora bene un paio di volte all'anno un paio di volte all'anno 3-4 volte prostitute sempre no mai seppure contro la prostituzione io ho fatto per la prima volta all'amore a 18 anni si con una prostituta a 18 anni si me lo ricordo tua vecchia confessione adazzano in un casolare abbandonato non c'è bisogno di entrare nel dettaglio di quella prima esperienza sessuale fu quella donna che mi sverginò lo confesso poi non sono mai più andato con puttane assolutamente ma tu vorresti i bordelli in Italia aperti? certamente si su questo siamo d'accordo sarebbe la salvezza dell'Italia la giustizia fai da te quelli là che hanno picchiato quel ladro sei d'accordo con quelli che hanno picchiato quel ladro o no? certamente hanno fatto bene quelli che hanno picchiato il ladro indiano per difendersi ma no per difendersi per difendere la vecchia che era stata che era stata aggredita hanno fatto bene tu sei per la giustizia fai da te come fai a condannare delle persone che con coraggio intervengono per difendere una vecchietta ma non è che difendere quelli volevano picchiare quello là per governare il territorio no 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 per dare una lezione giusta a quel signorino a quel giannizzero quel giannizzero quel sacchetto quel sacchetto a perdere sicuramente quello rientra nella tipologia dei sacchetti a perdere allora una cosa prima di aprire le danze con gli ascoltatori caro caro spadalo ed è questa l'omosessualità bannacci ha detto che sono anormali gli omosessuali tu sei d'accordo con questa cosa non sono uguali non sono uguali a te non sono uguali a te per esempio è normale mi fai una domanda retorica indubbiamente io apportengo ancora alla schiera di persone che preferiscono andare con una donna però nulla vieta a un gomo di andare con un uomo allora io inorridisco di fronte a che solo ripeto inorridisco solo al pensiero di andare con un uomo di farmi inchiappettare o di inchiappettare un uomo non esiste non esiste viva l'amore normale ma se uno vuole farsi inchiappettare o vuole inchiappettare che male c'è? è che si lascia inchiappettare ma non mi compete quel mondo là questo lo posso dire ma prevalgono nella comunicazione Vannacci dice che troppi gay in televisione sei d'accordo? hanno dato negli ultimi tempi troppa tanta pubblicità al mondo LGBT è una sparuta minoranza troppa troppa pubblicità troppa troppa un'ultima cosa tra stupri e le donne che vanno in giro c'è un qualche legame c'è qualche volta qualcuno se la cerca qualche donna secondo te andando in giro così magari con l'amico o no in modo un po' mostrando le proprie grazie innanzitutto io sono per le donne che hanno diritto di camminare anche alle tre di notte per la strada ok? sempre però ci sono dei casi in cui si può parlare di provocazione io ho visto l'altra settimana alla stazione di Rovigo una ragazza che avrà avuto 18 anni con gli short aveva il culo quasi fuori e vanno ad alimentare nella testa di questi sbandati che non vedono la figa da anni e compagnia bella si precipitano ma non è vero è un rischio potenziale secondo me Giuseppe una cosa pazzesca allora prima ah no diritto per carità però sappi che tante volte tu rischi se giri un po' nudo un po' seminudo rischi no io se vado nudo la gente scappa per carità esattamente ma se una donna ho capito alle tre di notte va nuda per la strada ho capito perfettamente c'è Alessandra da Milano Alessandra da Milano dimmi Alessandra dimmi no io volevo rassicurare Spatalino sul fatto che qualsiasi uomo etero omosessuale che sia inorridisce a sua volta al solo pensiero di fare l'amore con lui primo secondo non capisco questa apartheid che sono donna e sto relegata in una stanzetta mentre voi uomini state nella stanzetta grande e terzo volevo portarti un regalo di compleanno stavo cercando un integratore per la prostata non l'ho trovato non c'è problema Alessandra mi dispiace tanti auguri gli integratori per la prostata non li prendo perché non ho bisogno dove sei di Milano originaria non di Milano Alessandra che pensi di Spatalino che pensi pensa tutto il male possibile l'ha detto lui non io io lo vedo di spalle di spalle sembra uno di quei pupazzi tipo ciccio bello mio quando sono un ciccio bello quando mi vestivi Alessandra ricordati che sono uno dei pochi giornalisti in Italia a lei è un giornalista no non lo dica ad alta voce la prego perché altrimenti mi fa vergognare perché sono giornalista anch'io mi vergogno e lei mi fa imbarazzo che fai parte del politicamente corretto ma che politicamente corretto io faccio parte semplicemente del gene corretto dopo che l'ho vista cioè nel senso calma calma ehi carissimo dimmi quanti immigrati ci sono in Italia dimmi quanti immigrati ci sono in Italia lo sai che parli di immigrati ma quale solidarietà tu parli a Vambra non mi fa resparlare che siamo in radio non posso dire parolacce vergognati tu bisogna avere il coraggio di andare in strada di dire basta a questa invasione basta che cosa quanti sono gli immigrati in Italia io prendo le distanze dalle persone come te e ora definiamola vergognati ignorante 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 tu che non sei l'altro non ti segue nessuno se non fosse per cruciare nessuno conosceva il tuo nome cosa non farei per avere 5 minuti per guardarti negli occhi vabbè lo girati sto qua e per guardarti nelle palle degli occhi per dirti boccalmente che io non mi rivedo nel tuo pensiero politico ma quale pensiero politico è una questione di logica no non è logica tu fai parte della compagina dei sinistroidi credimi ma che sinistroidi senti bello quanti sono gli immigrati in Italia quanti sono gli immigrati in Italia lo sai lo sai o non lo sai esatto esatto non lo sai no più o meno più o meno più o meno dimmi più o meno dimmi più o meno dai dimmi più o meno ce la puoi fare dimmelo anche 10 persone ignorante ignorantone dice apparenzo di confrontarti sugli argomenti ma poi sull'argomento non sai dire niente dice apparenzo che deve confrontarsi sugli argomenti ma tu sugli argomenti non sai niente prima di tornare a Padova vieni qua vieni qua in sede ti aspetto svegliati ti dico boccalmente quello che penso di te è dei compagniuzzi sinistroidi come te dimmelo adesso dimmelo adesso non ti tirare indietro vigliacco dimmelo dimmelo che ne sai cosa voto io dimmelo ma da come parli da come parli è sintomatico sei una compagniuzza di sinistra sei una compagniuzza faccia curare problemi di salute ho al massimo una griglina fermi tutti fermi tutti Luca dall'Aquila sentiamo Luca dall'Aquila calma se no diventi tutto paonazzo e beh tu hai fatto preparare tutto adesso una rappresentanza di persone che non la pensano come me e io sono pronto sono il bersaglio fammi sentire quest'altro signore Luca dall'Aquila Luca dall'Aquila viva l'Abruzzo io ho un amico che si che è Luca dall'Abruzzo anche lui Luca dall'Aquila dimmi Luca sono proprio io dagli auguri Giuseppe buon compleanno non me ne frega niente dai che cosa vuoi dire dai ma quanto sei stupida questa Alessandra da Milano no stavo a dire ma quanto sei stupido te ascemo ma tu sei più scema di me calma 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 tutti calma tutti un attimo Luca che cosa vuoi dire a Spadalino cosa voglio dire di andare avanti e di tenere duro lo so parla in una maniera un po' colorita un po' saggio ho capito Andrea da Piacenza vai Andrea dimmi eh pronto buonasera auguri Cruciani saluti Enzo Enzo io volevo chiederti una cosa tu te la prendi sempre con Parenzo per le sue presunte raccomandazioni no? sì ma hai mai pensato che il motivo del tuo fallimento come persona e come giornalista ma perché devi dire che è un fallito perché devi dire che è un fallito ah non lo so Giuseppe perché è una persona che parla di persone come sacchetti dell'immondizia tu come lo definisci? è una metafora è una metafora a parte che è una metafora ma non ho detto sacchetti per l'immondizia ho detto sacchetti a perdere sacchetti a perdere esattamente ci sono sacchetti a perdere per tanti usi non solo per l'immondizia Enzo tu solo in Italia potevi avere un emittente che ti dava parola ecco seguimi aspetta scusa non ho capito vabbè basta Alessandra come lo definisci un razzista tu spadalino? ma assolutamente un razzista un omopopo un sessista una persona ignorante che dice sempre a Parenzo di confrontarsi sugli argomenti ma quando poi gli fai una domanda non sai neanche quanti migranti ci sono in Italia quindi fondamentalmente parli di migranti migliaia ignorante migliaia lo stai scherzando ma quant'è la popolazione italiana? allora ti faccio un'altra domanda come a scuola ti do la seconda opportunità ti do la seconda opportunità di quante persone è fatta la popolazione italiana? ma che c'entra questo? beh perché devi fare la proporzione caro mio perché come fa a essere un problema? che è razzista? perché dici che è razzista? perché parla di sacchetti a perde? anzitutto perché usa termini d'odio usa termini d'odio e di discriminazione sono più di 50 milioni di abitanti ma perché perché dici che è omofobo per esempio non mi sembra che sia omofobo ma prima parlava del fatto che lui fa parte della vecchia schiera e che le persone omosessuali che poi voi parlate sempre di persone omosessuali ma c'è gente che non si identifica in nessun genere e che è non binaria per esempio e dice che non sono normali scusami ma tu dove lo vorresti Vannacci? dove lo vorresti? io lo vorrei in Parlamento con te con te primo ministro presidente del consiglio Roberto Vannacci beh una grande l'Italia cambierebbe nel giro di sei mesi grazie grazie Enzo a presto fermi tutti fra poco torniamo ciao ragazzi grande Enzo Spatalino ciao ma grazie ciao grazie let's go un pomeriggio dagli studi di Prima Free siamo a Rodrigo ben ritrovati di cuore con questa edizione speciale della Voce d'Italia abbiamo come ospite un personaggio televisivo radiofondico nazionale oltre che un mio caro amico lo presento subito per evitare di perdere tempo perché dobbiamo tesoreggiare perché fra meno di un'ora ci dovrà lasciare Giuseppe Cruciani noto opinionista eccoci qui ciao Enzo nazionale e conduttore di quella fortunatissima trasmissione che si chiama la zanzara dove ogni tanto compari anche tu dove ogni tanto mi coinvolgi mica ti ti ci porto a forza però senti adesso i ruoli cambiano sono io ad intervistarti e vai iniziamo faccio conoscere dal mio pubblico che mi segue fedelmente chi è Giuseppe Cruciani come nasce questa avventura tu sei laziale dai raccontaci un po' fatti conoscere meglio e più da vicino ma che mi fai le domande alla Marzullo cioè mi fai delle domande alla Spatalino poi ti coinvolgo anche un po' sull'attualità c'è una notizia bomba che viene dal Tribunale di Catania che notizia dimmi anticipiamo l'attualità il Tribunale di Catania ha liberato dei personaggi un po' strani non li voglio definire in una certa maniera perché erano stati messi dentro il Tribunale di Catania ha ritenuto illegittimo il comportamento del governo non si doveva comportare in una certa maniera è un tunisino logicamente le organizzazioni di sinistra hanno fatto il ricorso per mettere in difficoltà il nostro governo ma io voglio prima che tu ci dica come nasce il personaggio Giuseppe Cruciani ma non nasce in nessun modo io mi sono trovato a fare radio a Radio Radicale tanti anni fa con Pannella seguivo Pannella qui stiamo parlando dell'inizio degli anni 90 poi ho lavorato in vari giornali di indipendente con Vittorio Feltri che mi ha assunto all'indipendente poi a un certo punto sono andato in Francia a fare la televisione e non sapevo che fare e casualmente mi sono trovato a Radio 24 casualmente non ho mai fatto nulla se non casualmente non ho mai ma forse non ho mai voluto fare nemmeno il giornalista lo speaker radiofolico a un certo punto mi sono messo a cercare di creare qualcosa di nuovo ed è venuta fuori questa cosa che si chiama Zanzara che come sai è una sorta di è diventata una trasmissione culto diciamo una delle più seguite a livello nazionale però mi dicono che all'inizio tu ti comportavi differentemente in che senso eri più tranquillo sì molto più tranquillo cosa ha provocato questa trasformazione in corso tale da catturare maggiori attenzioni ma guarda devo dirti la verità forse hai trovato la strada giusta per farti seguire ma non è che ho deciso scientificamente che doveva essere il momento per diciamo per comportarmi in un certo modo per dire le parolacce per essere più diretto per essere più franco eccetera è che a un certo punto è successo che non volevo più fare il vigilo urbano cioè non volevo più fare quello che diceva come la pensi tu adesso passiamo a intervistare quell'altro adesso come la pensa quell'altro destra e sinistra così ho cominciato a esprimere le mie opinioni e esprimendo le mie opinioni mi sono adattato a un linguaggio che è quello popolare della gente nel bar e volevo ricreare un'atmosfera da bar e volendo ricreare un'atmosfera da bar poi con gli anni si è creato un'atmosfera ancora più da bar ancora più da strada e poi ci sono stati i personaggi quelli che hanno lavorato con me a questa cosa è avvenuto quasi per caso sono un po' tornato bambino diciamo ragazzo sono un po' tornato ragazzo dove ogni tanto c'è l'ira che viene fuori che non è repressa c'è l'incazzatura c'è la parolaccia c'è un modo di fare sbrigativo quando non ne puoi più non c'è un ruolo formale che è quello del conduttore e anche tu sei un po' così alla mia maniera senti un attimino tu più tardi sarai a Vicenza per esempio alle 18 se non sbaglio alle 18 e 30 dovrai essere alle 6 per prepararti Giuseppe Cruciani presenta Coppie non so se la se la regia può far vedere meglio il il titolo del libro Coppie sì la copertina storie storie di storie di aspettate ragazzi eccolo qua trasgressione un po' il tuo forte possiamo dire è il tuo terreno ideale per cimentarti assolutamente no ma io ho raccontato alla radio tantissime storie di coppie di trasgressioni di coppie scambiste quello che tu non conosci diciamo un terreno che tu non conosci assolutamente no tu sei uno io sono un tradizionalista quando fai le cose le rare volte le rare volte che le fai in cui ti capi devi fare le cose le fai one to one diciamo bravissimo tetto a tetto esattamente non ho mai partecipato non ha mai allargato no mai 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 un orgettino un piccolo orgettino assolutamente mai mai ma ti fanno anche schifo o no? no schifo no ma non ho esperienze non ho esperienze eppure a 70 anni potresti anche averne hai ragione potresti anche averne comunque io racconto storie di coppie che hanno relazioni sessuali anche con altre persone all'interno della coppia e come riescono a raggiungere un equilibrio un equilibrio perché non sempre perché non è detto che uno tradisca e non ami la persona con cui sta insieme tu hai tradito qualche volta nella vita Enzo? mai tu non hai mai tradito quando sei stato insieme una donna non hai mai tradita durante la permanenza mai durante la permanenza mai e sei orgoglioso di questo? abbastanza sei abbastanza orgoglioso tu sei uno tipico da Dio padre e famiglia ah sempre sempre hai toccato un tasto dolente non mi vergogno di dire che sono un gran conservatore per me la famiglia è composta da uomo donna che si mettono insieme e fanno figli sai quelle famiglie senza nulla togliere il mondo LGBT che non ti piace che non ti piace assolutamente non ti piace mondo omosessuale non ti piace assolutamente mondo transessuale noi fra qualche secondo apriamo i centralini era quanto mai opportuno coinvolgere Cruciani per la sua storia ne avrei altre domande da fare vai 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 per far conoscere però prima di raccogliere le telefonate mi raccomando noi non prendiamo telefonate anonime ci deve essere necessariamente il numero di cellulare e anche se mi volete attaccare perché ci saranno tantissimi pronti a saltarmi addosso quelli che mi odiano tanti compagnucci di sinistra lo potete fare ma senza offendere se no chiudiamo abbiamo deciso insieme a Giuseppe e all'editore Alessandro Brunello che ringrazio per aver dato la possibilità di fare questa trasmissione perché abbiamo un po' sconvolto la programmazione mi raccomando serietà e correttezza aspetto la risposta su cosa del tribunale di Catania ma non lo so che è successo dimmi quello che è successo perché hanno scarcerato uno hanno liberato uno che aveva fatto sì aveva fatto delle robe la motivazione fa discutere perché i giudici catenesi hanno ritenuto illegittimo il comportamento adottato seguendo le norme di questo governo dell'espulsione il legittimo decreto del governo su espulsione accelerate liberato tunisino dal centro di Pozzalbo esattamente liberato tunisino e vabbè possiamo dire che la magistratura ci mette del suo potrebbe stare un po' più attenta prima di rilasciare questi signorini o no che tu definisci come questi signorini che tu definisci come qualche volta li definisco sacchetti a perdere ma non tutti siccome ci sta seguendo l'Italia intera dammi 30 secondi affinché io possa tracciare la figura cosa intendo per sacchetto a perdere il sacchetto a perdere è quello che viene in Italia approfitta delle nostre leggi per spacciare violentare le nostre donne lordare nelle strade fanno di tutto e di più ecco quello è il sacchetto a perdere e io non darei spazio a quella gente senza alcuna offesa poi libero spazio a quelli che si vogliono inserire che ci danno una mano a lavorare eccetera ma i sacchetti a perdere devono stare in Africa quelli che tu quelli che vengono con i barconi tu li consigli la maggior parte i sacchetti a perdere no no in gran parte non la maggior parte in gran parte è uguale in gran parte la maggior parte è differente perché ci può essere anche il buono l'onesto eccetera ma hai visto le facce sono tutti giovani e forti con il cellulare in mano dai è ora di finiamola è ora di finiamola possiamo aprire i centralini ma apriamo ma sono qui apposta per aprire i centralini mi raccomando stai attento appena mi offendono perché sarà un viavaio di offese nei miei confronti sono preparato ma è benissimo che ti offendano qual è il problema devi rispondere che te ne frega se ti offendono no se no facciamo un mercato io ho il mio pubblico che mi stima che mi vuole bene sai cosa mi dicono a volte che ti dicono Enzo quando vai da Cruciani è certo fatti rispettare ma cosa devo fare devo ubicare la scrivania e buttarla io sono rispettoso per me l'ospite è sacro senti e oggi Giuseppe Cruciani per me è sacro mi raccomando anche i miei non offendete Cruciani criticatelo no ma offendetemi pure se volete offendetemi non è un problema scusa che pensi del matrimonio omosessuale tu Enzo è un aborto contro natura è un abominio è un abominio dillo bene ai tuoi ascoltatori è un abominio ecco un abominio l'idea che un uomo è un uomo una donna è una donna possono andare a sposarsi lo possono fare sì nulla a questo per carità però per te è un abominio è un abominio sono d'accordo non si possono amare due uomini e due donne si possono amare ma è contro la natura il Signore ha creato l'uomo e la donna per procreare vogliamo prendere questa è la classica incarnazione di Dio padre e famiglia cioè chi pensa e non mi vergogno di incarnare Dio padre e famiglia sono un conservatore non mi vergogno di dirlo per carità perché se l'Italia si comportasse in una certa maniera si seguisse di più i consigli spataliniani penso che andremmo un po' meglio ma siamo quasi alla deriva ok questo è interessante se seguisse i consigli spataliniani l'Italia andrebbe meglio allora da questo momento io ve lo giuro terrei i cruciani fino alle 8 stasera faremo bingo ma deve andare via eh sì purtroppo deve andare via noi saremmo disposti a bloccare la programmazione Brunello ha detto tientelo quanto più possibile Alessandro ha detto che alle 4 e mezzo va via via con le telefonate che pensi di vannacci? vannacci è un grandissimo come ho detto nel tuo studio uno dieci cento mille vannacci l'Italia potrebbe riprendersi se ci fossero più vannacci in giro per l'Italia se tu metti di fronte vannacci e la Schlein vannacci e la Schlein è una domanda retorica la tua retorica voglio capire la bilancia pende tutta da vannacci che cos'è che non ti va bene della signora Schlein e l'Ischlein innanzitutto deve usare un linguaggio più accessibile non si capisce quando parla fa pugni con l'italiano cioè spatalino diciamo ha un'addizione un'addizione più pulita fra me e la Schlein lei ha fatto carriera io non l'ho fatto per carità però a livello di italiano poi io odio il politicamente corretto mi hanno fatto il lavaggio di cervello la capitana la presidenta tu i termini al femminile non li sopporti ma no parliamo mi hanno insegnato di dire il presidente il capitano su questo devo darti ragione ma io sono convinto che tu su tante cose potenzialmente sei spataliniano ideologicamente sei spataliniano sono spataliniano allora pensa Parenzo cosa potrebbe dire se io ti dichiaro spataliniano mamma mia ti ho pronunciato il nome di Parenzo mamma mia ti ho pronunciato il nome di Parenzo dopo Gigio mamma mia pensa quando ti dico Parenzo Parenzo la tua reazione qual è io lo conosco meglio di te ma io ti dico Parenzo qual è la tua reazione Parenzo allontanarmi il più che è possibile addirittura assolutamente se tu conoscessi veramente scoppiare i centralini se mi risponde te l'hai conosciuto va bene dai che succede che sta succedendo c'è l'editore che ha protestato perché sta scoppiando il centralino mettiamo qualcuno in onda però se sta scoppiando il centralino adesso mi fermo era mia intenzione chiedo scusa confrontarmi con Giuseppe Cruciani lui lo fa sempre quando mi invita a Milano o a Trento stavolta l'ho fatto io credimi sei uno sparring partner eccezionale viva Cruciani dai con le telefonate andiamo prego silenzio assoluto pronto? pronto buonasera si ciao ciao Enzo senti ho chiamato ho chiamato soltanto perché so che in questa trasmissione si confronta sui contenuti e volevo sapere in poche parole perché tu soffri di sindrome di Stoccolma e tu perché tu sei come uno degli africani che adesso non abbiamo in Italia tu sei scappato dalla campagna e sei andato al nord in Veneto e sei stato adottato dai bifolchi quindi qual è la differenza che sei scappato dalla campagna e un africano io penso che tu sei come un africano in poche parole non ti sei presentato eh nome e cognome oppure solo nome sei uno sei un sacchetto a perdere sei un sacchetto a perdere uno che parla come te è un sacchetto a perdere sei un sacchettone a perdere perché io sono orgoglioso di essere io senti senti te lo dico il napoletano senti tu si come amunnez sai cosa vuol dire tu si amunnez tu sei sei l'immondizia dai abbassalo sto figlione fammi sentire meglio che ti deve dire è un minuto ma lo devi far sentire però non lo fai sentire sentiamo come si chiama prendere un altro prendere un altro un altro sacchetto ero preparato a questo fuoco incrociato appunto sentiamolo però dico soltanto sto sacchetto a perdere io sono orgoglioso di essere campano e volevo solo ricordarti che ho vinto un regolare concorso senza raccomandazioni e ho avuto la fortuna di essere mandato a Venezia che io adoro mi sono rimboccato le maniche ho superato le prime difficoltà iniziali è lui che fa nella vita invece ce lo dica che fa nella vita ma lui sarà un fallito sarà un mezzo fallito ma facciamoglielo dire Enzo sarà un mezzo fallito che fai nella vita mi metto sulla stessa strega degli africani dai e ora definiamola comunque ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso dai passiamo ad un'altra telefonata sono preparato a tutto eh lo so ti vedo spero che ci sia qualcuno che spenda una parola positiva nei miei confronti vediamo le telefonate sono anche casuali purtroppo parto sconfitto perché con Cruciani logicamente con il suo pubblico era inevitabile dai vediamo qualcun altro dai buonasera pronto pronto buonasera buonasera Enzo un vero leone un vero combattente ah meno male dai una domanda a Cruciani una domanda a Cruciani ma perché non cacci Parenzo quello raccomandato di ferro e il studio può si che è un suo paralino della combattente questa è una domanda ridicola ognuno c'è il suo contetto è una domanda ridicola è una domanda ridicola lui è un grande combattente viene sempre denigrato il povero Enzo numero uno un vero combattente ma che sia un combattente non c'è dubbio non so se tu stai dicendo sul serio oppure lo stai pigliando per il culo questo non riesco a capirlo no io lo stimo dal tono dal tono sembra serio sembra serio comunque la risposta la proposta è rifiutata perché ognuno ha il suo contesto Parenzo sta lì con me a combattere è un combattente anche Parenzo oppure ti spaventi al solo nome di Parenzo ti metti ti viene qualcosa quando io no quando io dico Parenzo volevo ricordare a te ai parenziani e allo stesso interessato che sono cinque anni è opportuno che voi sappiate sono cinque anni dal 2018 che io aspetto democraticamente da questo signorino un confronto leale su temi da lui scelti democraticamente e lui si defila sempre dovete saperlo il signor Parenzo quando vado lì non accetta il confronto mai mai offende è bravo solo ad offendere oltre a essere un raccomandato di ferro questo è grave quello che stai dicendo è molto grave lo so tutta l'Italia ma stai dicendo una cosa gravissima comunque continua se non avessi avuto i suoi santi in paradiso lui non avrebbe fatto quello che ha fatto e che sta facendo hai capito ci sono tanti bravi ragazzi che non hanno le stesse conoscenze e non fanno carriera comunque dite a Parenzo sono pronto a confrontarmi sui contenuti legalmente davanti a due tre giudici magari fare anche 20-30 righe su un compitino vediamo chi scrive meglio vediamo chi parla meglio ma lui ricordiamo sempre che Enzo è laureato ricordiamo sempre vabbè io non amo dire le mie cose ma sono laureato mi sono laureato a Venezia in cosa? all'università degli studi di Venezia a Caffoscari sono un Caffoscarino economia e commercio vai a dire al signor Parenzo se è laureato vai glielo a dire penso che lui farebbe carte false addirittura farebbe carte false Parenzo per una laurea per una laurea che non ce l'ha e lui soffre vabbè andiamo avanti dai andiamo avanti con un'altra telefonata per il momento uno a uno dai uno a uno sì vediamo gli sviluppi ma le scelgono apposta secondo me no c'è un bilanciamento fatto comunque ti assicuro uno a uno dai ma non era a favore sicuramente sarò perdente no no non è detto non è detto è schiacciante la tua superiorità dalla regia la tua visibilità dalla regia dalla regia con blocco la regia mi ha fatto segno che ci sono anche dei messaggi ah li stai facendo scorrere intanto prendi un'altra telefonata regia chiamala pronto sì pronto buonasera sì sì ecco c'è Lino Romano sì ah Pasquale Lino Romano sì che dice sto chiamando non riesco a intervenire eh ho capito Lino non lo so i centrarini sono bloccati prova prova Lino prova prova a rifare il numero intanto prendi questa telefonata dai prendiamo quant'è quant'è ti sei pesato ti sei pesato mi raccomando spegnete il viva voce per favore altrimenti è una condizione che ci impedisce di sentirci buonasera buonasera prego chi parla ci puoi dire il tuo nome certo Roberta D'Agostino Roberta D'Agostino un cognome meridionale eh sì sì dimmi Roberta prego sì io devo parlare dei giovani d'oggi che prendevano il telefono dei giovani d'oggi dei giovani d'oggi e poi è caduta la linea è caduta la linea prendiamo un'altra dai velocemente dai parla tu con la regia ma che parlo io con la regia parla tu il programma è tuo mica io dai ma devi sapere una cosa che a differenza di quanto accade alla zanzara da me l'ospite lo sanno i miei telespettatori è sacco ho capito ma non devo condurre io le danze sei tu a condurre le danze chiama la regia con le telefonate dai chiama tu i tuoi supporti ma no ma chiamassero loro i tuoi fans stanno chiamando stanno chiamando buonasera dai prendini un'altra di telefonata pronto? mi sentite? sì sì forte e chiaro ci puoi dire come ti chiami? mi chiamo Francesco da Venezia ciao Francesco prego innanzitutto vorrei fare il complimento al dottor Spadalino un grandissimo sì perché è l'unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno riguardo al dottor Parenzo anzi questo è un cretino questo è un imbecille ma perché? perché sta parlando bene di me ma questo è un imbecille quello che ha parlato bene è che mi ha offeso quello non è un imbecille perché non posso parlare bene del tuo Spadalino ma sì puoi parlare bene anche di Spadalino per carità ma inizi la telefonata così dicendo è un grande per quello che dice su Parenzo adesso mi tocca difendere Parenzo dai dai che non funziona dai che non funziona dai dimmi hai ragione Francesco hai ragione hai ragione da vendere io mi auguro che dopo questa trasmissione Parenzo raccolga il mio pressante accorato invito a confrontarsi civilmente democraticamente su temi che sceglierà lui ma dove? dove lo vorresti fare? in un'arena? in una piazza? anche alla Zanzara però non deve offendere perché appena vengo là lui la mette sulla rissa mi porta sul suo terreno favorevole ma tu l'avresti picchiato anche quel giorno? l'avresti menato a Trento a Trento gli avresti dato uno schiaffo a Trento uno schiaffo glielo avresti dato uno schiaffo e confessalo avevo usato espressioni esatto offensive nei miei confronti ti sei alzato per dargli uno schiaffo uno schiaffo diciamo democratico come dice lui ma forse mi sarei fermato dai mi sarei fermato mi sarei fermato grazie al tuo intervento non è successo niente io vi ho diviso vi ho diviso vi ho diviso come ho fatto con Sgarbi e con Mughini ciao Francesco posso continuare? sì dai velocemente hai ancora? hai una domanda siccome lei ha il libro in mano il libro in mano di Tuscani volevo chiedere se lei avesse qualche diciamo qualche come dire qualche passione strana fuori dal comune a livello sessuale da confessare questo è interessante questo è molto interessante un tuo fan ascoltatore ti sta chiedendo sta chiedendo a te no 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 sei tu l'autore del libro attenzione no a chi lo sta chiedendo a Enzo oppure a me? ha chiuso a Enzo a Enzo a te lo chiedeva a Enzo se tu hai ma sei tu l'esperto sessuale io invece lo chiedo a te io sono un nostalgico di queste pratiche come che vuol dire un nostalgico? hai capito? che non ricordo nei tempi però scusa avrai una tua fissazione sessuale avrai una tua un tuo un tuo la cosa che ti piace di più sessualmente qual è? ci sarà una cosa no? ebbene sì e diciamola Enzo dai qual è? la penetrazione vabbè la penetrazione però è una cosa normale non è una cosa strana no perché molti amano essere baciati di qua di là ah tu no a te il bacio non piace ho incontrato una persona sì tanti anni fa sì che era brava a fare altre cose beh che le cose che si sanno no? cioè la la fellazio per esempio bravo bravo la fellazio la fellazio però io amo la penetrazione tu ami soprattutto e poi sono molto abile ero abile nel baciare scusatemi il cunnilingus il famoso cunnilingus cunnilingus bravo come si chiama? la bernarda sì vabbè sì diciamolo anche anche nelle situazioni più precarie e difficili che vuol dire più precarie e difficili? se mi davano la possibilità di andare a dama era fatta a dama anche perché io sono un cultore del cunnilingus esattamente cioè tu sei perché naturalmente col passare degli anni è evidente fai esperienza è meglio la lingua piuttosto che la fatica la fatica anche perché parto da un presupposto sì la donna va scaldata beh quello i preliminari acquistano per me un'importanza fondamentale toccare verificare vedere che è possibile annusare baciare quindi quei 30 minuti di preliminari sono fondamentali 30 minuti 30 minuti vabbè minimo minimo ma la tua età tu non ti fai nemmeno problemi la donna si deve girare nel letto ci saluta Andro Mercu che ha mandato un messaggio c'è da te Giuseppe sì ci saluta Andro Mercu sì sì qui è tutto in diretta tutto tutto in diretta viene l'editore non so se Mercu ha mandato a me un messaggio a te forse a te forse Andro sì vabbè prendiamo un'altra telefonata prendiamo un'altra telefonata ok hai raccontato una cosa molto eccolo qua mi seguo siamo al top un abbraccio a Giuseppe un abbraccio a Giuseppe a Enzo e a Alessandro posso dire Andro Mercu grande Andro ciao posso dire una cosa tu hai confessato una cosa molto intima molto intima in questo momento che sei un amante del cunnilingus anche nelle situazioni più scomode anche nelle situazioni più precarie hai detto tu ma sempre da soli mai in coppia cioè mai con altre come mai da soli che vuol dire da soli mai in coppia con la donna ah sì mai con altre persone mai mai fatto un'orge in vita tua mai mai sono un individualista un cultore sono alla ricerca del particolare molto bene che non puoi trovare quando sei in tanti hai capito beh sì puoi trovare tanti particolari ti distrai ti distrai ti distrai prendiamo un'altra telefonata davanti buonasera Enzo sì Enzo ma scusami ma ha di pazienza io ho appena pranzato vai sto pezzo di cacca chiudilo chi è chi è chiudilo appena pranzato ha detto fallo parlare chiudilo fallo parlare prima è un elemento non dico il nome perché se no mi denuncia ma no fallo parlare è un essere spreggevole ma chi è è il padovano più spreggevole che io abbia mai conosciuto ma ho capito e mi meraviglio come la regia l'abbia fatto entrare in contatto con noi ma fallo parlare però è un no non merita di parlare con me ma ho capito fallo parlare con me potevo affrontare boccalmente e guardarlo nelle palle degli occhi ma chi è è ancora lì non lo hanno buttato giù e guardati le spalle ma non lo so chi è hai troppa fiducia ma no ma non è quello che pensi non è chi pensi ma non mi pare proprio la persona a cui mi riferisco non c'ho il nome è una carogna addirittura putrida è un pezzo di merda se mi stai sentendo sei un vigliacco ma chi è pezzo di merda dimmi il nome eh no il nome di battesimo solo quello di battesimo per carità di Dio ma il nome di battesimo non denuncia nessuno è scorrettissimo le usa tutte ti mette in difficoltà ti mette contro le persone ma è di una slealtà te lo giuro sull'anima di mio padre e di mia madre ma non c'è bisogno sull'onore della mia famiglia che è sacra sì d'accordo è un pezzo di merda addirittura ma perché sei così a Bernardo ho dovuto bloccargli anche le telefonate di qua di là per caso lui vorrebbe che io intervenissi nella sua sporca trasmissione scusa ma è per caso uno che che si chiama A di nome A di nome inizia con l'A il nome non lo so non lo so non lo so comunque andiamo non devo dare adito a denuncia eccetera ma non c'è nessuna sto parlando nel vuoto ma lui mi sta ascoltando quel pezzo di merda non è amato a padova da nessuno hai il vuoto attorno ricordati nessuno ti ama nessuno ti stima perché sei un imbroglione sei scorrettissimo non rispetti niente saresti capace di passare attraverso il cadavere dei tuoi genitori è molto grave questo pur di raggiungere il suo obiettivo è molto molto grave quello che stai dicendo poi ti dirò a microfoni spenti ma io ho già capito la sua spietatezza e ti devi guardare le spalle te lo giuro su Dio ma ho capito Enzo non aver fiducia in quell'individuo è pericolosissimo ma deve essere successo io faccio i tuoi interessi ma deve essere poi il tempo scusami il tempo è galantuomo deve essere successo qualcosa di grave ricordati il tempo è galantuomo mi ringrazierai mi dirai Enzo avevi ragione quel sabato 30 settembre a Rovigo a prima fri a parlare male di quel signorino comunque sta funzionando bene il tutto sta funzionando perfettamente altre telefonate ecco vedi è stato capace di passare davanti a tante altre telefonate anche e come fa a passare davanti non lo so spero che non abbia convinto qualcuno in regia perché se no mi incazzo se no è la volta che vado via da prima fri se l'avete fatto passare è finita non mi vedrete più a prima fri se è stato un complotto se ho la certezza che la telefonata è il frutto di un accordo vado via mi dispiace io ho rovinato la mia vita la mia famiglia la mia carriera per essere come sono nel bene e nel male per essere coerente se so che l'avete fatto passare è finita la mia esperienza a prima fri beh qualcuno l'avrà fatto passare con un numero di telefono questo è sicuro è vero che abbia usato un numero diverso ma non lo so secondo me c'è lo zampino di qualcuno io non so di chi perché io abbiamo detto io non dico di chi ma secondo me c'è lo zampino di qualcuno sicuramente posso dirti c'è chiaramente lo zampino di qualcuno chiaramente lo zampino di qualcuno questo non c'è dubbio io chiedo scusa anche a questi vicini qua perché hanno sentito gridare abbiamo un circolo i vicini di brava gente qui ma che è la porta accanto che si sentono i vicini si sentono tutti esattamente ma che cazzo di studio è questo qua scusa che ci sono i vicini accanto con un bar con un circo quindi chiedo scusa per il fastidio che ho arrecato non volendo ma mi sono un po' incendiato alla mia maniera vabbè ma è giusto che fai così andiamo con le telefonate dai pronto? adesso potete dirmi su di tutto buonasera pronto buonasera sono Emanuele Padova buonasera ciao Emanuele innanzitutto complimenti questa è una trasmissione da premio Pulitzer due grandissimi giornalisti entrambi preparatissimi ecco il coglione ecco il coglione ecco il coglione come dico sempre come dico sempre Enzo è veramente un giornalista di peso ma sono peso e tu sei un coglione io sono di peso ma tu sei un coglione guarda caso perché si irrita e tu hai cominciato a fare il sarcasmo e beh scusami lei pensa di non meritare il Pulitzer lei pensa di non meritare il Pulitzer non penso di meritarlo carissimo non penso chiudilo chiudilo no non che chiudi lascialo parlare non ha insultato lascialo parlare ci sono tanti altri che mi stanno dicendo non riusciamo a prendere la linea e ho capito lascialo parlare sto coglione dice solo sciocchezza ma non ha detto niente ma non ha detto niente posso dire che sono il padrone di casa chiudilo ma non ha detto niente per adesso e ha detto se non accetti manco la presa per il culo che facciamo lascialo parlare adesso l'aiuto lascia perdere e chiudiamo chiudiamo la telefonata qui c'è però una divergenza di opinone tramite su come prendere le telefonate io però ho grande rispetto sei il padrone di casa e fai quello che vuoi per carità cioè assolutamente hai ragione devo maturare no no io non ti voglio devo maturare io sono un sanguigno gli ebeti le carogne non le sopporto ma sei bravo ma devi affrontarle io ti darei un premio ma devi affrontarle raddoppierei il tuo appannaggio perché sei bravo magari potessi sei bravo a sopportare tanti sacchetti a perdere tutti i compagnucci di sinistra guarda caso dai prendi un'altra telefonata come mi piace il tempo corre mamma mia quando fai così mi fai impazzire sei il numero uno mamma mia quando fai così sei il numero uno sono me stesso bravissima andiamo avanti buonasera buonasera siate critici ma non no parlate soprattutto parlate soprattutto parlate parlate lasciate stare dai dai scusami prego pronto pronto buonasera 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 si può parlare si 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 può parlare avanti forza allora cruciati complimenti a lei tanto si si però non ci faccia annoiare vado avanti seriamente io sono io Enzo ci annoiamo facilmente qui lei deve essere concreto deve dire una cosa concreta reale una critica un attacco una sua opinione questa è l'opinione alla fine resta sempre l'opinione di Spatalino no per cui si dicono opinioni dica l'opinione velocemente non ci rompe i coglioni dai no 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 se ce le avete intanto eh se ce le abbiamo questo ci sta ci sta chiedendo se abbiamo i coglioni quando si parla per cose bisogna averle bisogna averle benissimo è facile dire rompimi i coglioni ma ce le avete i coglioni tu ce le hai i coglioni ti sta chiedendo l'ascoltatore fino a prova contraria no no tu io parli non ho capito parli di me no parli di tutte e due per dire la verità più o meno fino a prova contraria controlliamo un attimo controlliamoci un attimo poco tempo per rimasto si chi finirete non ho capito Benito non torna Benito non torna e dì a lui forse a me non me ne frega niente di Benito pure a lui non frega niente di Benito ti sta chiedendo di Benito non sei sicuro che non gliene frega niente a lui non lo so te ne frega di Benito dall'accento mi sembra un amico calabrese sei calabrese non se ne appare che ti riguardano no dall'accento perché ho tanti amici calabresi che hanno la tua stessa cadenza scusami se mi sono permesso dunque non ho capito ma stai zitto di che pari cioè prima interviene poi sta zitto tu sei occupato col telefonino ma che trasmissione è? c'è una telefonata da Napoli da Napoli tu parli al telefonino mettiamo il viva voce pronto? dove si mette il viva voce? mamma mia Enzo non sai mettere il viva voce? porca puttana dai forza eccoci alza il volume ma non si sente niente poi in televisione perché avevo messo la vibrazione Lino è Lino da Napoli prego mettilo qua mi senti mi senti spadalino? si si allora io voglio dire una cosa no a questo giro a questo giro Parenza è giù a metì cioè tu praticamente c'è lei non è migrante e tu sei un traditore di Napoli che sei andato a venire in Veneto e in più fai il giullare di corte delle destre fammi capire tu sei un Savoia spadalino io non mi credevo che tu eri un traditore è un traditore di Napoli ma io amo Lino io amo Napoli ma amo anche il Veneto il Veneto è stata la mia fortuna ho iniziato a lavorare ho sposato una padovana io devo parlare bene anche del Veneto perdonami ti ho fatto intervenire tu sei un emigrante stai facendo il giullare di corte delle destre spadalino Parenza è più uomo di te Parenza è più uomo di te tu sei facendo una marchetta a Cusani con il libro ma fammi capire ma l'hai fatto stop in e merda spadalino beh molto grave grazie Lino ho chiuso Lino pensavo che tu fossi una persona diversa ti ho dato il mio numero di cellulare esatto non per essere offeso da te esatto uomo di merda tu prima di parlare di spadalino devi sciacquarti la bocca ma non te lo dico da Veneto te lo dico da Napoletano tu sei un uomo di merda beh addirittura siamo un nezze Napoli hai capito Lino siamo un nezze Napoli e se vuoi ti aspetto a Padova a Milano a Venezia dopo cancello il tuo numero no non la cancellai tu non meriti la mia amicizia perché io sono orgoglioso di essere Napoletano e di amare il Veneto perché nel Veneto ho conosciuto tante brave persone molto grave quello che è successo hai capito? tanto brava gente vi siete scambiati ho iniziato a lavorare le mie prime esperienze amorose l'università ebbè sacchette merda come posso io dimenticare Venezia la mia università e chi è che te la vuole fare dimenticare? ma lui si lamenta che io sono un traditore beh ha detto io sono più napoletano di te ha detto delle cose gravissime uomo e merda ma lui non mi merda perché non merita la mia e se ti vedo di nuovo a Trento troverai putazzate un faccio giulare lino ci confrontiamo io sono che San Giovanniel hai capito? non sono che Coppovomere dei quartieri alti vergognati dili di chiamare in diretta sto pezzo di merda da tutti mi pensavo ma il bello che mi ha pure chiamato ieri per intervenire stacarogna ma il problema sai qual è? è che le riconoscenze non è riconoscente gli ho dato l'opportunità di chiamarmi e mi ha offeso come se io devi sapere che per me tutti gli ospiti che vengono sono sacri 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 diciamolo gli ospiti devono essere sacri sacri non c'è dubbio lui li maltratta loro fanno lui e Parenzi sono bravi manipolatori manipolatori la loro arte è quella di coinvolgerti quella è una traduzione spettacola ed è la più seguita io ho i miei limiti lo so però questa tua telefonata non me l'aspettavo no devo dire la verità il fatto che vi siete scambiati numeri ma dopo lo cancello no ma non cancellare no non merita fallo telefonare qua in diretta così o meno si spiega o meno si spiega ti ha detto anche che sei giullare delle destre il giullare delle destre Enzo Spadalino io vorrei rimarcare questa cosa risponditi almeno su questo giullare delle destre non lo cancellare il numero giullare delle destre già gli ho detto un'altra telefonata regia dai non mi aspettavo mi ha irritato perché viene proprio da un napoletano hai capito? e vabbè ho capito Enzo ma succede da tutti mi aspettavo un attacco ma non da un napoletano che vergogna digli qualcosa ancora ma poi traditore a me tu non sai tu non sai niente di me la mia storia i sacrifici che ho fatto sacchetto a perdere napoletano buonasera pronto? pronto chiedo scusa per l'attesa buonasera scusa di che? buonasera oh Spadalo bisogna andare giù come lanciafiamme a Lampedusa porca puttana no dice lanciafiamme a Lampedusa si giù bisogna sterminare tutti arrotti coglioni di entrare no adesso questo 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 non posso seguirlo assolutamente la violenza anche anche blasfemo anche blasfemo io li bloccherei in Africa caro amico mio bravo bravo non occorre utilizzare i lanci a fiamme come hai detto tu bisogna intervenire sono vent'anni che lo dico ve lo giuro su Dio manca la volontà dell'Europa ci vorrebbe così poco intervenire là in loco non farli partire ma se ne fregano però adesso c'è una bella novità di questi giorni la presa di posizione del governo Meloni era ora di finiamola non hanno fatto niente arrivano a frotte hanno detto come si chiama il tedesco il ministro un nome strano io con i teutonici non ho tanta confidenza ministro degli esteri gli italiani hanno puntato i piedi hanno detto tu che dai soldi che foraggi le navi ONG li prendi e te li porti in Germania non li porti in Italia al porto di Hamburgo bravissimo finalmente qualcuno del governo Meloni comincia a seguirmi comincia a raccogliere i miei appelli le mie accorate istanze e ora definiamola dobbiamo reagire ci troviamo di fronte ad una vera e propria invasione basta no ma io ti seguo su questa cosa qua non sull'invasione ma ti seguo sul fatto che il governo tedesco si sta comportando in maniera irrazionale bisogna dirlo anche con forza cioè alla fine la Meloni sta battendo la mano sul tavolo finalmente alla spatalino alla spatalino non c'è dubbio alla spatalino io non penso che lei mi abbia sentito non lo so è una fatalità come diciamo noi nel Veneto guarda caso una fatalità c'è un cambio di rotta ed era ora Giorgia continuo su questa strada perché è quella vincente credimi Giorgia buonasera Chiellina Chiellina Romana ha usato dei termini accettabili nei suoi confronti qualcuno buonasera buonasera sì vittorio sono il duce di sequals Ferdinando Polegato no Polegato no Polegato no Ferdinando Polegato di sequals no Polegato no Polegato volevo eh no tu senti gli altri che mi offendono sentiamo anche Ferdinando Polegato è stata una delusione per me enorme Polegato una delusione enorme una delusione enorme io una delusione enorme io no no io non voglio non ho piacere a parlare con te perché sei stata una delusione sei stata una delusione una delusione enorme per me sei stata una delusione no ma vaffanculo chiudi chiudi questa telefonata Brunello chiudilo perché io non ho piacere di parlare con no quando ti prude il culetto anche tu ricordi a queste forme no 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 uno che fa causa uno che porta in tribunale la mia trasmissione come ha fatto lui la mia trasmissione lui ha denunciato Parenzo non mi interessa è come se portasse in tribunale me è la stessa cosa per me è la stessa cosa perché comunque sono cose avvenute e quando Parenzo mi ha portato in tribunale no 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 ero contrario non prendo le difese di Ferdinando Polegato ero contrario ma quando tu hai saputo che Parenzo mi denunciava ero contrario ero contrario però mi ha portato in tribunale e che devo fare il migliorio che lo dico a quelli che non sanno ha perso in primo e in secondo grado vabbè ma non ci interessa no no lo devo dire come no cazzo ha perso va bene diglio ma non ha importanza adesso ma non lo ha detto però nella dovuta maniera Parenziani dovete sapere che il vostro amato gigiolone ha perso in tribunale ma non è risultato in primo grado ma lui non si era accontentato tiriamo le carte aveva visto il jeep aveva voluto andare oltre e ha perso anche il secondo grado e allora vabbè si vince e si perde in tribunale non ci si dovrebbe arrivare non ha dato quella anti-avisibilità in trasmissione quello di prima che ha chiamato il famoso duce di Seguals che è stato ospite che ti è dato fastidio che è stato ospite come prima mi ha dato fastidio a me ma perché non ho più voglia di parlarci perché uno che per anni è stato ospite non è stata trasmissione non lo sapevo neanche io e ha potuto dire quello che voleva che porta in tribunale Parenzo che è come se portasse in tribunale la zanzara si qualifica per quello che è punto e basta andiamo avanti altra telefonata forza io mi aspettavo non mi interessa il duce di Seguals non lo voglio dicami perché la penso in una certa maniera come ha fatto lui come ha fatto lui sull'immigrazione sull'immigrazione sul mondo LGBT perché ricorrere a espressioni ingiuriose lo so che mi odiate a prescindere solo perché non la penso come voi compagnucci sinistri ma io sono orgoglioso di essere di destra avete capito non rubo niente non offendo nessuno c'è uno che vuole intervenire dal centralino ma non riesce a trovare vabbè ma sono in tanti a voler intervenire no ma diamo uno che conosco che è uno non deve essere una censura una pugnace quella di essere di destra perché voi sinistri avete occupato i gangli vitali dello Stato non esageriamo no è la verità non esageriamo la sinistra sta giocando ancora di rendita ma insomma avendo collocato i propri uomini dappertutto ma governa il centro e ora definiamola governa il centro-destra Enzo vabbè ma adesso è un anno da un anno ho capito ma noi paghiamo i disastri che hanno fatto i governi di sinistra precedenti dillo con forza anche perché questo è importante sottolinearlo devo rovesciare il tavolo ma lo devo fare prendi un'altra telefonata dai eccolo forse è meglio che finiamo alle 4 e mezzo se andavamo avanti fino alle 8 stasera beh sarebbe sarebbe di andare avanti fino alle 8 devo dire la verità sarei scoppiato chiedo scusa pronto buonasera pronto buonasera io per carità complimenti è una missione molto interessante non dico di no però visto l'ovario io credo che ci siano anche i bambini che stanno guardando hai ragione hai ragione hai ragione io dico mi scusi spadalino io noto che poi avete anche una certa complicità e mi fa piacere ma però è la quarta volta che lei abbassa il bacio sotto al tavolo e fa un servizio a signor Guciani bravo ma questo cioè non si può bravo bravo complimenti ha fatto ridere solo te questa cazzata non è possibile hai fatto ridere soltanto chi ti sta ascoltando dai dai su andiamo avanti altra telefonata dai altra telefonata chiedi qualcosa sui contenuti se c'è una cosa che Enzo non può fare è mettere una mano sotto il tavolo e toccare gli organi genitali di un maschio sarebbe ma neanche l'ultima cosa non è neanche nei miei programmi ma se qualcuno lo facesse invece un maschio cosa faresti tu? mi allontanerei mi allontanerei mi allontanerei di un rigoroso rispetto delle parti io non condanno chi non la pensa come me sessualmente hanno diritto di stare con gli uomini ma io preferisco stare con una donna ma se non ti è mai venuto diciamo l'idea di farti penetrare diciamo ma per carità di Dio è una cosa tremenda ma non bestemmiare dai ma io non puoi bestemmiare addirittura ha ragione il signore io chiedo scusa ma sono stato insultato da un napoletano ma anche da un padovano anche da un padovano che è intervenuto anche da un padovano quindi era quanto mai prevedibile e giustificabile la mia reazione chiedo scusa ho questo di bello e quando io riconosco di avere sbagliato lo dico pubblicamente c'è uno che mi sta chiamando che vuole intervenire dai regia ci sono altre telefonate o no? ebbè ti stanno chiamando tutti i tuoi amici perché vorrebbero darmi carne ancora hai capito? ma io l'avevo messo in conto ero già sulla difensiva aspettavo qualche telefonata non so di Gabriele Penati Davide Baralli dei miei amici aspetta vediamo questo qua è uno che ti vuole no 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 uno si incazza no 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 non mi lascio offendere sono io che ti blocco non mi lascio più offendere assolutamente un'altra telefonata prendiamo questa telefonata e dopo dedichiamo l'ultima parte come avevo previsto a ricordare Mauro di Mantova un pensiero per Mauro buonasera 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 scusate ho parlato prima ma è caduta la linea chi è? non si può intervenire due volte vabbè chi è? ma lascialo parlare è una regola di questa trasmissione anche la sera io richiamo i miei telespettatori che non si può chiamare due volte nella stessa trasmissione dimmi un ricordo di Mauro di Mantova un ricordo di Mauro Mauro è stato un personaggio straordinario della Zanzara non solo della Zanzara ed è morto purtroppo perché perché è morto caro Enzo perché è morto Mauro nel dicembre ricordiamolo bene nel dicembre del 2021 giusto dicembre del 2021 è morto purtroppo o 20 dicembre del 2021 è morto perché non si è voluto ricoverare non si è voluto ricoverare in tempo questo è ma era un personaggio sui generi su un po' come te avevate dei punti in comune perché stai leggendo sempre i messaggi perché leggi continuamente i messaggi non mi mandano messaggi molti si lamentano che non riescono a intervenire cioè sono tutti ma sono le vostre linee che non funzionano ma sono le vostre linee che non funzionano purtroppo io non sono al centralino ragazzi mi dispiace rafforzate le linee comunque hai ragione rafforzate le linee dai Mauro l'abbiamo ricordato l'abbiamo ricordato un personaggio straordinario un personaggio vero reale autentico che ha delle similitudini con Spatalino delle cose molto in comune con Spatalino sì sì eravate tutte e due diciamo abbastanza dei ribelli di destra lui di estrema destra io non lo conoscevo tanto bene lui ha insistito per venire ospite nella mia trasmissione ed è stata in quel momento la tua rovina la tua rovina in quel momento tu dici che è stata la mia rovina io la guardo anche sotto un altro aspetto la tua fortuna la mia fortuna perché mi ha consentito di venire qui di venire a prima free dal mio amico Brunello Alessandro Brunello prima che mi dimentico io volevo salutare dei cari amici innanzitutto Luca Bellotti che è ospite spesso della mia trasmissione sì ex deputato ex parlamentare aspetta no l'ora 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 l'ino sta continuando a chiamare sì l'ino con me hai chiuso l'ino non dico neanche il cognome con me hai chiuso sono uscito rimanato e capitano in la pigna secca facemmo quattro chiacchiere io e te alla napoletana non ti dovevi permettere di darmi del traditore molto molto grave io sono un napoletano verace sanguigno e tu hai perso l'occasione di conservare una buona amicizia non meriti la mia amicizia telefonate telefonate su quanti minuti mancano quanti minuti mancano volevo salutare dunque ma che te frega dei saluti perché per la gentilezza ti hanno fatto quella bella intervista Carlo Chiarion è una brava bella giornalista dove Giorgia Brandolese di Rovigo lavorano per la voce di Rovigo domani ci sarà un articolo sulla voce di Rovigo grazie Carlo grazie Giorgia quanto manca telefonate Enzo ritmo dai che non funziona se no chiudi Stasolino Romano non l'ho ancora cancellato Romano dunque sono ecco chi c'è pronto? pronto buonasera pronto eccoci sì buonasera 4 minuti mancano lasciami l'orario qua 4 minuti dai via 4 minuti di fuoco prego sono Nicola dalla provincia di Varese oh bene Nicola dalla provincia di Varese ciao Nicola prima di tutto Enzo non te la prende per quel nulla facente di vino romano lascialo perdere lascialo perdere poi volevo 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 assolutamente salvezarvi e darvi una news sull'arci nemico di Enzo già vi sparenzo sì mi è arrivata la notizia che sparenzo si è scopato le donne a te vabbè dai ciao ad una affatto tanta strada perché io non ho avuto tante donne ahimè purtroppo hai capito comunque grazie per la segnalazione va bene avanti un altro avanti un altro telefonate avanti un altro pronto 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 eccolo qua chi è avete solo tolti vendito di cittadinanza merda lascia lascialo sfogare lascialo sfogare e dunque dunque bello questo sfogo avete tolto le vendite di cittadinanza ma perché l'hanno chiuso ma la regia come funziona in questa trasmissione togli le telefonate migliori cioè incredibile avanti un altro forza avanti un altro chi è Federica da Venezia ah Federica da Venezia sentiamo Federica buonasera sì buonasera io volevo chiedere una definizione da il senso Danino del termine Ebro è stato apparezzo ah Ebro invece di Ebro Ebro quando gli hai detto Ebro Ebro e ho tenuto la definizione Ebro vuole dire eccitato perché quando andai a Trento lo vedi particolarmente eccitato Ebro vuol dire eccitato non c'entra nulla non c'entra nulla la situazione al termine ebreo no non c'entra assolutamente nulla infatti io ho tenuto a sottolineare Ebro non è Ebro non ci mancherebbe altro è un'insinuazione gravissima che ha fatto no 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 ma non niente a che vedere io per carità di Dio è un terreno minato quello io ho parlato solo di Ebro e ci mancherebbe altro non ho nulla contro gli ebrei assolutamente ci mancherebbe altro mi raccomando assolutamente ci mancherebbe altro assolutamente io ce l'ho con quelli che mi attaccano come a volte Parenzo fa ce l'ho con quelli che non la pensano come me ma il mondo da chi è dominato secondo te il mondo da chi è governato dai poteri forti dai poteri forti non mi coinvolge no ma è una domanda non siamo alla zanzara no ma ti sto chiedendo una cosa non mi far cadere nel trappolone un'altra volta però i poteri forti tu sai il mio pensiero qual è e lo sai bene sono loro che comandano il mondo ma chi manovrano il tutto ma chi a partire dagli Stati Uniti d'America ah certo hai capito? quello si noi siamo dei servitori fedeli ma servitori noi siamo schiavi della Nato succubi della Unione Europea e due terzo dipendiamo da Biden poi speriamo che l'anno prossimo Donald Trump riesca a diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti lo vogliono mettere in galera lo sai no? ma non ce la faranno contro il popolo che è sovrano vedrai che con Trump finirà il giorno dopo la guerra fra la Russia e l'Ucraina ricordati ste parole ma le ricordo le ricordo con Trump al governo finisce la guerra la quarta cosa chi è che governa il mondo io ho detto Biden gli Stati Uniti la Nato e l'Unione Europea e i poteri forti poi? e i poteri forti sai da chi da chi sono composti non ti dirò mai neanche sotto tortura le grandi famiglie tu dici le grandi famiglie diciamo in generale le grandi famiglie quelli che sono abituati a comandare della finanza e compagnia ti ricordo 16 a 30 dobbiamo chiudere devo scappare aspetta fammi vedere è da rifare questo esperimento è da rifare quando vuoi anche ogni ogni 15 giorni dai è da rifare con le telefonate molto più aperte Enzo perché oggi è stato il top però si può arrivare ancora più in alto volevo vedere altra telefonata ci sono altre telefonate che è al centralino lì si lamenta Ferdinando Polegato che schifo ma vaffanculo è dunque andassi a fare può intervenire no dobbiamo chiudere Davide Baraldi Enzo ha provato cento volte a fare il numero di prima free è impossibile intervenire va migliorato il cento va migliorato il cento ciao Davide ciao Gabriele ci vediamo domenica aspetta c'è uno è l'ultimo vediamo l'ultimo ci vediamo domenica 8 ottobre a San Drigo vabbè che cazzo gliene frega la gente vieni pure tu ma non vengo non posso venire buonasera buonasera ecco ultima ci faccia godere io dovrei dovrei fare come te sei un artista vai dillo parla però parla parla guarda potremmo ringraziare a tutto questo Badalino che ha citato sui cattici e dei vincitori viva l'Italia viva l'Italia viva la zanzara bello bellissimo viva l'Italia viva la zanzara viva Spadalino grazie a tutti mai finale fu più bello finisce il padrone di casa viva l'Italia sempre a prescindere viva Spadalino e viva Cruciani della zanzara anche viva Vannacci forza e viva Roberto Vannacci uno dieci cento mille Vannacci molto bene ci vediamo fra un mese qua ciao a tutti grazie a la decina grazie grazie a Luca il tecnico Luca Bellotti e grazie arrivederci ad Alessandro Brunello un forte abbraccio a tutti grazie viva l'Italia arrivederci questa la vergogna è questo lo scandalo da Roma David Parenzo buonasera guarda è iniziato la settimana molto molto incazzato molto molto incazzato io ho visto che tu hai passato il tuo weekend ospite di una trasmissione sì sì devo dire di sì di una televisione locale di un distretto locale prima free distretto locale prima free con serie a rovigo prima free prima gratis chiudilo perché oggettivamente uno non pagherebbe mai per vedere una cosa simile è ovvio che si chiama free è ovvio che si chiama free hai passato e già questo la dice lunga su di te su un signore che decide di passare il weekend anziché con la fidanzata con i propri affetti con le persone a cui vuole bene no decide di passare il weekend con un signore che di nome fa Enzo e di cognome Spatalino sì ma non contento di questo aggiunge il carico da 90 dice come posso arricchire il mio weekend mi porto dietro pure Gottardo allora se uno analizza questa situazione con distacco dice ma questa persona è disturbata e sta male perché sceglie di passare un weekend che è un momento sacro se tu mi chiedi Davide cosa hai fatto del weekend io ti racconto volentieri che cosa ho fatto ma mai farei gratis e neanche pagato e neanche pagato il combinato disposto di Spatalino più Gottardo dopodiché in quella immonda trasmissione cosa è avvenuto perché poi io ho seguito tutto in realtà avviene che nella trasmissione di Spatalino chiama Gottardo cioè una trasmissione nel quale i mostri sono all'ennesima potenza e si distruggono tra di loro sì perché sono in conflitto allora sentiamo un attimo cosa è accaduto in quella perché io io tutto il weekend sono rimasto basito da questo devo dire che è stato un momento di Gottardo telefona sì sì telefona indiretta sì altra persona che ha molto poco da fare nella trasmissione se tu mi dici Davide puoi chiamare indiretta Spatalino no Davide ti do 30 mila euro chiami indiretta Spatalino no Davide ti do 100 mila euro ti do 100 mila euro chiami indiretta Spatalino potrei dirti di sì potrei dirti di sì perché tutto ha un prezzo non c'è dubbio però dici gratis gratis chiamare indiretta Spatalino comunque io non entro nel merito delle scelte di Gottardo due di come passa il weekend è il tuo tempo libero fai quello che vuoi quello che mi ha ferito è vedere il sottopancia nella televisione Radio 24 cioè se io fossi l'amministratore delegato dell'azienda farei un'azione di responsabilità nei tuoi confronti dei migranti non dici niente dei migranti non dici nulla no i migranti te la dico in una parola i migranti hanno diritto dai cercatori d'oro perché l'ha la mano adatta a cercare loro hanno diritto a migrare i migranti hanno diritto a migrare punto torniamo a quella cosa lì i due mostri i due mostri che si autodistruggono in quella tre sentiamo cosa è accaduto manda l'audio allora a un certo punto di questa trasmissione surreale che in realtà è vicina ad un format te lo dico è vicina ad un format è spatolino cioè si aprono i microfoni e entra una voce io manco l'ho riconosciuto in realtà vai prendiamo un altro telefono avanti buonasera Enzo si Enzo ma scusami ma ha di pazienza io ho appena pranzato vai sto pezzo di cacca chiudilo chi è chi è chi è chiudilo ha appena pranzato ha detto fallo parlare chiudilo fallo parlare prima è un elemento non dico il nome perché se no mi mi denuncia ma no fallo parlare è un essere spreggevole ma chi è è il padovano più spreggevole che io abbia mai conosciuto ho capito e mi meraviglio come la regia l'abbia fatto entrare in contatto con noi ma fallo parlare però è un no non merita di parlare con me no ho capito fallo parlare con me devo affrontare boccalmente e guardarlo nelle palle degli occhi ma chi è ancora lì non l'hanno buttato giù e guardati le spalle ma non lo so chi è hai troppa fiducia ma no ma non è quello che pensi non è chi pensi ma non mi pare proprio la persona a cui mi riferisco è una carogna addirittura putrida pezzo di cacca carogna putrida al momento poi continua poi la storia continua diciamo che è uno scontro tra giganti diciamo che è uno scontro però però è tutto eccessivo è un momento eccezionale però è uno scontro tra giganti è uno scontro tra titani è un pezzo di merda se mi stai sentendo sei un vigliacco ma chi è pezzo di merda dimmi il nome eh no se non mi denuncia no è il nome di battesimo no 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 solo quello di battesimo per carità di dio ma il nome di battesimo non denuncia nessuno è scorrettissimo le usa tutte ti mette in difficoltà ti mette contro le persone è di una slealtà te lo giuro sull'anima di mio padre e di mia madre ma non c'è bisogno sull'onore della mia famiglia che è sacra sì d'accordo è un pezzo di merda addirittura ma perché sei così a Bernardo ho dovuto bloccargli anche le telefonate di qua di là per caso è uno lui vorrebbe che io intervenissi nella sua sporca trasmissione scusa ma è per caso uno che si chiama A di nome no no A di nome inizia con l'A e il nome non lo so non lo so non lo so comunque andiamo comunque fino adesso siamo a siamo a pezzo di cacca carogna putrida tre pezzi di merda da un bigliacco e uno scorrettissimo ma tu capisci che passare il weekend in questo modo se tu capisci ma tutti e tre voi tutti e tre tutti e tre stupendo stupendo ma lui mi sta ascoltando quel pezzo di merda non è amato a palova da nessuno hai il vuoto attorno ricordati nessuno ti ama nessuno ti stima perché sei un imbroglione sei scorrettissimo non rispetti niente saresti capace di passare attraverso il cadavere dei tuoi genitori è molto grave questo pur di raggiungere il suo obiettivo è molto molto grave quello che stai dicendo poi ti dirò a microfoni spenti ma io ho già capito la sua spietatezza ti devi guardare le spalle te lo giuro su Dio ma ho capito Enzo non aver fiducia in quell'individuo è pericolosissimo ma deve essere successo io faccio i tuoi interessi ma deve essere poi il tempo scusami il tempo è galantuomo deve essere successo qualcosa di grave ricordati il tempo è galantuomo però ci sono delle frasi hai pure ragione questo ci sono delle frasi tipiche che sono stupende ricorda il tempo è galantuomo poi c'è lo sbrocco perché pensa che ci sia il complotto per aver fatto passare questa telefonata momento meraviglioso devo dire forse meglio di quello prima caro David cioè pensa che da dietro il suo editore qualcuno abbia fatto passare apposta la telefonata vai regia momento cult secondo me andrebbe in tutte le televisioni mondiali di proposta è stato capace di passare davanti a tante altre telefonate e come fa a passare davanti a... non lo so spero che non abbia convinto qualcuno in regia perché se no mi incazzo se no è la volta che vado via da prima free se l'avete fatto passare è finita non mi vedrete più a prima free ma bellissimo se ho la certezza che la telefonata è il frutto di un accordo vado via mi dispiace io ho rovinato la mia vita la mia famiglia la mia carriera per essere come sono nel bene e nel male per essere coerente se so che l'avete fatto passare è finita la mia esperienza a prima free ma benissimo Giuseppe Trucciani per me è sacro faccio ma come cazzo le passi i tuoi fini settimana insomma tu stai male sei messo veramente male sabato sei stato da spatalino che ha imbastito una una trasmissione appositamente per te ha fatto un'edizione speciale appositamente per invitarti e farti qualche domanda e tu complice con qualcun altro lo hai fatto incazzare come una bestia lo hai fatto partire ci è mancato un secondo gli partiva un embole rimaneva secco lì in quello studio di merda che magari è la sala da biliardo di un circolo del cazzo poi sei andato a presentare il tuo libro a Vicenza e infine domenica sera verso l'undici e mezzo un quarto a mezzanotte da Del Debbio che mi risparmio i commenti per non offendere nessuno cioè ma te ti devi far guardare da uno bravo che Giuseppe ti devi far guardare da uno bravo meglio passare i weekend così che facendo le rotture di coglione che magari fa Parenzo meglio passare questi weekend qui piuttosto che i weekend che i weekend parenziani comunque il premio Nobel cui si riferiva prima all'ascoltatore il premio Nobel l'avete trattato come un giulare l'avete trattato baciare per terra a questi scienziati che hanno trovato il vaccino anti-covid baciare per terra spalmeremo perché grazie a quella tecnologia ora ma figurati grazie a quella ma come no grazie a quello ci saranno altre scoperte che salveranno la vita a stronzi come te figurati 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 comunque posso dirti una cosa altri stronzi come te salveranno la vita spalmeremo per tutta la trasmissione l'intervento mio alla trasmissione di Spatalo a Rovigo un momento straordinario è stato quello che dopo la sbroccata sulla telefonata di Gottardo io non avevo addirittura riconosciuto perché ero un po' distratto in quel momento ma roba è da no c'è stato lui che si è scusato perché c'erano dei rumori con le persone ma comunque se se ne va va benissimo un complotto ma secondo te la regia di Frinao fa un accordo l'accordo stato Gottardo per farlo passare in onda ma a quelli gli viene da vomitare è stato lì a premere un tasto quando chiama uno lo mandano in onda secondo te c'è un accordo tra la regia e quell'altro che chiama la roba da male senti questo senti questo c'è chiaramente lo zampino di qualcuno chiaramente lo zampino di qualcuno questo non c'è dubbio io chiedo scusa anche a questi vicini qua perché hanno sentito gridare abbiamo un circolo vicini di brava gente qui ma che è la porta accanto che si sentono i vicini esattamente che cazzo di studio è questo qua scusa che ci sono i vicini accanto con bar con circo quindi chiedo scusa per il fastidio che ho arrecato non volendo dai fastidio ma mi sono un po' incendiato alla mia maniera vabbè ma è giusto che fai così va bene dai altre telefonate andiamo con le telefonate dai c'è un circolo accanto agli studi io lo trovo eccezionale un circolo accanto agli studi che ovviamente fossi in quel io denuncerei appunto come cattivo vicino di casa ma anche quell'altro ma perché telefona in diretta in quella trasmissione la chiesa la chiesa cattolica sa che c'è un prete anzi lo sa sicuramente che c'è un prete credo a como che vuole ma è una cosa diversa perché oggettivamente è diverso perché come mai come mai su quello si può speculare adesso è divertente la cosa più straordinaria caro David è la parte in cui nella mitologica trasmissione spadaliniana in edizione speciale con Cruciani d'altro giorno a Rubico è intervenuto ad un certo punto anche Pasquare Lino Romano che da napoletano aveva intessuto un rapporto un mostro dietro l'altro aveva intessuto un rapporto aveva iniziato un rapporto con il signor Spadalino un rapporto molto stretto Pasquare Lino Romano sindacalista percettore re di cittadinanza senti senti a un certo punto chiama no ma senti è molto interessante questo pezzo senti come si rivolta Spadalino mettiamo il viva voce pronto Lino è Lino da Napoli prego mettilo qua allora io voglio dire una cosa no a questo giro a questo giro parezze giuomiti cioè tu praticamente dice lei non è emigrata e tu sei un traditore in Napoli che sei andato a venire in Veneto e in più fai il giullare di corte delle destre fammi capire tu sei un Savoy Spadalino io non mi chiedevo che tu eri un traditore è un traditore di Napoli ma io amo Lino io amo Napoli ma amo anche il Veneto il Veneto è stata la mia fortuna io devo parlare bene anche del Veneto perdonami ti ho fatto intervenire tu sei un emigrante sei facendo il giullare di corte delle destre Spadalino di Parenza è giuomiti Parenza è più uomo di te non sei facendo la marchetta accusare con il libro ma fammi capire ma hai fatto stop in e merda Spadalino beh molto grave grazie Lino ho chiuso Lino pensavo che tu fossi una persona diversa ti ho dato il mio numero di cellulare non per essere offeso da te tu prima di parlare di Spadalino devi sciacquarti la bocca ma non te lo dico da Veneto te lo dico da Napoletano tu sei un uomo e merda beh addirittura siamo un nezze in Napoli hai capito Lino siamo un nezze in Napoli e se vuoi ti aspetto a Padova a Milano a Venezia dopo cancello il tuo numero no non la cancellate tu non meriti la mia amicizia perché io sono orgoglioso di essere Napoletano e di amare il Veneto molto grave quello che è successo hai capito tanta brava gente vi siete scambiati ho iniziato a lavorare le mie prime esperienze amorose l'università ebbè sacchette e merda come posso io dimenticare Venezia la mia università e chi è che te la vuole fare dimenticare ma lui si lamenta che io sono un traditore beh ha detto io sono più napoletano di te ha detto delle cose gravissime uomo e merda ma lui non mi è merda perché non merita la mia e se ti vedo di nuovo a Trento troverai putazzate un faccio giulare Lino ci confrontiamo io sono che San Giovanniel hai capito non sono che Coppovomere dei quartieri alti vergognati dili di chiamare in diretta sto pezzo di merda ma Davide non è straordinario tutto questo ma io non è straordinario no tutto questo live live dai che funziona un insieme di animali un insieme di animali che si insultano Giuseppe da Roma maiali che si ruotano che si buttano nel fango la telefonata con Lino si è chiusa così senti senti Lino sta continuando a chiamare Lino con me hai chiuso Lino non dico neanche il cognome con me hai chiuso sono uscito rimanato e capito no in la pigna sec facciamo quattro chiacchiere io e te alla napoletana non ti dovevi permettere di darmi del traditore molto molto grave io sono un napoletano verace sanguigno e tu hai perso l'occasione di conservare una buona amicizia ma non meriti la mia amicizia molto molto grave quello che è successo gravissimo Giuseppe da Roma Giuseppe da Roma vai Giuseppe da Roma ma che grave ma chi se ne frega maiali che si ruotano nel fango niente di più maiali che si tradinuono Giuseppe da Roma Giuseppe dimmi la lotta tra animali allora io volevo puntualizzare due cose ho incontrato una persona tanti anni fa che era brava a fare altre cose beh delle cose che si sanno la fellazio bravo è la fellazio però io amo la penetrazione e poi sono molto abile ero abile nel baciare scusatemi il cunnilingus il famoso cunnilingus bravo come si chiama la bernarda si vabbè diciamolo anche nelle situazioni più precarie e difficili che vuol dire più precarie e difficili se mi davano la possibilità di andare a dama era fatta a dama anche perché io sono un cultore del cunnilingus esattamente cioè tu sei perché naturalmente col passare degli anni è evidente è meglio la lingua piuttosto che la fatica la fatica anche perché parto da un presupposto si la donna va scaldata i preliminari acquistano per me un'importanza fondamentale toccare verificare vedere che è possibile annusare baciare quindi quei 30 minuti di preliminari sono fondamentali 30 minuti 30 minuti vabbè minimo minimo ecco questo caro Parenzo era un momento della trasmissione un'ora di trasmissione in cui Spatalino ha dichiarato di essere amante di quello che hai sentito del cunnilingus è stato un momento molto intimo devo dire la verità un momento di intimità un momento di confessione un momento di grande di grande tenerezza se vogliamo e la confessione diciamo della parte erotica della parte sessuale se vi va di passare i weekend così ma chi sono io per dirvi che cosa fare ma figuriamoci la gente normale va al cinema va al ristorante con le fidanzate con gli amici voi andate a delirare ma noi andiamo a delirare facciamo trasmissioni che devo dirti la verità sono diventate anche un pezzo di cult di cult in un'ora pezzo di cult devo dire la verità cult allora conosci la dottoressa Borrelli concita Borrelli è una tradizionalista molto come promesso in studio a Milano il mitologico Enzo Spatalino applausi applausi allora ciao Enzo buonasera 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 a te e a te e a te ascoltatori ricordiamo canale 170 del digitale terrestre prima free visibile in tutta Italia conduttore di una trasmissione filo diretto e uno dei personaggi conservatori diciamo più feroci d'Italia più forti d'Italia secondo me anche sottovalutato allora Spatalo la prima cosa che voglio dirti è questa innanzitutto che peso hai raggiunto perché sei entrato qui a fatica stabile 102 102 kg ma devi dimagri devi dimagri hai ragione comincio la dieta dopo 2-3 giorni la smetto perché mi vengono crampi allo stomaco vengono i crampi allo stomaco sono seguito da uno dei più bravi dottori ma non riesci non riesco ho capito ma ci sono problemi per gli obesi ti dichiari un obeso cioè sei dichiaratamente un obeso purtroppo ho questi problemi una roba da pazzi ragazzi ma devi dimagrire io ti voglio bene io ti voglio bene devi dimagrire lo so che lo fai per la mia salute ti ringrazio però di fronte a un piatto non resiste spaghetti al dente pasta asciutta dai non esiste si vive solo una volta nella vita anche davanti alla figa mi sembra quello è importante viva la figa sempre la ami la ami a dei livelli pazzeschi a volte mi chiedo come fanno certe persone ad abbandonarla girarsi dall'altra parte e andare con persone dello stesso sesso è una roba indecorosa indecente ma che c'entra scusa per carità io rispetto gli altri per carità ma per me sai il primo amore è sempre il primo amore non l'hai mai lasciato mai e fino alla morte mai mai lascerò mai lascerò però c'è gente che si inchiappetta c'è gente che si incula adesso oggettivamente a volte mi domando come fanno a volte ne parlo con i miei registi con il mio editore Alessandro Brunello con Giovanni eccetera dico ma ragazzi come fanno questi a farsi inchiappettare e tu? per scopare la cosa più bella del mondo e loro che ti rispondono? anche loro sono d'accordo con me no ma che ne sai adesso non mettere in mezzo altre persone no perché so so non potrei per te l'inchiappettamento è contro natura diciamolo ma è contro natura è contro una regola divina non lo so non lo so però ripeto tu dici che è quello che da quella parte lì esci e non entri esattamente come diceva il maestro Feltri sei d'accordo col maestro Feltri? alla grandissima sempre col maestro quasi sempre col maestro Feltri 1,10,100 Vittorio Feltri allora questa piccola introduzione tanto per ricordarvi Spatalino però io vi vorrei arricchire la collezione Spatalinare dell'ultima uscita di Spatalino sui migranti perché è al top questa cosa qua e ti attirerà molte molte critiche questa cosa vai regia vengono tutti tutti qua perché è l'Eldorado c'è la Cuccagna qui hanno trovato fortuna personaggi che dovrebbero stare ancora a correre nel deserto che dovrebbero ancora arrampicarsi sugli alberi nella foresta vengono qui approfittano del nostro sistema e diventano dei personaggi a proposito mi viene in mente come si chiama regia suma oro mamma mia mamma mia io quando penso a suma oro penso alla disfatta dell'Italia avete sentito anche le pause Spataliniane le pause non sono studiate è fatto così è fatto così le pause forse un po' le studia le pause tra una parola e l'altra però caro Spatalo non si può dire quello che hai detto c'è la gente che dovrebbero aggrapparsi agli alberi dalla finestra arrampicarsi agli alberi ma ci sono persone in effetti che dovrebbero ritornare alle origini credimi cioè in che senso i sacchetti quelli che tu chiami sacchetti a perdere che vengono qui ci sono tanti sacchetti a perdere purtroppo che approfittano del nostro sistema e fanno quello che vogliono fanno delle cose che dalle loro parti te lo giro su Dio non farebbero mai tipo perché farebbero una brutta fine secondo te vanno a stuprare una donna ma anche gli italiani in Tunisia ma anche gli italiani tu mi hai parlato dei migranti perché il bello e il cattivo c'è dappertutto purtroppo anche noi abbiamo i nostri sacchetti a perdere quindi io tu e dici gente che dovrebbe arrampicarsi agli alberi delle finestre dai no no degli alberi non ho detto le finestre lo dici tu e ho capito gente che si dovrebbe arrampicare cioè di tratti come barbari quelli che arrivano qui la maggior parte secondo te sono barbari ma ci sono molti barbari in effetti allora Paco da Belluno ciao 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 dimmi Paco questa prima dimmi no no ma allora voglio solo dire una cosa intanto sacchetto a perdere quello stroncio non è un sacchetto da perdere è proprio un sacchetto da schiacciare addirittura non si può dire un sacchetto da schiacciare dai senti pezzo di merda senti senti pezzo di merda sei un pezzo di merda perché io non ti ho offeso tu critichi ma non usare espressioni in ricordo di sé perché tu sei uno che si esprime così uno che si esprime così non merita la mia attenzione però tu hai diritto di criticarmi ma non di offendermi a te non ti devono criticare ascolta a te non ti devono criticare a te non ti devono criticare a te tu hai avuto la fortuna di stare in Italia hai trovato la pambaggia hai trovato l'Eden hai trovato il paradiso terrestre tu non sei un umano tu non sei un umano tu sei un umano però lui è inserito in Italia è un lavoratore italiano io non so neanche chi sia non so neanche con chi sto parlando è di origine senegalese Paco da Belluno io ho la casa qua la casa qua è mia l'ho comprato io ho finito di pagarla l'ho pagato io e allora cosa vuoi dire con questo che io non ho il diritto di criticare quelli che vengono in Italia a fare il loro comodo ma vergognati io non ce l'ho con le persone come te perché io sono più civile di voi io quando vedo qualcuno che chiede la carità alla stazione pezzo di merda sono il primo che dà 2-3 euro a queste persone aspetta Enzo ma non mi posso fare offendere da questo stronzo però lui dice lui critica la parola sacchetti a perdere che tu usi perché lui dice un essere umano non può essere chiamato sacchetti a perdere no ci sono persone stronzo con un c'è altro basta ma chi ne dice di più no se deve essere il nostro un confronto civile democratico bene allora fermo fermo un attimo la pacco fermati io ero pronto al fatto che tu mi facessi attaccare dai tuoi l'avevo messo in conto però questo si presenta offendendo ma ha detto che tu la parola sacchetti a perdere no no lui ha detto prima una parola offensiva nei miei confronti vabbè fermola fermola che torniamo che mi ha fatto incazzare fermola ora vivere dicono cibo non buono cibo non buono cibo non buono ma mira roia vedi dove devi andare tu mangiavi anche la polvere al tuo paese e qui quello che ti offriamo noi lasagne riso non va bene e allora perché sei venuto in Italia allora tu non sopporti nemmeno l'islam per esempio gli islamici non li sopporti diciamo la verità l'hai detto più volte gli islamici per te e confermo in questa sede l'islam fa paura aveva ragione Oriana Fallaci la coraggiosa giornalista fiorentina è morta e nessuno l'ha ascoltata si stanno te lo giuro verificando quelle condizioni che paventava Oriana Fallaci cioè la conquista dell'Europa ed elitare da parte dell'islam esattamente io non ci sarò più non vedo la disfatta del mio paese e perché non ci sarai più dici fra 20-30 anni diventerà Eurabia un altro nome addirittura Eurabia l'islam fa paura l'islam fa paura Paco che dici aspetta guarda questo qua sai per far perdere il peso questo stronzo qua sai cosa dovremmo fare senti penso di merda se vuoi parlare con me io ti porto la foresta io ti porto la foresta africana ti metto là due o tre leoni che ti portano indietro vedrai che ti portano indietro vedrai che ti portano indietro se fosse di merda vedrai che ti arrivi l'infarto se fosse stato per me a te a te se non stai attento ti arrivi l'infarto come te no io non ho paura di niente tu non conosci la mia storia ha criticato l'islam adesso ha criticato l'islam Paco ha criticato l'islam adesso che c'è un timore che cazzo è chianto l'islam avete capito voi che avete trovato la pavaggia in Italia io ti farò un islamico avete trovato tutto in Italia avete trovato tutte quelle condizioni che non c'è altro tu sei falso tu sei falso come un biglietto di un euro tu sei falso si inventa storie per fare un personaggio no ma perché si inventa delle storie ma non è vero se stesso è perfetto si inventa delle storie ma sei falso ci sono dei tuoi paesani ci sono dei tuoi paesani ci sono dei tuoi paesani che vengono qui guarda che brutto che sei guarda che brutto che sei giù giù non ho mai detto di essere bello rispondi rispondi che ci sono dei tuoi paesani ci sono dei loro paesani che vengono in Italia fanno quello che vogliono ma non vedi per la strada comandano l'oro minacciano continuano a seviziare le nostre donne ci sono dei casi clamorosi sì d'accordo Giuseppe ci sono interi quartieri ci sono interi quartieri dove la gente non può più uscire noi dobbiamo dirle queste cose c'è un allarme in Italia chi non lo dice è un baro è un falso è un fariseo anche Paco dunque ma potersi che lui si è inserito io non conosco non conosco chi è questo stronzo potersi che lui si è inserito potersi che lui lavori tranquillamente io lo rispetto è lui che non rispetta me lui dovrebbe prendersela sei invidioso perché vedi questi bel ragazzi ti girano no io ormai ho fatto la mia io ho fatto la mia se dipendesse da me se dipendesse da me certi tuoi personaggi amici di colore sai che fine li farei fare che fine farebbero li impacchetterei li manderei a calci nel sedere nei loro paesi di origine perché qui fanno cose che dalle tue parti non farebbero mai vi dovete vergognare fra poco avrete il predominio in Italia io appartengo parla bene io appartengo ancora alla schiera di italiani che hanno a cuore la loro identità la loro storia a te non ti piace noi abbiamo una cultura millenaria i matrimoni tra un bianco e un nero non ti piacciono a te no perché se si vogliono bene se si amano uomo e donna si possono sposare qual è il problema ogni tanto tu tuoni contro questo tipo di una donna per esempio lui ha sposato un'italiana Paco ha sposato un'italiana io dico un'altra cosa quando lancio dei messaggi alle donne attenzione perché vi mettete con delle persone che hanno una cultura una mentalità completamente differente dalla nostra Paco hai sentito Paco che dice? vai dirla a mia moglie ti fa il culo nero ti fa il culo nero ti fa vai dirla a mia moglie pezzo di merda vai dirla a mia moglie ti fa il culo nero ti fa ciao Paco ciao Paco vai pezzo di merda allora l'ultima l'ultima di Spadalino sulla LGBT andiamo avanti LGBT lui è un grande nemico dell'LGBT della cultura LGBT giusto Paco giusto LGBT è sei nemico è una cultura che non mi appartiene ma questo non c'è dubbio questo non c'è dubbio sentiamo Spadalo su LGBT io mi domando c'è o non c'è un limite alle sconcezze che provengono dal cosiddetto mondo LGBT vogliamo mettere un freno a questo degrado abbiamo già detto su questa cosa qua abbiamo già detto a favore dei matrimoni gay no 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 ai matrimoni gay assolutamente no adozione gay non ne parliamo no assolutamente no nemmeno l'adozione gay niente nemmeno le unioni civili eccetera non sono una famiglia due uomini sono famiglia o no tu vedi un bambino che nasce con due uomini con due donne manca la figura manca il riferimento paterno materno non dobbiamo stravolgere i valori perché sei contro Netanyahu andiamo veloci per flash andiamo perché sta ammazzando civili innocenti all'inizio ero con Israele e poi perché quando ho visto quegli assassini di Hamas e poi ma adesso basta e ora definiamola Netanyahu ci hai rotto le scatole basta basta questo è il grido spateriniano classico molto bello che neanche Biden è riuscito a calmare Netanyahu e vabbè ho capito ma dunque è un criminale Netanyahu lo consigli di un criminale in questo momento si sta comportando come un criminale appoggiato da chi? dalle grandi lobby secondo te? ma sicuramente si lui si sente potente come topo come topo vabbè non mi parlare di topo Gigi perché mi rovini la serata sono così tranquillo beh tranquillo non esageriamo ha chiamato Lino Romano che devo fare? no perché che c'ha? non esiste ho giurato che con quello non voglio più averci a che fare ho capito ha chiamato che devo fare? dai io vengo qua ma perché? che ha fatto? che ti ha fatto Lino Romano? aspetta un attimo ma che ti ha fatto? spiegami che ti ha fatto io non aspetto che tu mi fai fare la passerella è normale eh sono pronto alla battaglia alla pugna alla pugna alla bandaglia no no allora no me ne va fatti sotto ha detto fatti sotto ha detto se fai ancora parlare Lino Romano eh io ho giurato sulla mia famiglia mi manca poco tempo mi manca poco tempo ma che ti ha fatto? voglio sapere da te che ti ha fatto? è un napoletano falso un fariseo no vado via aspetta 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 giuro Lino Romano se mi fate sentire ancora Lino Romano ma spiegami che ti ha fatto ti giuro non vengo più in questa traduzione ma che ti ha fatto? che ti ha fatto? è giù è giù il microfono è un ignorante è uno zoticone io mi vergogno di essere napoletano ma perché? ma che ti ha fatto concretamente? che ti ha fatto? no capito eravate pappo e ciccia a un certo punto io pappo e ciccia? lui ha tradito la mia amicizia perché? che ha fatto? ha detto che sei un emigrante ma l'ho cacciato da Napoli ma non l'hanno aspetta Enzo giù il microfono giù il microfono aspetta fermo è caduta la sedia fermo vado via eh ti ho detto se mi fai parlare ancora con questo cafone perché lui è un cafone te lo giuro davanti io me lo vado eh e stravolgo la scaletta andiamo avanti però fammi telefonare qualcuno che possa parlare bene di me ma io parlo bene di te cazzo fai intervenire tutti i miei nemici ma io parlo bene di te dio cantante no no puttana no fermo là Federico D'Alecce ci sarà qualcuno che ha voglia di parlare bene di me ma certo questo è un fuoco incrociato ma certo che un fuoco incrociato dio cantante è ancora questo dio cantante che c'entra Federico D'Alecce dai forza è un più al bersaglio dimmi 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 Dalma dimmi dimmi Federico Dalma Spadalino dimmi io ti seguo sempre sul programma che fai su Youtube oh su Youtube è meglio di Filino Banfi mi fai straridere con le tue smorse con il tuo modo di parlare poi vorrei chiederti una cosa allora Barenzo ha raccomandato ma a te chi ti protegge ma nessuno dici che gli emblei comandano il mondo frasi islamofovi islamofobe fake news frasi 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 islamofobe e secondo lui fake news su Patri Zaki secondo lui secondo lui devo dargli una risposta precisiamo la parola che hai detto prima dio cantante che non si dice tu lo sai devo dargli una risposta non si dice tu lo sai no rispetto a quello che si dice in giro dici di essere cattolico e lo sai un cazzo rispetto a quello che si dice da chi sono protetto non è una bestemmia per carità sono protetto dal mio carattere dalla mia personalità se io mi rivolgo a questo ignorante tu sei un rinnegato vuoi parlare di identità tu stai in dove ti stai maniando le alghe delle paludi a Napoli non ti voglio ti ha denunciato a procurare la Repubblica ti sputo in faccia ma no ma ha telefonato ma che ti devo dire fermi là ragazzi fermi tutti fermi tutti vai Max una storia d'amore e un mondo migliore ci sarà una Enzo una domanda ma a tuo giudizio che l'hai conosciuto Mauro come avrebbe commentato la situazione Gaza Israele ma sicuramente avrebbe massacrato Israele e tutti i filo israeliani e tutti i falsi il pseudo filo israeliani quelli che sono diventati tifosi di Israele per convenienza per convenienza per Renara e Renara fa una mia vista che altro per Cuglia non ho l'est e i soldi i soldi per me vai Enzo oi vita oi vita oi vita mia oi core oi chissu core si stato o primo amore oi prima e l'ultimo sarai per me oi vita oi vita mia oi core oi chissu core si stato o primo amore provi prima e l'ultimo sarai per me ti sei immaginato come sarebbe potuta essere una partecipazione in diretta alla Zanzara in contemporanea tua e di Mauro negli studi di Radio 24 a Milano o come sarebbe potuta essere se lui fosse ancora tra noi sarebbero cadute gli steccati sarebbe stato sicuramente un successo sicuramente Radio 24 ci avrebbe ingaggiato solo per fare spettacolo figura di io Mauro di Mantua contro Barenza avrebbero dovuto chiamare le forze dell'ordine guarda di finanza polizia di stato e carabiniere credite me scintille in continuazione per il pubblico della Zanzara perché i radioascoltatori della Zanzara vogliono lo scontro vogliono il sangue se non c'è il sangue non ti sembra tu puoi andare lì con la storia di Cappuccetto Rosso puoi fare un tema bellissimo sui valori eccetera nessuno ti cazza vai lì col culo fuori parlare di cazza figa eccetera tutti quanti sono all'ascolta purtroppo questa è la Zanzara tu pensi che uno come Cruciani sarebbe stato in grado di reggere una trasmissione con ospiti tu e Mauro o veramente sei convinto che sarebbero dovute intervenire le forze dell'ordine penso che avrebbe fatto fatica a reggere l'onda adulto io e Mauro insieme avremmo fatto il stracere per la gioia di Cruciani per la gioia di Giuseppe Cruciani ma anche di chi vi ama però ricordatevi che Cruciani è un artista nel fare queste robe è un ruolo che gli si addice va bene non lo vedo in un salotto dai convenevoli volevamo sebbene lui non esiste lui vuole lo scontro vuole parlare di linguaggi poco forbiti è il suo stile è il suo successo d'altra parte dai Giuseppe sei sulla strada giusta peccato che non hai rispettato il tuo amico spattellino potevi utilizzarmi meglio e non l'hai voluto fare e te ne pentirai per il futuro ciao stai bene Paglienzo 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 Siamo qui pochi ma buoni pochi fedelissimi siamo con Lorenzo Gabriele Simone Davide Giuseppe e il sottoscritto Enzo per ricordare la memoria di un caro amico scomparso due anni fa circa fra pochi giorni Maurone da Mantua siamo qui in un ristorante le terrazze fammi vedere il bigliettino le terrazze del Po una bella conviviale la nostra ma uno scopo principale ragazzi è quello di ricordare la storia di Mauro da Mantua quando mi ha contattato chiedendomi di venire nella mia trasmissione che lui era un personaggio e vi dirò che si meravigliò quando io gli dissi ma chi è questo Mauro di Mantua e lui rispose quasi sull'arrabbiato ma com'è non sai chi sono io io ho migliaia di follower che mi vogliono bene che mi stimano e dall'inacqua questa amicizia questa collaborazione venne per la prima volta è una data storica che non potrò mai dimenticare perché anche per me ha rappresentato la svolta correva il 18 settembre mercoledì 18 settembre del 2021 venne ospite a Telecittà e nonostante le preoccupazioni del mio editore io andai avanti nella trasmissione tutto proseguì bene fin quando non intervenne Andro Mercù un mio caro amico allora collaboratore di Giuseppe Cruciani Mercù fu costretto a intervenire perché era un dipendente rispettò le disposizioni superiori indossando i panni di un telespettatore friulano entrò in diretta e attaccò Mauro di Mantua parlando di di un suo acerrimo nemico Parenzo non l'avesse mai fatto successe il putiferio Mauro di Mantua voi lo conoscete reagì alla grandissima quali erano parole grosse lo confesso tanto che io ho preso le misure mi preoccupai dicendo guarda che stai parlando per te né io né Telecittà siamo coinvolti poi è successo di tutto alla fine della trasmissione Parenzo e un altro signorino di cui non voglio neanche profferire il nome tanto perfido cattivo maligno minacciarono anche il mio editore di chiusura di denunce infatti poi ci hanno denunciati siamo stati denunciati io la Patrizia Vassallo il tutto poi è finito positivamente e mi dispiace che Cruciani non ha dato il necessario risalto alla vicenda come l'ho fatto tanto casino dicendo spattacino cacciato via denunciato non l'hanno fatto altrettanto quando il giudice mi ha assolto va bene io ringrazio gli amici presenti che mi hanno coinvolto rispetto all'anno scorso c'è una figura in più un caro amico l'avvocato Giuseppe Marra che è un ragazzo d'oro ha uno studio a TN disponibile educato umile amico innanzitutto disponibile in ogni frangente e lo ringrazio pubblicamente per l'aiuto che mi sta dando in quest'ultimo periodo a questioni familiari io ringrazio per l'invito che mi avete fatto ringrazio tutti gli amici che ci vedranno sono a vostra disposizione e mandate un messaggio a Giuseppe Cruciani della Zanzara conduttore della Zanzara ma glielo dico aperti sverbi amichevolmente Giuseppe devi essere più corretto io vorrei anche una volta alla settimana da te a condizione che tu non mi faccia offendere io capisco di venire lì non pretendo applausi ci mancherebbe altro però non devi far chiamare i tuoi amici perché l'ultima volta nessuno dei miei amici aveva avvertito anch'io la mia craccia e invece tu hai fatto chiamare tu 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 Giuseppe Cruciani in maniera subito là con inganno hai fatto partecipare quelli che mi odiano e non è corretto eh caro Giuseppe caro Peppuccio caro Peppino caro Pino io ti voglio ancora bene però le regole del gioco devono essere diverse correttezza rispetto delle persone ok io spero che il messaggio giunga Giuseppe Cruciani vengo ogni settimana però devi far intervenire tutte le persone non le devi scegliere tutte quei quattro scostumati che hanno partecipato te li devi tenere per te e non scelti a tavolino prima della trasmissione per offendermi comunque a prescindere senza alcun rancore con immutata stima e amicizia ciao Giuseppe ed è sempre ora di e ricordatevi che è ora di finiamola 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 ciao ragazzi della Zanzara vi vado bene ciao vuoi di me e l'ultimo sarai per me quindi noi quest'oggi ci siamo riuniti come abbiamo fatto l'anno scorso per ricordare Maurone siamo stati al cimitero abbiamo portato una piattina e poi il buon Gabrielli ha trovato questo ristorante le terrazze del Po qui bisogna mangiare i piatti tradizionali bene quindi io mi auguro di ripetere questa esperienza fin quando vivrò perché diciamolo francamente al di là dello spessore al di là della critica che si può rivolgere a Maurone ma era una brava persona una persona onesta una persona amica con cui era piacevole scambiare quattro chiacchiere e il mio rammarico lo confesso è stato quello di non essere riuscito a portarlo a primo fritto erano febbrili i contatti ultimamente con Mauro per farlo venire poi si è ammalato con il maledetto Covid e ce l'ha portato via comunque noi rimane il ricordo di non essere riuscito di non essere riuscito Grazie ragazzi, grazie Enzo, e sì, sono sempre il numero uno, anche se da due anni non ci sono più, siamo sempre al top. Grazie a tutti.